Qualche secondo presidente e ci siamo. Signor presidente, da concilio comunico che stiamo indietro a streaming. Perfetto, allora un saluto a tutti, buongiorno, oggi giovedì 26 novembre, Consiglio Comunale, do la parola al segretario generale Mordacci per fare la chiamata delle presenze. Grazie. Avvocato Mordacci per gentilezza. Mi sente avvocato? Mi sa che ha messo in silenzio il suo microfono. Per cortesia Mordacci, se fa l'appello è qualcosa gradita, grazie. Perfetto, può fare l'appello, grazie. Sì, grazie presidente. Amore Gabriele. Auletta Francesco. Auletta Francesco. Azzara Antonino. Presente. Barbuti Brunella. Barbuti Brunella. Vedo Auletta Francesco, è presente? Presente, non mi sentite? Ecco, la sentiamo adesso. Presente, mi sentite ora? Sì. Ora sì, prima no. Barbuti Brunella. Bargania Lestani. Presente. Presente. Sì. Barsotti Laura. Basta Vladimiro. Basta Vladimiro. Biondi Marco. Presente. Semi Riccardo. Presente. Cammellini Annalisa. Presente. Coglietti Paolo. Colecchia Giuseppe. Presente. Conti Michele. Presente. Conversano Alberto. Presente. Ligando Benedetta. Dini Emanuela. Dini. Gambini Giulia. Presente. Gennaio Alessandro. Presente. Aurora Manuel. Presente. Lazzeri Marcello. Lazzeri, la vedo. Presente. Perfetto. Mancini Virginia. Presente. Mannocci Gino. Mannocci. Merini Maurizio. Presente. Nicolai Francesco. Presente. Pasqualino Giovanni. Presente. Picchi Olivia. Presente. Oli De Monica. Presente. Punzo Maria. Presente. Scogna Miglio Maria Antonietta. Scogna Miglio. Perfoglia Andrea. Presente. Tolaini Alessandro. Trapani Matteo. Peronese Antonio. Vedo Amore Gabriele. Giusto? Sì, anch'io Scogna Miglio ci sono. Presente, presente. Presente anch'io, mi scusi. Non mi... Mi sentite? Sì, ora la sentiamo, amore. Sì, sì. Anche me mi ha visto? Sì, sì, Scogna Miglio. Bene, grazie. Ventiquattro, presidente. Allora, ventiquattro presente, seduta valida. Per quanto riguarda l'assessore, dovrebbero essere tutti presenti, a parte Gianna Gambaccini, che ci sarà, ma arriverà in ritardo verso le sedici e trenta. Causa impegni istituzionali. Tra i consiglieri, assenti giustificati, Barbuti Brunella si collegherà alle quindici e trenta. Di Galdo Benedetta si collegherà alle quindici e quarantacinque. Dini Emanuela, assente per motivi di salute. Punzo Maria, lascerà il consiglio alle diciotto per impegni personali. Don Laini e Alessandro si collegherà alle quindici e trenta per impegni di lavoro e lascerà il consiglio alle diciassette alle diciotto, sempre causa impegni di lavoro. Trapani Matteo, assente per motivi di lavoro. Delega investe di capogruppo la consigliera Maria Antunetta Scogna Miglio, che oggi pomeriggio, intorno alle diciassette e quattro e cinque, lascerà il collegamento del consiglio per partecipare alla conferenza delle donne democratiche di Pisa per l'iniziativa della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, che avrà inizio alle ore diciotto. Invece il capogruppo Cognetti Paolo arriverà in ritardo. Queste sono le comunicazioni. Adesso, se inizia il consiglio, se ci sono delle comunicazioni, ma non ce ne sono nessuna, mi hanno avvertito, per cui si passa alla question time. Presidente, il ricorso al consiglio, prego, chi c'è? Giuseppe Colecchia. Prego, prego. Soltanto per avvertire che il consigliere Mannoci sta provando a collegarsi, ma ha bisogno di supporto perché non riesce a collegarsi. Perfetto, la ringrazio. Allora a questo punto... No, mi sono collegato. Grazie, Giuseppe. Eccoci, eccoci. Buongiorno, avvocato. Bene arrivato. Riprendo il consiglio. A questo punto abbiamo la question time. Il ricorso al consiglio di Stato da parte del comune di Pisa in merito a decisioni di età sul luogo di culto della comunità islamica a Porta Lucca, presentata dal consigliere Auletta, risponderà il sindaco. Prego, consigliere capogruppo Auletta di Ditti in Comune, mia facoltà. Sì, grazie, Presidente. Ritorniamo su una questione su cui abbiamo a lungo dibattuto, anche perché poi negli ultimi giorni è ritornato anche all'attenzione della stampa pubblica, perché da quello che si legge la comunità islamica avrebbe presentato il progetto con le modifiche richieste dalla sovrintendenza. Però proprio per questa ragione volevamo un aggiornamento e volevamo capire che cosa sta accadendo rispetto alle azioni che ha intrapreso il comune. Perché il comune di Pisa, diciamo, nonostante la sentenza del Tar, a mio avviso assolutamente in maniera inequivocabile, abbia spiegato perché siano da annullare gli atti della variante urbanistica inerente Portallucca, per quanto concerne l'area dove dovrebbe sorge la moschea, ha deciso comunque di ricorrere al Consiglio di Stato. A questo punto noi ci interessa capire, sindaco, qual è l'iter e qual è la situazione. Cioè, se il Consiglio di Stato si è espresso per il ricorso che è stato presentato all'amministrazione comunale, oppure non si è espresso rispetto a questo ricorso. E come si è espresso? Quindi restituire alla città su un tema su cui c'è una grandissima attenzione, una grandissima sensibilità e che è stato oggetto di un dibattito pubblico, capire qual è lo stato dell'arte e in particolare cosa ha e se il Consiglio di Stato ha dato un pronunciamento su il ricorso fatto dal comune di Pisa. Ho visto l'atto con cui il comune ha dato un incarico esterno per presentare la memoria al Consiglio di Stato, quindi vorrei capire se questa memoria poi è stata presentata e con quale esito. ringrazio Auletta e quindi do la parola al Sindaco per la risposta. Grazie. Mi sentite? Prego. Si la sentiamo o può parlare? Grazie. Allora, dunque, ringrazio. Grazie Presidente. Il Consigliere Auletta chiede con questa question time nel ricorso al Consiglio di Stato da parte del Comune di Pisa in merito alla decisione del TAR sul luogo di curto della Comunità Islamica a Porta. Allora, rimesso che in data 18-6-2020 la sottraintendenza Libac impugnava la sentenza 663-2020 presa l'1-6-2020 dal Tribunale Amministratore regionale per la Toscana. La sovraintendenza successivamente, come da nota del 20 ottobre, decideva di dare pareri favorevoli con prescrizione all'edificazione della moschea per cui si è causa, che il Comune, svolto ogni valutazione di sua competenza, rilasciava la formalizzazione copaesaggistica. Tanto premesso, il Ministero dei Beni Culturali, la sovraintendenza archeologica delle arti e pesagini del Comune di Pisa e di Livorno, come in epigrafi rappresentati di Pisa, rinunciano all'atto dell'appello proposto e chiedono l'integrale compensazione delle spese. Chiaramente a questo punto viene meno il motivo del contendere della questione e il TAR trasmette in data 13-11, si trasmette in allegato l'atto di rinuncia ricordante, inerente ricorso del Consiglio di Stato 48-4-2-2020, Khalil contro sovraintendenza, al quale si era anche collegato il conto. Grazie al sindaco e do la parola al presentatore per la replica. Quindi auletta ne ha facoltà. Prego, consigliere capogruppo diritti in comune. Io credo che diciamo al dià poi della maniera burocratica in cui l'ha detto il sindaco, la sconfitta politica è totale e incondizionata anche rispetto alla scelta assolutamente non fondata da parte del Comune di ricorrere al Consiglio di Stato, perché il dato politico è che il Ministero ha ritirato il ricorso. Questo è il dato politico. Quindi dal punto di vista giudiziario, nonostante i tanti proclami che ci sono stati, la valutazione del ricorso al Consiglio di Stato da parte dell'amministrazione comunale, è stata ulteriormente temeraria, così come è stata temeraria tutta la politica di tentare di impedire la realizzazione di questo luogo di culto. Io credo che questo di oggi sia la parola fine, fine, dia la parola fine al comportamento della giunta e della maggioranza per impedire la realizzazione di un luogo di culto. Io trovo anche su questo incredibile che su una cosa che riguarda tutta quanta la città non se ne dia comunicazione, perché il dato politico è che quel ricorso e quei soldi pubblici spesi dal Comune di Pisa danno un incarico esterno sono stati dei soldi ulteriormente sprecati per fare una propaganda da parte di questa amministrazione. Da oggi emerge che quindi dal punto di vista giudiziario la partita è finita, il Tar ha sanzionato in maniera evidente il comportamento di questa amministrazione e il Ministero ha anche ritirato quel ricorso su cui impudentemente l'amministrazione si era collegata non avendo neanche la forza e il coraggio di provare ad andare autonomamente in Consiglio di Stato. Io credo che questa sia una pagina importante per la nostra città che rimetta al centro il rispetto dei diritti. La ringrazio. Per quanto riguarda Veronese si collegherà alle 14.30 quindi a questo punto passiamo alle proposte. Le proposte c'era una richiesta, una mozione in ordine del Consigliere Maria Scognamiglio quindi se la vuol fare, se è presente che lei Maria Scognamiglio sostituisce come il capogruppo Trapani aveva chiesto una mozione di ordine mi sembra, giusto? Sì, grazie Presidente volevo fare una proposta alla Giunta lei Presidente al Consiglio Comunale da parte delle minoranze di poter unire le due proposte per poter fare una discussione unica in modo tale anche da mettere insieme i tempi e poter permettere una discussione più fluida e anche a chi lavora insomma due minuti e mezzo è più complicato invece così possiamo fare ecco questo metodo insomma volevo proporre questo. Grazie. Allora faccio presente prima di dare la parola uno a favore e uno contro e poi alla votazione di questa mozione d'ordine che se si accetta le proposte verranno per quanto riguarda la presentazione i due presentatori faranno divisa poi si unirà il dibattito e poi alla fine ci sarà la dichiarazione di voto prima per una poi con la votazione poi dichiarazione dell'altra con la votazione cioè praticamente si unisce soltanto il dibattito quale dibattito? Verrà raddoppiato i tempi che altrimenti sarebbero dimezzati per cui ritornano i tempi come da regolamento questo è quanto ora do la parola uno a favore e uno contro per questa mozione d'ordine se vi prenotate per gentilezza vedo che Auletta Francesco si è prenotato consigliere il capogruppo dei diritti in comune prego e a facoltà Sì grazie Presidente a me sembra una proposta di buonsenso è quello che facciamo sempre in occasione sia della discussione di bilancio sia della variazione di bilancio tra l'altro con la riduzione dei tempi anche intervenire su una delibera si avrebbero per i consiglieri comunali tempi talmente stretti e su una materia così importante cercare di articolare un ragionamento che vada oltre i 3-4 minuti credo che sia assolutamente una proposta di buonsenso che tra l'altro è quello che facciamo abitualmente in tutte le occasioni in cui si va verso la variazione di bilancio e poi tra l'altro anche nell'illustrazione necessita come dire di una congiunzione fra dove ci sono le risorse e come si utilizzano quindi il voto è sicuramente favorevole anche perché in tutte le altre occasioni abbiamo fatto sempre così Allora se non ci sono dichiarazioni contro questa proposta quella a favore è già stata espressa per cui si passa direttamente alla votazione se per cortesia il Pantano può aprire la votazione si vota la richiesta di unificare le due proposte per quanto riguarda il dibattito se si può aprire la votazione grazie votazione aperta io non vedo però il sullo schermo la fase di votazione per cui non posso capire se chi è che vota o meno grazie molto gentile grazie 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 Presidente Presidente mi sente? gli scrutatori la sento chiaro gli scrutatori non si è dimenticato non stavo dicendo ma era chiuso il microfono ah ok mi scusi allora Olivia Picchi eh Colecchia Giuseppe e Maria Punzo allora a questo punto Bargania Bargania ho visto che ha fatto la presenza per cortesia se lo potete raggiungere per telefono e poi non vedo scusa Nerini non volendo partecipare al voto quale caspita di pippo lo devo pigiare che ce n'ho tre soli eh non voto quello di destra quello di destra mi dà mi dà il non voto quello bianco no no non veniamo fuori ci sono tre pippoli uno è positivo e allora scusi scusate e quell'arte giallo e viene eh il astenuto e non voglio essere astenuto non voglio partecipare al voto come si fa va bene allora siccome io ce l'ho quattro invece Pantano per cortesia può proteggere però non importa che si arrabbi tanto no no ma va bene è il suo modo di fare d'accordo ho capito per cortesia potete correggere il quadro della votazione del consigliere Capito Nerini grazie in questo momento non possiamo va bene allora se non può annulla annullate l'astenuto e dichiariamo che lui non partecipa che Nerini consigliere Capogruppo Nerini non partecipa al voto va bene fate questa gentilezza ok quindi il gli scrutatori hanno sentito quindi che Nerini quella è erroneo quello che viene scritto sulla sullo schermo poi ci abbiamo Bargagna che praticamente ha dato la presenza lo potete contattare per favore Matteo o Pantano Bargagna Alessandro facciamo subito Presidente mi comunica che ha problemi alla votazione Bargagna infatti per oggi bisognerebbe che Perlomeno esprimesse il voto se può dimostrarci farci vedere in modo tale se poi dipende dalla dalla sua dalla sua collegamento allora questo pento come sapete bene dal regolamento si passa oltre se mi fate sapere se risponde anche se non risponde al telefono Bargagna si passa oltre come da regolamento state chiamando Bargagna per gentilezza si signor Presidente sta facendo questo risponde non può rispondere perché si è bloccato l'iPad Presidente mi sta scrivendo in questo momento sta scrivendo sulla chat al telefono deve rispondere non sulla chat non sulla tablet deve rispondere al telefono grazie comunque Giuseppe lei è sempre gentile puntuale per farmi presente di difficoltà di collegamenti molto cortese allora Bargagna risponde al telefono se non risponde andiamo oltre il detto regia Matteo hai provato a chiamare Bargagna Presidente ci sta parlando ora Matteo ho capito va bene allora cerca di aiutarmi si si sta parlando allora aspettiamo un attimo ditemi quando è finito se non riuscite andiamo avanti se la regia riesce a togliere Nerini e farlo diventare bianco se è possibile annullare la sua attenzione perché lui non vuol partecipare al voto mi fate una gentilezza sì vediamo se riusciamo Presidente grazie signor Presidente regia Pisa le comunico che Bargagna ha problemi con la macchina tablet proprio quindi non ha né zoom videoconferenza né concilium attualmente si sta riconnettendo quella votazione non riesce ad osservare va bene e quindi niente si passa oltre per cui parlo con gli scrutatori avete evidenziato che Bargagna non può quindi non può votare e che Nerini che si è dichiarato astenuto ma dichiara invece che non partecipa al voto per cui a questo punto mi fate vedere per gentilezza il risultato della votazione gradirei che i scrutatori nel frattempo mi dassero conferma di quello che ho detto quindi Olivia Picchi Maria Puzzo sì d'accordo sì sì presidente anche Colecchia confermo confermo conferma grazie allora favorevoli 21 contrari 0 astenuti 1 non voto non è spesso 3 assenti 8 approvato la mozione d'ordine di unire praticamente la dibattito delle due proposte a questo punto passiamo alla prima proposta DUP 2020-2022 modifiche del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 seconda preazione integrazione al programma triennale dell'acquisto dei beni e servizi sarà l'immediata esecuzione illustra l'assessore Latropa è presente anche i dirigenti Guerrazzi e Daule se dovesse essere richiesta la loro partecipazione al dibattito per cui do la parola se si prenota l'assessore io gli do facoltà di parlare grazie grazie assessore Atrofa bisognerebbe che si prenotasse per chiedere la parola se volete intervenire qualcuno per cortesia Matteo della Longa può telefonare all'assessore Atrofa grazie prego visto che si è prenotato per cui gli do la parola grazie e gli do anche il benvenuto assessore grazie presidente scusi ma c'avevo un problema col collegamento allora la delibera che andiamo ad approvare è come sapete il DUP 2020-2022 particolarmente le modifiche del programma triennale lavori pubblici 2022 in particolar modo la seconda variazione come ormai ben sapete il DUP consta di due parti la sezione strategica e la sezione operativa la quale sezione operativa va di pari passo col bilancio di previsione che ne segue quindi le modifiche per quanto attiene poi la sezione operativa a sua volta si divide in due parti la seconda parte è quella inerente la programmazione in materia di lavori pubblici e quindi il piano triennale dei lavori pubblici e i suoi aggiornamenti annuali oggi quindi andiamo ad approvare la parte in variazione riguardante il piano triennale dei lavori pubblici come sempre la variazione è stata se resa necessaria a seguito di motivazioni relativamente relative al bilancio e a seguito anche di indirizzi politici io andrò a dividere l'illustrazione come faccio ogni volta in quelli che sono in una prima parte i progetti che vengono modificati o per il loro importo o per l'annualità di competenza e invece nella seconda parte andrò a illustrare quelli che sono degli interventi che vengono messi per la prima volta all'interno del programma e quindi sono dei veri e propri nuovi interventi a tutti gli effetti vado procedo in ordine intervento 52 relativo al palazzo pretorio in particolar modo al restauro delle facciate e alla manutenzione della copertura l'intervento di importo di 750 mila euro viene traslato di un'annualità pertanto la sua realizzazione viene prevista nel 2021 in luogo dell'attuale previsione nel 2020 tale scelta è stata come ho detto in premessa e non lo motiverò ogni volta dettata anche da esigenza di poter finanziare per primi quei progetti che hanno dei finanziamenti esterni mi riferisco a binario 14 e agli overbooking del PU dei passi intervento 76 uno dei interventi che riguardano appunto binario 14 progetto periferia in particolar modo quello relativo alla sicurezza idraulica del quartiere Pissasuglio quindi dei quartieri di San Marco e San Giusto questo intervento viene aumentato di un importo di 81.255,66 centesimi quindi portato a un nuovo importo di 2.267.255,66 l'importo in aumento è previsto da una convenzione che dobbiamo stipulare con RFI quindi tutte quelle formalità finali quando si sta per andare in gara in particolar modo la stipula e le relative cifre richieste da Ferrovie dello Stato per quanto riguarda la stipula della convenzione intervento 99 sono in ordine diciamo di numerazione gli interventi piani viabili relativamente all'adeguamento di barriere architettoniche come già indicato nella precedente variazione all'elenco annuale 2020 relativa all'avventimento delle barriere architettoniche era stato aumentato di 100.000 euro portato a 200 al fine di poter mantenere le previsioni iniziali di interventi l'importo di 100.000 oggetto di variazione corrispondeva infatti a una quota parte dell'impegno relativo al progetto i passi del PU innovazione urbana PU PISA quattro passi nel futuro finanziato all'ottanta per cento con i fondi POR FESL quindi sono tutti interventi all'ottanta per cento finanziati dalla regione con i fondi POR venti per cento finanziati dal comune di PISA tale operazione accettata dalla regione toscana quindi questa è la notizia positiva faceva però constava nel quadro economico anche della voce imprevisti che ammontava 15.185 euro bene deve essere diminuito della quota corrispondente dell'ottanta per cento di questa cifra ovvero di 12.148 perché la regione toscana ha accettato l'interno intervento ma non prevede mai di finanziare la quota imprevisti come vedremo anche in altre voci di questa illustrazione poi si passa all'intervento centodieci la famosa piazza Viviani a Maria di Pisa dell'importo di 800.000 euro che viene traslato da un'annualità dal 2020 al 2021 peraltro in pieno cronoprogramma di quello che abbiamo previsto che prevede lo faccio per ricordarvelo che il termine dei lavori della prossima piazza che sta per partire avvenga a giugno del 2021 e quel che è piazza Gorgona e quella successiva che invece è piazza Viviani avvenga nella annualità successiva quindi inizi nel 2021 e termini nel 2022 poi c'è l'intervento 119 APES piano periferie quindi è uno degli interventi sempre all'interno di binario 14 è quello relativamente alla realizzazione dei 24 alloggi in via da Morrona è necessario anticipare l'intervento che ha un importo di 4 milioni 122 mila 844 euro che era previsto inizialmente nell'annualità annualità 2021 quindi questo intervento viene anticipato dal 2021 al 2020 e andrà in gara insieme agli altri che sono stati anche oggetto di discussione in commissione prima del 30 dicembre 2020 quindi si tratta di un aumento la rimodulazione si è resa necessaria per quanto riguarda l'importo a seguito di verifiche effettuate come sapete bene è la famosa partita del GSE dove ci sono mancanti all'appello i 20 milioni di euro contestualmente viene prevista l'entrata di 836.420 euro corrispondente alla quota di finanziamento per l'intervento in oggetto proveniente dal bando periferie e anche la quota relativa al conto termico quella vera verificata di 431.537 euro corrispondente appunto al contributo effettivo che potremo ottenere dal conto termico c'è poi l'intervento 112 visamo no di viabilità sicurezza stradare rotatoria montacchiello è un intervento molto sentito e molto richiesto da tutto quel comparto che ruota intorno alla nuova zona artigianale industriale ma anche di servizi e quindi direzionale di montacchiello che come sapete ad oggi trova all'incrocio un semaforo che crea delle file molto importanti negli orari di ufficio quando le persone vanno a lavorare a montacchiello quindi è prevista la realizzazione di una rotatoria che consta di un intervento di 1.180.000 euro e quindi l'intervento che precedentemente era di un importo inferiore deve essere aumentato di 580.000 euro da notare come nota a margine che abbiamo partecipato attualmente a un bando regionale per la sicurezza stradale dove era previsto un finanziamento massimo di 120.000 euro ed abbiamo appunto richiesto un cofinanziamento di 120.000 euro che abbiamo ovviamente messo come posta di relativa entrata se ci aggiudicheremo quel bando intervento 191 progetto periferie quindi sempre binario 14 quello riguardante la riqualificazione dei locali dell'ex dopolavoro ferroviario in questo caso è stato necessario al fine di una progettazione esecutiva terminata quindi non da molto aumentare l'importo di 141.049,61 di aumentare scusate l'accertamento relativo a questo intervento di euro 141.049,61 in considerazione del fatto che la proposta di rimodulazione accettata dalla presidenza del consiglio dei ministri con nota del 18 giugno 2020 prevede l'intero importo dell'intervento a carico del bando periferie in sostanza come sapete in virtù del fatto che sono venuti a mancare 20 milioni abbiamo proceduto con una rimodulazione questa riguardava sia alcuni importi sia alcune tempistiche di realizzazione dei lavori in questo intervento la rimodulazione ha dato atto al fatto che l'intera diciamo quota spesa di questo intervento sarà a carico del progetto del periferio per questo abbiamo dovuto inserire questa variazione di un accertamento in più di 141.000 euro da parte della presidenza del consiglio dei ministri poi c'è l'intervento 207 relativo alla ciclopista dell'Arno nel tratto di Riglione e alla realizzazione del ponte ciclopedonale di Cisanello è un intervento per un totale di 3 milioni e mezzo nel quale come già indicato nella variazione relativa alla ciclopista dell'area la realizzazione del ponte era prevista nell'annualità 2019 quindi viene reintrodotta perché invece lo facciamo ora e quindi correttamente andava modificato il piano annuale è stato quindi reintrodotto nell'annualità corrente il progetto e la realizzazione quindi anche la messa a bando di gara di questa opera l'intervento previsto inizialmente era di un importo di 2.835.818 finanziato per 1.157.000 con fondi POR il progetto esecutivo ha invece reso evidente l'esigenza di stanziare un importo maggiore e pertanto viene introdotta la variazione in aumento di 664.182 euro portandolo così al valore che ho già menzionato in totale di 3 milioni e mezzo di euro quindi ricapitolo per fare chiarezza tratto di pista ciclabile nel tratto di Riglione realizzazione del ponte ciclo pedonale da Riglione a Cisanello con possibilità di accesso anche ai veicoli della pubblica assistenza dell'associazione di volontariato quindi alle ambulanze in modo da poter raggiungere dall'altra parte dell'arno direttamente l'ospedale aumento dell'intervento a 3 milioni e mezzo totali con l'obiettivo di appunto andare in gara nei prossimi mesi intervento 208 riqualificazione e nuova realizzazione repubbliche con funzione sociale è un altro intervento sempre relativo al più dei passi quattro passi nel futuro e si ha lo stesso identico meccanismo relativo agli imprevisti che ho descritto nell'intervento precedente quindi la Toscana la regione Toscana non finanza gli imprevisti per cui l'ottanta per cento degli imprevisti che sono in questo caso 21.590 euro l'ottanta per cento che quindi è pari a 17.272 fa sì che debba essere diminuito l'accertamento di questa cifra terminati gli interventi che avevano delle variazioni o ripeto nel cronoprogramma o nei loro importi e quindi passo a quelli che sono dei veri e propri nuovi interventi inteso che non erano mai stati presenti nel precedente stessura del piano triennale delle opere il primo è l'intervento 218 completamento giardino della rimembranza è stato frutto anche di una recente discussione in commissione dove penso che sia stata la soddisfazione di tutti Assessore volevo chiedere una gentilezza siccome sono passati tre minuti e mezzo oltre il tempo che aveva quanto tempo ha ancora per poter concludere io sarei quattro interventi se me lo concedete ci sono gli ultimi quattro interventi sì prego prego grazie grazie presidente grazie a tutto il consiglio comunale quindi dicevo completamente giardino di rimembranza nuovi 80 mila euro per gli aspetti legati all'accessibilità delle utenze deboli poi intervento 219 spianamento spiagge di ghiaia 50 mila euro per la nota vicenda che dobbiamo fare annualmente ci mettiamo in capo noi quest'anno per la schianatura delle spiagge di ghiaia per non aver problemi intervento 220 realizzazione copertura palestra San Marco 130 mila euro perché la palestra ha grossi problemi di infiltrazioni come aveva quella di Riglione che abbiamo fatto nuova di Zecca e quindi andiamo a rifare copertura della palestra in San Marco 130 mila euro penultimo intervento 221 accordo quadro per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria in pianti sportivi è la classica cifra di 100 mila euro che si mettono per accantonata per impianti sportivi vari per tutte quelle che sono manutenzioni straordinarie infine intervento 222 lavori di adeguamento palazzo Telecom viene introdotto un importe di 60 mila 75 euro per effettuare gli adeguamenti necessari al fine di rendere il palazzo fruibile da parte degli uffici in cui è destinato ovvero quelli dell'APES e l'ufficio delle reazioni col pubblico termino con la frase di rito per essere chiaro nelle eventuali domande ripeto sempre questa sono soltanto le modifiche al piano annuale al piano triennale tutto quello che non è stato toccato da queste modifiche non è che cancellato ma continua a essere perfettamente presente nel piano grazie mi scuso per aver sporato no grazie a lei assessore volevo far presente che anche il capogruppo cognetti è presente però ha dei problemi con il download perché anch'io quando parla praticamente mi scompaiono i tempi devo tornare indietro ripare il download e mi riscompare se la licia può contattare anche il consigliere cognetti e può aggiustare questo problema perché francamente seguire i tempi mi scompaio continuamente mi trovo un pochino a rispettare allora come d'accordo ora si uniscono le due proposte per cui do immediatamente la parola bilancio di previsione 2020-2022 variazioni immediata esecuzione ci sarà e lo illustra il sindaco Cere Conti c'è presente il dirigente Sassetti se ci fosse durante il dibattito la necessità potrà intervenire per cui se si prenota il sindaco Cere Conti io gli do la parola grazie prego ne ha facoltà apre il microfono e procede grazie grazie sì allora bilancio previsione 2020-2022 come sapete si riparte dalla premessa di aver approvato il documento unico di programmazione 2020-2022 lo scorso anno e vengono riportate tutte quelle che sono state le deliberazioni successive a quelle 21 dicembre 2019 che nel corso del 2020 si sono susseguite e sono diverse che ritrovate nelle voce della documentazione allegata purtroppo in virtù del fatto che tante anche variazioni sono state fatte in funzione dell'emergenza covid e anche di quelle che sono state le entrate straordinarie dovute a ristorni nazionali o a approvazioni da parte dell'esecutivo prima della giunta e poi del consiglio la parte sicuramente più importante sta nel fatto che noi attualmente a questo abbiamo diciamo come disponibilità si ricorda che il bilancio di previsione 2020 aveva 21 milioni e 450 mila euro di bilancio e avevamo un avanzo accantonato di 930 mila euro un avanzo vincolato di 4 milioni e 2 un avanzo destinato agli investimenti di 980 mila euro poi nel corso del tempo come veniva a ricordare è un avanzo libero che era pari alla fine dello scorso anno pari a circa 15 milioni di euro che è stato poi destinato per 11 milioni e 100 mila alla parte corrente di cui 10 milioni e 759 per il equilibrio del bilancio corrente dell'emergenza covid e 357 per pesi correnti a carattere non permanente 4 milioni e 153 per i partiti di investimenti poi ci sono state tutta una serie di modifiche dovute al decreto legislativo 34 del maggio del 2020 dove abbiamo appunto visto una serie di mancati introiti da parte dell'amministrazione e anche ristorni da parte del governo centrale che hanno visto sicuramente una serie di dati in entrata in uscita e hanno determinato sostanzialmente sia per quanto riguarda si possono qui anche riportare abbiamo avuto circa una una bilancio una sorta di minore entrate per quanto riguarda gli aspetti legati all'imposta di soggiorno all'esenzione dei suoi pubblici alla seconda rata alla rata dell'IMU di alcuni tipi di fabbricati strumentali quelli afferenti immobili afferenti al turismo e sul quale poi ci sono state tutta una serie di anche ristorni nazionali alla fine però di tutti questi aspetti lo scorso settembre è necessario della DAT secondo me poi c'è anche ragionare capo la parte più importante sono che le entrate tributarie del titolo 1 mancano sostanzialmente 2 milioni e mezzo 2 milioni e 600 2 milioni e 594 i trasferimenti correnti del titolo 2 sono circa 9 milioni di euro 9 milioni e 0 18 e il titolo 3 dell'entrata ex tributaria sono 542 mila euro in merito al titolo 1 deriva da minori previsioni di entrate dovute al protrasse dell'emergenza sanitaria in particolar modo si tratta dell'IMU quello che ricordavo prima le fabbricate ad uso turistico dell'impulsa di soggiorno che è stata completamente annullata dell'Atari che è stata ridotta per i giorni di lockdown è stata spesata con risorse comunali per aiutare l'Atari di carattere commerciale e per la Casi e poi ci sono anche delle minore entrate stimate a titolo di addizionale interfe di circa 522 mila euro e questo vengono dai dipendenti che sostanzialmente poi sono finiti in cassa integrazione e quindi hanno visto crollare il proprio reddito e quindi conseguentemente anche lui per ferdi diminuito in entrata dopodiché abbiamo visto che abbiamo però avuto alcune sul titolo 2 abbiamo avuto maggiori trasferimenti sul titolo 3 abbiamo avuto un contrapposto di maggiori e minore entrate tra le quali la cosa perché ha determinato sicuramente una minore una minore entrata a questo punto ecco io credo che poi questo si aggancia a quello che era il anzi ringrazio la minoranza la consigliera scogna meglio che ha chiesto di discutere insieme a quello che è il documento precedentemente illustrato del progresso dalla parte dell'assessore della trofa in merito alla parte degli investimenti comunque il dato finale tenendo conto di tutti gli effetti derivanti risulta possibile ad oggi mandare circa 4 milioni e 8 a investimenti ringrazio a questo punto il sindaco per la sua esposizione immagino che abbia terminato per cui a questo punto apro il dibattito faccio presente che quindi i tempi saranno rispettati quindi dal regolamento che sarebbe il doppio di quelli di Padre Mervo per cui do la parola se qualcuno si prenota ma vedo che si è prenotata le scusi perché c'ho dei problemi come ho detto prima con tablet devo continuamente uscire e rientrare nel frattempo faccio presente che anche il capogruppo veronese è presente e do la parola adesso alla consegniera Pitti Olivia partito democratico per 10 secondi per 10 minuti la possibilità di discorre la sua parola prego grazie grazie presidente io sono felice oggi di discutere questa variazione di bilancio perché ci permette di fare un'operazione verità su quello che è stato l'atteggiamento del comune durante la pandemia e su quanto il comune ha in qualche modo aiutato i pisani nel periodo di difficoltà perché se leggete la relazione al bilancio anche se il sindaco ha cercato nel riportare i dati di nascondere alcune sottolineature importanti ma se leggete la relazione al bilancio viene fuori che dallo stato fra le entrate tributarie e destratributarie abbiamo un trasferimento in aumento di oltre 9 milioni e mezzo e a questi si aggiungono sempre dallo stato 534 mila euro nel settore infanzia 06 e formativo e altri 70 mila euro da parte della regione toscana con un saldo alla fine più che positivo a fronte di 2 milioni e mezzo in meno di entrate e devo dire che tutto questo rende surreale la discussione che abbiamo vissuto in questi mesi nel dibattito fra noi quando da una parte noi chiedevamo più aiuti e venivamo sempre imputati o meglio il governo nazionale che in qualche modo qui insomma noi rappresentiamo politicamente ovviamente veniva imputato di essere l'assista e di non fare nulla io ricordo che una di queste variazioni è stata è stata data anche dalla cancellazione da parte del governo e non del comune della seconda rata dell'imu come tutte le attività di suolo pubblico Tari e tutto ciò che il comune ha concesso e sul giornale sbandierato come la grande operazione di 15 milioni di euro a favore dei pisani è stato ristorato in più dallo Stato e c'è un dato vero in tutto in tutto questo al di là di come dire cercare di attribuirsi i meriti di chi aiuta di più cittadini perché poi alla fine io sono contenta quando i cittadini vengono aiutati ma c'è una scelta politica di fondo di privilegiare certe attività e certi interventi del comune cercando poi con gli aiuti di governo regione e delle altre istituzioni a prescindere dal colore politico di vendere gli aiuti invece in sede pandemia e questi riguardano tutti perché il ristoro è avvenuto anche su quello che sono i buoni spesa sì una parte ha integrato il comune ma la stragrande maggioranza dei finanziamenti sono arrivati dal governo e quindi riguarda gli interventi emergenziali sia da un punto di vista sociale e sanitario o meglio socio-sanitario sia da un punto di vista per quanto riguarda i tributi locali quindi la cosa la Tari e l'Imu oggi assistiamo a un'uscita da parte della regione anzi di un paio di giorni fa di ulteriori due milioni e mezzo sulla scuola al governo e vedremo cosa alla fine si comporrà si parla di un ulteriore decreto ristoro c'è una discussione in corso a cui il comune di Pisa sceglie di non partecipare il punto è questo e la cosa grave è che in tutta questa abbondanza cioè alla fine scordiamocelo non al passato è andata così ma in tutta questa abbondanza di risorse voi che avete già consumato il tesoretto lasciato dalla giunta filippeschi cosa scegliete di fare di destinare alti 3 milioni 892 mila e la trofa l'ha elencati tutti alla spesa di investimenti ora a parte il fatto che chiunque ha fatto l'assessore chiunque ha avuto un ruolo qualunque nell'amministrazione pubblica sa benissimo che se c'è una cosa da fare per la tenuta del bilancio a medio lungo termine è non destinare la spesa corrente agli investimenti perché l'investimento è un fatto eccezionale e deve essere finanziato con le proprie risorse mentre in qualche modo la spesa corrente deve servire per i cittadini non è vietato è una regola di buona amministrazione contabile non è vietato non sto dicendo questo allora ma ammesso che si voglia far questo per effettuare i lavori voi di tutte questa abbondanza e tutte queste risorse a fronte di un secondo lockdown a fronte di richieste di poi si può discutere come farlo di cancellare la tari di dare aiuti alle attività ancora chiuse non mettete un euro di spesa corrente sui settori cultura e commercio che sono vessati da marzo fino ad oggi salvo una piccolissima riapertura il punto politico vero di tutta questa variazione è questo perché questo rende ancor più incomprensibile che non si voglia aggiungere nulla per ristorare i cittadini e le attività in difficoltà che siano famiglie o che siano imprese e rende ancor più assurda la discussione che abbiamo fatto quando due giorni fa quando si cercava di trovare un modo per attivare una discussione in quarta e cercare risorse per nuovi aiuti poi si può fare con le rate si può fare con fondi speciali si può fare in tanti modi basta averne la volontà che mi sembra evidente oggi voi certificate che non c'è non c'è e per onestà la città questo voi dovreste dirlo dovreste dirlo perché come ci si prende gli oneri bisogna prendersi agli onori scusate il visticcio di parole sarebbe corretto anche prendersi gli oneri delle scelte politiche che io posso non condividere ma è una vostra scelta rivendicatela davanti alla città di lasciare soli cittadini di imprese per fare in un momento di crisi ed emergenza gli investimenti che sono importanti nessuno ne discute sono anche quelli vanno nel benessere dei cittadini ma credo che in questo momento sarebbero stati più importanti altri tipi di interventi sulle imposte locali sul ristori agli affitti su in qualche modo aiutare chi ha perso il lavoro quindi sulla gestione della pandemia sui controlli ecco io non posso non in qualche modo non trovo la parola ma forse quella giusta è condannare una scelta politica di questo genere diceva bene la trofa questa è una scelta politica e ha ragione ma è una scelta che lascia a piedi le persone e le imprese in difficoltà io velocemente sul binario 14 poi sicuramente i consiglieri che fanno parte della commissione sono più in grado più di me di intervenire su questo tema ma vorrei ricordare la storia del binario 14 che arriva anche questo come altri i fondi che l'assessore ha citato dalla buona amministrazione della giunta Filippeschi e anzi alcuni forse anche da prima e vorrei anche ricordarvi che quando il governo giallo-verde ha tagliato i fondi al binario 14 e noi abbiamo presentato una mozione per chiedere alla giunta insieme a Lanci perché la stava promuovendo Lanci di aprire un'interlocuzione sul governo per il ripristino dei fondi voi avete votato contro avete votato contro perché quei soldi non servivano perché il progetto era sbagliato aveva preso pochi voti avete messo insieme una serie di giustificazioni se così si possono chiamare e avete votato contro mi fa piacere che invece il governo attuale le abbia rimessi anche in parte e che ora siano utilizzati per degli interventi che erano previsti certo il binario 14 era stato caratterizzato anche da una cosa importante che io ritengo importante che probabilmente anche questo per voi politicamente non è rilevante ma da una parte da un percorso partecipativo per l'individuazione di quelli che erano gli interventi cosa che questa giunta si è scordata completamente anche in questo anche in questo caso io concludo Presidente perché sono arrivata tutte le volte dico invece vedo gli ultimi 50 secondi e vado lunga io prendo atto che i Pisani Conte l'aiutati Conti un po' meno Vistizio di parole Va bene ringrazio Oliver Picchi do la parola adesso al consigliere del capogruppo della Lega Paolo Cognetti da facoltà per 15 minuti prego può parlare No per confutare quanto viene sostenuto dalla collega Picchi collega di politica e collega di lavoro perché la consigliera Picchi sa benissimo che il bilancio è un documento esatto per cui il sindaco Michele Conti non ha nascosto nulla perché nel bilancio puoi leggere effettivamente tutto quello che ci si propone di fare e tutti gli investimenti che ci sono quanto dice la Picchi in verità è in realtà il contrario cioè oltre a tessere le lodi del governo e qui siamo in consiglio comunale a Pisa ma non siamo a difendere davanti ai cittadini il governo giallo-rosso si vorrebbe che il sindaco Conti e la commissione quarta coprisse quello che deve fare un governo in stato d'emergenza con dei fondi destinati invece ai cittadini pisani quindi si vorrebbe che il sindaco Conti impiegasse le energie coprendo laddove il governo Conte al singolare non arriva e si ferma alle promesse quanto fa Raffaele Latrofa sugli investimenti invece è una scelta di responsabilità perché significa che al di là della pandemia al di là di aiutare i cittadini con quello che voi leggete nel bilancio senza ripetere c'è una commissione il presidente lo spiegherà meglio di me noi andiamo avanti con il nostro programma di governo e di investimento non si inceppa anzi e Raffaele Latrofa fa una scelta di barra dritta perché non storna e non usa la scusa pandemia per non risolvere i programmi del governo della città ma continua sul nostro progetto e programma là sulla città poi vi sono e sono in bilancio i vari aiuti che il comune stanzia i vari interventi che il comune stanzia ma il comune di Pisa non può supplire quello che il governo Conte non fa in maniera adeguata chiaro questa è la posizione della Lega noi teniamo nonostante la pandemia la barra dritto rispettando gli impegni con i cittadini pisani grazie grazie a lei consigliere Cognetti ora do la parola al consigliere capogruppo Nerini Maurizio fratelli d'Italia prego le a facoltà grazie ecco grazie presidente sì io sono rimasto un po' un po' sconbordo da quello che ha detto la la picchi anche perché per come l'ha detto perché il sindaco ci dice logicamente che sono mancati introiti e ristori del governo non invidio non invidio davvero lui il dirigente per riuscire a far quadrare i conti oggi e per poi farli quadrare dopo il problema sarà dopo perché ci mancano introiti possesso il giorno sono i pubblici i mutari tutto quello che vogliamo sono 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 cose che poi ci pioneranno sulla testa e dovrà risolverne lui lei non l'aiuta mica così sai il sindaco nasconde ma cosa stai dicendo cosa nasconde te fai operazione verità la tua operazione verità te lo dico dopo come va a finire la tua operazione discussione surreale sì certo che è surreale la fai te surreale il comune ma come fa cancellare l'IMU ma ce ne rendiamo conto non si può ma di questo si ragiona l'abbondanza di risorse ma dove vivi in Svizzera vivi te non vivi in Italia poi dice abbiamo consumato il tesoretto di Filippeschi ma l'errore è avere avuto il tesoretto perché pensavate di governare ancora altri anni è andata male chi ha serba ha serba il gatto diceva la mia nonna l'amministrazione di soldi si spendono la capacità di spesa si chiama si chiama efficienza quando ci sono i soldi si spendono sul binario 14 poi mi sa che che non hai studiato che bisogna che tutti arrivano a leggere le carte perché non abbiamo letto niente altro che processo partecipativo mancavano mancavano 20 milioni perché qualcuno ha sbagliato a fa conti non so se se l'ha sbagliato perché lo voleva sbagliare o perché non era in grado di farli questi conti ma mancavano 20 milioni e noi con 200 mila euro che abbiamo spostato sulle fognature si è cercato di di tappare qualche cosa che era una follia che fosse andata avanti così non c'erano c'erano i progetti preliminari e basta sono stati fatti i progetti definitivi e i progetti definitivi e quando siamo andati in gara ci siamo resi conto di questa cosa qui se il buono la profa e il nostro sindaco non andavano a Roma col cavolo che ci avevamo questi 20 milioni col cavolo che riuscivamo a portare avanti un'area nostra del genere gli errori errori di calcolo e basta i pisani poi cara mia non hanno votato Conte nessuno ha votato Conte ma Conte i pisani l'hanno votato i pisani vogliono che che amministri io lo ripeto non voglio essere non vorrei essere mai nei suoi panni il prossimo anno quando andremo a rifare il bilancio ma sarà veramente un problema dobbiamo aiutarlo tantissimo ma così non si aiuta così non si aiuta poi volevo dire anche qualche cosa su quanto riguarda la parte di la trofa i salti mortali salti mortali perché binario 14 l'ha rivortato come un carzino i 20 milioni non si inventano io non so se se ne rende conto ma anche sulla parte del piano periferico della parte dei passi sono infatti dei lavori incredibili di adeguamento di tutti i progetti che ci sono stati sulle piazze il fatto di avere le piazze a marina una piazza fatta una piazza in cantiere una piazza che è in progettazione ma stiamo scherzando voi realizziamo i nostri sogni sulle spiagge di ghiai la spiagge di ghiai ragazzi è una vita di a me e io ci ho fatto una battaglia incredibile è un progetto nato male e portato avanti peggio se il nostro buono da trofa ci mette 50 mila euro di una manutenzione ordinaria che va fatta non va confuso con quei troiai che sono stati fatti perché lì è stato fatto un macello non è stato nemmeno completato se ne sono sbattuti le scatole per poi scaricare tutto sul comune perché le persone poi vedevano il comune davanti a tutti le persone vedono il comune ecco perché poi sul discorso della strada abbiamo fatto benissimo a prendere la strada ma stiamo veramente scherzando io non lo so la spianatura delle spiagge di ghiaia ora sarà in capo al nostro si fa bene meno male abbiamo messo 50 mila euro io non sto nemmeno a guardare le altre cose ci sono un sacco di altre cose logicamente non sono cose che si fa in un attimo a farne la ciclopista di Lione con la realizzazione del ponte il ponte non è lo stesso ponte che è stato pensato prima per farci passare i mezzi bisogna fare tutte altre cose io io o ci si rende onto che si sta facendo delle cose importanti per la città oppure è inutile parlare d'amore se l'amore c'è la realizzazione di 24 alloggi in via da Morrona ci mancano mancavano sordi e ci sono ci sono la possibilità di fare l'alloggi ma io non lo so io rimango rimango esterefatto da un pressappochismo così così grosso invece di veramente di aiutare oggi ho visto il Fraterno Italia Forza Italia e la Lega che al governo sono riusciti sono riuscito non intesa per poi andare avanti tutti insieme qui non c'è bezzo qui non ci dite che siamo eversivi ci dite che siamo bugiardi ci dite che siamo come cosa hai detto che lo trovo operazione verità l'operazione verità qual è? quella che fa vedere su binario 14 i troiai che sono stati fatti ditemelo un po' se è questa l'operazione verità mi viene da andare per conto mio a fare questi discorsi qui grazie presidente chiedo scusa anche per la fuga che ci ho messo ma io sono fatto così quando sento dire determinate cose mi va il sangue al cerdello scusate ebbene apprezziamo a volte la sincerità anche il comportamento che tu uso per il cuore che ci metti va bene allora adesso dalla parola a dal consigliere del gruppo Lega Pasqualino Giovanni ha dieci minuti di tempo prego ma ne uso ne uso uno presidente grazie perché 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 poi vorrei sentire anche la consigliera Picchi quando interverrà anche sugli altri ordini del giorno se mi dà risposta perché sembra che noi stiamo buttando i soldi dalla finestra che dal governo stia arrivando l'oro oro colato io tutto questo oro colato non lo vedo ma qui si parla consigliera Picchi si parla di sicurezza idraulica stiamo investendo sulla sicurezza idraulica si parla su della rotonda della rotatoria di Montacchiello molto importante molto sentita dove tra l'altro ci sono stati diversi incidenti si parla delle piazze ci ha già parlato Nelini ma qui io voglio parlare della ciclopista e del ponte di Cisanello dove passeranno anche i mezzi di soccorso molto importante non stiamo buttando i soldi dalla finestra consigliera Picchi qui si sta lavorando per i pisani realizzare una un ponte ciclopista ciclopista e il ponte è il ponte di Cisanello dove passeranno anche i mezzi di soccorso non vuol dire buttare i soldi dalla finestra si parla del giardino delle rimembranze si parla di accessibilità investimenti sull'accessibilità si parla sempre di quella spiaggia di Giaia vabbè Nerini è più informato di me che stiamo investendo anche lì si parla della palestra di San Marco ma ce lo siamo dimenticati come avete lasciato le palestre qui a Pisa e l'assessore La Trofa ha fatto un bel esempio con la palestra di Liglione noi siamo andati in commissione mi dispiace consigliere Picchi forse non c'era quel giorno un venerdì mattina siamo andati in commissione proprio a fare sopralluogo alla palestra di oratorio che poi hanno le stesse se non sbaglio assessore mi correga dovrebbe essere uguale identica a quella di San Marco ci hanno ringraziato tutti perché non diamo soltanto bellezza diamo gli strumenti c'erano i ragazzi bambini lì che giocavano che si allenavano con le scuole questo stiamo donando noi alla città ridoniamo di nuovo una struttura fruibile che non c'è ecco come l'avete lasciato stiamo investendo su queste cose non stiamo buttando i soldi alla finestra consigliere Picchi mi permetta è tutto quello rocolato da parte del governo io non lo vedo e ha ricordato bene il consigliere Nerini oggi oggi il centrodestra in Parlamento ha dato un messaggio forte politico e chiaro che dovrebbe arrivare a tutti voi qui noi siamo uniti e si è trovato grazie anche all'interlocuzione con la maggioranza si è trovato finalmente un verso per camminare tutti insieme perché avete accettato diverse nostre proposte praticamente quasi tutte grazie presidente grazie a lei consigliere Pasqualino do la parola al consigliere capogruppo di Riforza Italia Riccardo Puscemi prego la facoltà si mi sentite buonasera a tutti no non si sente arci il volume dico mi sentite ma non si sente ora sì ora meglio ora meglio grazie benissimo allora devo dire una nota un po' più drammatizzare secondo me occorre più che drammatizzare assumerci tutti quanti le responsabilità perché a me non mi appassiona questa questa discussione dove noi passiamo come degli incapaci come non mi appassiona anche la replica dicendo dei lavori fatti precedentemente non adeguati o brutti dalle altre amministrazioni io penso che dato il momento il grave momento che sta passando il paese che sta passando la nostra città dove non assumere i nostri reciprochi responsabilità non ha senso portare avanti questa parte in commedia che sembra tutti gli interventi di voler portare avanti ci sono delle difficoltà oggettive nel governare queste difficoltà le avrebbe anche un sindaco del centro-sinistra perché ci sono delle situazioni oggettive e sappiamo tutti che sono così sappiamo tutti che sono così almeno l'onestà intellettuale ci deve contraddistinguere in questo momento quindi io penso che dobbiamo dovrebbe sarebbe molto senso avrebbe un grande senso di responsabilità se votassimo queste diciamo queste queste proposte con serietà con atteggiamento asciutto sobrio e riguardo poi questa è un po' la sintesi gli ordini delle mie interventi gli ordini del giorno che sono stati presentati a corredo io faccio una proposta alle minoranze e chiedo al sindaco di valutare quello che sto dicendo io praticamente di ritirare gli ordini del giorno a parte l'uno e il quattro della proposta numero due l'uno e quattro li votiamo e gli altri ordini del giorno li ritiriamo per poterli discutere nelle rispettive commissioni valutando i margini di intervento quello che si può fare perché se no si rischia di fare come la discussione dell'altro giorno sulla Tari che voi sapete che sapete che c'ha che c'ha di vincolo e sulla Tari poi ci saranno delle belle se non dovesse avvenire la proroga da parte del governo del termine per diciamo non rivedere le tariffe fissate dall'area e poi voglio vedere cosa si andrà a raccontare allora a quel punto ai cittadini quindi la proposta di lavoro di senso di responsabilità è quello di prendere atto di quella che è la mia proposta chiedo al sindaco di diciamo di dichiararsi su questa cosa e per avviare nelle rispettive commissioni in vista della discussione che stiamo facendo sul bilancio di previsione sulle risorse da accalternare nel 2021 i margini per l'accorgimento totale o parzialmente di di alcune di alcune proposte fatte anche dalla minoranza perché in questo momento occorre il senso di responsabilità da parte in questo momento non voglio enunciare frasi che poi potrebbero essere male malinterpretate non c'è nessuna voglia di 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 fare pastrocchi formule politiche alternative cioè un momento serio 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 da affrontare e si affronta senza facendo le problemi e che chi ci ascolta secondo me si esaspera se è già esasperato o viene definito quindi questa è la mia proposta non vorrò poi più intervenire qualsiasi cosa venga detto in questo momento perché noi forse spesso e volentieri non ci rendiamo conto di quelle che sono le cose diciamo il noccio del problema che stiamo andando a affrontare questo non è un palcosciente noi bisogna prendere decisioni serie nell'interesse dei cittadini quindi ho fatto una proposta vorrei che poi qualcuno si pronunciasse e ripeto a scansio di pivoci scusate le ecco perché mi hanno preso degli appunti mi riferisco quindi agli ordini del giorno 2 3 5 2 3 5 6 7 8 9 e 10 della proposta numero 2 mentre la 4 si vota la 1 pure la proposta numero 2 si vota grazie grazie al consigliere Riccardo Buscemi la parola adesso al consigliere capogruppo Amore Gabriele Movimento 5 Stelle prego la facoltà può parlare Amore se chiaro e distinto grazie presidente no intanto io volevo ricordare che solo ieri c'era la giornata contro la violenza delle donne io credo che a volte la violenza nei confronti delle donne si manifeste anche con le modalità con le quali ci si rapporta alle donne o ai concetti espressi dalle donne o dalle idee manifestate dalle donne io sono molto vicina a Olivia Picchi perché gli interventi che ho sentito dopo sono interventi beceri da bar che spesso si fanno fra maschi dopo che abbiamo avuto il ponce e ci si rapporta alle dichiarazioni fatte da una donna con un modo di fare che è un po' da calcetto che tra maschi da un po' che è un po' da maschi sono tollerabili ma anche no ma insomma quindi io ho visto proprio una veemenza nel rispondere alle dichiarazioni fatte dalla consigliere Picchi che non mi sono per nulla piaciute né dal consigliere Nerini né dal consigliere Pasqualino perché ognuno esprime le proprie idee ed esprime con le proprie argomentazioni e chi risponde dopo non dovrebbe entrare nella critica feroce con modalità un po' becere come se davanti ci fosse un maschio l'idea di rispettare le donne si manifesta anche nelle modalità con le quali ci si rapporta alle argomentazioni delle donne in maniera più pacata più rispettosa del valore della donna stessa quello che ha detto la Picchi io lo condivido alla fine qui la giunta in carica sta portando avanti la propria politica come se la pandemia non ci fosse delegando totalmente al governo a quelle che sono invece le operazioni a sostegno delle fragilità che Pisa vive oggi senza tenerne conto e quindi dice come dice Pasqualino noi interveniamo sulla ghiaia interveniamo sulle palestre ma oggi è un momento storico dove invece tutte la maggior parte delle risorse dovrebbero essere destinate esclusivamente all'emergenza ognuno fa quel che può fare con le risorse che ha e non deve delegare agli altri o scaricare sugli altri le proprie responsabilità credo che una amministrazione lungimirante attenta alla gravità della situazione attuale non dovrebbe scaricare sugli altri le proprie responsabilità e se ha una lira da spendere a favore dell'emergenza e delle fasce deboli e che vivono maggiormente queste criticità dovrebbero lì dare il massimo possibile questo è il mio intervento e vi ringrazio ringrazio il consigliere Amore non vedo prenotazioni un attimo do la parola al consigliere capogruppo Litta Francesco prego la facoltà sì grazie presidente perché questa discussione è una discussione ragione del capogruppo Buscemi molto complessa molto delicata che avviene in una fase di emergenza assoluta e che di fatto ritorniamo a parlare della situazione del bilancio della capacità di spesa e di investimento da parte dell'amministrazione comunale dopo aver rifatto sostanzialmente essere stati costretti a rifare il bilancio nel mese nel mese di luglio in quell'occasione noi avevamo presentato cioè già a maggio e poi a luglio avevamo presentato degli ordini del giorno che però sono stati bocciati in cui criticavamo l'operato del governo in quanto ritenevamo che le risorse che venivano stanziate a favore dei comuni erano assolutamente inadeguati e insufficienti e le necessità di allargare io parto da questo presupposto perché questo secondo me sono le valutazioni politiche che oggi dovremmo fare chiedevamo una cosa fondamentale cioè che i vincoli di spese di bilancio previsti per gli enti locali dalla legislazione nazionale venissero sospesi e derogati io onestamente quando vedo quello che succede oggi in Parlamento che veniva ricordato per cui centrodestra e centrosinistra sostanzialmente sospendono quei vincoli che loro stessi hanno introdotto in Costituzione perché tutto lo schieramento politico del centrodestra e centrosinistra hanno votato all'unanimità l'inserimento ai vincoli di bilancio del pareggio di bilancio in Costituzione il tema politico è questo oggi a mio avviso cioè la necessità per gli enti locali di avere la possibilità di spesa dove questo è consentito io queste erano le cose che avevo messo all'interno di quest'ordine del giorno e che continuo a ripetere e a dire cioè ritengo che alla luce dell'emergenza soprattutto rispetto al fatto che siamo di fronte a un secondo lockdown perché così va chiamato quello che stiamo vivendo al di là dei giochi delle regioni sulle questioni dei colori sempre sperando che non solo la curva diminuisca ma che non ci sia una terza ondata a seguito di scelte potrebbero essere scellerate a seconda di quello che avviene da qui a breve credo che sia uno dei temi fondamentali per quanto riguarda la politica cioè la finanza locale e i finanziamenti agli enti locali anche perché tra tre settimane ci troveremo a fare un bilancio preventivo che non so quanto effettivamente poi abbia a che vedere con la realtà dei fatti però quando noi a lui avevamo posto questi problemi avevamo anche detto si tratterà di vedere poi se arriveranno da parte del dello Stato il i compensi e i ristori per quanto riguarda le imposizioni locali io questa relazione l'ho letta quella che è stata fatta dal ragioniere capo che ci dice alcune cose che mi avviso continuo a dire non sono sufficienti ma che non si possono non dire cioè di fatto per quanto riguarda la COSAP l'imposta di soggiorno sono state diciamo rispetto alle richieste fatte dall'ente locale sono state queste richieste non solo esaudite ma in alcuni casi ci sono state un ricevimento in più di risorse questo è un fatto positivo per fortuna che sono arrivate e che sono arrivate per poco in più perché altrimenti la macchina comunale sarebbe stata in girocchio si è fatto un regalo no si è fatto il minimo di quello che si doveva fare ma non si può per onestà intellettuale dire che non ci sono state restituite i tributi che il comune non ha incassato perché se noi non incassavamo queste cifre e saltava il bilancio non so se questa cosa sia chiara saltava il bilancio e io lo dico partendo da una critica a sinistra radicale rispetto al delle insufficienze e le politiche del governo ma oggi c'è una variazione di bilancio perché le risorse sono arrivate sono arrivate nelle quantità in alcuni casi superiori rispetto a quelle richieste io credo che queste cose in termini di onestà intellettuale vadano dette ma soprattutto per capire quali sono oggi i passi che devono essere fatti e quali sono le richieste che gli enti locali devono fare al governo perché non sono mica finite le richieste che i comuni devono fare però bisogna capire se la critica è non ci avete dato quello che avevamo chiesto uno può raccontare questa storia ma questa storia alla luce di questi numeri non è così la storia è che alcune sono state ristorate quanto i comuni non hanno introitato ma questo non è sufficiente rispetto alla portata delle emergenze che abbiamo in campo e questo mi pare assolutamente evidente dopodiché se il governo non dava quelle risorse l'operazione di investimento a 3 milioni di euro non si faceva oggi la variazione di bilancio si fa perché sono arrivati 9 milioni di trasferimenti tutto questo purtroppo rispetto alla portata della crisi non è assolutamente sufficiente perché la tassa di soggiorno è stata restituita dal governo visto che non è stata incassata ma di cosa stiamo parlando di un milione e duecentomila euro quando c'erano milioni di turisti nella città che non solo pagavano la tassa di soggiorno ma che portavano un'economia che oggi non c'è più quindi il problema non è solo dell'imposta di soggiorno il problema è di politiche che riescono in questo caso a dare risposte noi in questo periodo abbiamo cercato di fare un percorso io lo dico con grande chiarezza noi alla luce di una nostra iniziativa condivisa con le minoranze un mese fa c'è stata una quarta commissione di assoluta rilevanza in cui abbiamo sentito tutte le organizzazioni sindacali rappresenta anche il sindaco lo potrà testimoniare penso sia stato un passaggio importante dal punto di vista politico per la macchia comunale con tutte le organizzazioni sindacali sulle situazioni di criticità perché per noi e questa è la nostra ottima bisogna partire dai lavoratori e delle lavoratrici che nell'emergenza sociale ed economica sono sempre più colpiti e sono sempre più colpiti perché si perde il lavoro perché c'è una riduzione dei salari perché c'è chi si approfitta della situazione di emergenza allora io credo che quello sia il metodo da seguire ascoltare le parti sociali le organizzazioni sindacali è riuscire a fare e fare delle manovre che diano delle risposte a quelle esigenze e per fare queste manovre servono più soldi ai comuni e però qui c'è l'elemento di fondo i soldi ci sono io lo continuo a dire l'ho detto la scorsa volta c'è chi le aziende che fanno super profitti sull'emergenza e che non vengono tassate c'è un'evasione dell'evoluzione fiscale che va attaccata e che non si attacca da cui si recuperano le risorse c'è una progressività fiscale che va introdotta queste sono le cose su cui i comuni dovrebbero fare in occasione dell'approvazione dei bilanci delle battaglie nei confronti del governo partendo dal presupposto che non bisogna avere assolutamente un euro in meno di quello che non si è preso ma questo per fortuna ad oggi e credo che ci sia stata una mobilitazione perché voglio dire le cose che ha detto anche il sindaco Conti in alcuni momenti sull'insufficienza del governo le ha detto anche il presidente del lanci anzi il stesso sindaco Conti ha citato lanci allora però noi dobbiamo essere capaci almeno questa è la nostra impostazione politica di scegliere e colpire l'obiettivo giusto senza propaganda perché di propaganda i cittadini non ci mangiano e la propaganda oggi non è che non arrivano i soldi del comune di ristoria i comuni e che le risorse non sono assolutamente sufficienti questo è a mio avviso il percorso politico è che non sono sufficienti perché l'emergenza crescerà lo dico a Buscemi noi si è presentato un ordine del giorno e poi si dirà sull'emergenza abitativa sull'emergenza abitativa perché questa è una delle più grandi bombe sociali che abbiamo dalla questione della proroga degli sfratti e specularmente la questione del blocco dei licenziamenti queste sono due cose che vanno di pari passo se noi parliamo di queste cose secondo me in maniera puntuale rispetto a quello che è l'appello che viene da Forza Italia stiamo nel merito delle questioni tutto il resto a me onestamente mi sembra come dire ecco questo sì alcuni elementi di propaganda nella politica contro il governo perché poi alla fine con il governo vi siete messi d'accordo avete deciso di con la maggioranza in Parlamento il centrodestra ha deciso di derogare a quei vincoli che voi stessi avete approvato io come dire sfido centrodestra e centrosinistra su questo si faccia una mozione in cui si chiede che si deroghi dei vincoli per gli enti locali questa è la battaglia per me fondamentale che ribadisco e che è indispensabile alla luce dell'emergenza che peggiorerà purtroppo dal punto di vista sociale ed economico nella nostra città e qui c'è l'altro elemento di critica che io faccio noi non abbiamo potuto neanche presentare delle proposte perché io lo ribadisco l'ho già detto nel momento in cui come dire si fa ci sono dopo sei ore bisogna presentare gli emendamenti quando l'annuncio e la decisione che si calendarizza per il 26 avviene è impossibile cioè c'è stato impossibile presentare le proposte alternative perché la manovra di bilancio cioè la seconda delibera sul bilancio sulla spesa corrente e quant'altro è stato illustrato il mercoledì sera noi non siamo stati messi nelle condizioni di presentare degli emendamenti e sapete benissimo che noi gli emendamenti li presentiamo allora questa è una cosa intollerabile io lo dico l'ho già detto lo ribadisco l'abbiamo visto sul bilancio consolidato io voglio essere messo in grado di poter svolgere il compito per cui sono stato eletto indipendentemente dal giudizio che voi potete avere o non avere sulle mie proposte e delle proposte delle forze politiche che rappresento e del pezzo di città che rappresento e per il quale ho preso l'8% dei voti credo che questo sia un diritto che deve essere riconosciuto a tutte le forze politiche perché avrei presentato delle proposte di carattere diverso perché ritengo politicamente sbagliato che si metta tutte le risorse esistenti solo sugli investimenti e non ci sia un euro rispetto a un equilibrio di alcune politiche che devono essere fatte sul sociale e per dare risposte all'emergenza sociale ed economica questo è il giudizio che io do ritengo sbagliato questo che quelle risorse i 3 milioni e 8 siano integralmente messe sugli investimenti e non entro nel merito se è giusto o sbagliato o se è più importante la palestra di San Marco o aumentare i soldi sui buoni spesi io ritengo che in questa fase ci debba essere un equilibrio diverso fra investimenti e spesa corretta e che una parte una parte una parte di quell'avanzo dovesse utilizzato per spesa corretta questa è la mia proposta politica che non ho potuto tradurre in elementi concreti ma chi era in quarta commissione l'ha sentito io lo continuo a ribadire che sull'Atari sulle utenze anche domestiche bisogna mettere una serie di agevolazioni perché qui siamo stati nel comune in cui non si trovavano 50 mila euro per il bando per la cultura per due o tre mesi e per fortuna poi c'è stata una battaglia sono usciti questi soldi ma abbiamo dovuto sentirci dire questo all'assessore Magnani che non c'erano i soldi allora io credo che la manovra sia sbagliata perché mette solo sugli investimenti e non mette nulla rispetto a un'emergenza che cresce e alcuni bisogni che sono assolutamente evidenti e su cui bisogna fare delle politiche perché altrimenti gli unici politiche di aiuto sono il fatidico le operazioni che abbiamo fatto a luglio e che non hanno coperto le richieste che ci sono questo mi sembra anche l'altro elemento e che non hanno intercettato non sono riusciti a intercettare o non erano sufficienti per dare delle risposte alle nuove povertà di questa città io questo è la critica politica che noi facciamo rispetto a quest'operazione e mi sembra assolutamente evidente l'avete detto dovrebbe riuscire a rimessere tutto sugli investimenti benissimo lo ritengo sbagliato ritengo che almeno una grossa fetta di questo dovrebbe essere utilizzata anche in spese correnti per delle politiche di sostegno sulla casa sul sociale sul lavoro sulla tassazione sull'imposizione fiscale cosa che si poteva fare andando a studiare dati e andando a modificare questo è l'elemento politico che a nostro avviso non ci convince in alcun modo di questa variazione che riteniamo sbagliato sbagliato tanto più in un momento come questo quindi ci sono tre elementi a mio avviso in questa vicenda uno le battaglie dei comuni perché quantomeno fossero restituite le risorse su Pisa hanno ottenuto dei risultati io mi sento come dire con la rete di consigli comunali con cui ci siamo mossi che questo sia frutto anche di importanti mobilitazioni trasversalmente sono stati fatti da tutti i comuni da tutti i siti centro-destra e centro-sinistra e che quindi oggi si faccia una variazione semplicemente per questa ragione due il fatto che tutto questo non è assolutamente sufficiente perché i comuni possano sopravvivere perché questa fase di rischio è la sopravvivenza è questo di cui ancora oggi parliamo tre la manovra è sbagliata perché punta solo sugli investimenti e non risponde ai bisogni sociali a mio avviso così questa è la lettura che noi diamo di questo percorso e a nostro avviso è importante perché poi non si sta a prendere opera per opera scusate onestamente questo qui può essere fatto ma oggi la portata il giudizio sulla manovra è che sulla spesa corrente sulla necessità di ulteriori interventi sul sociale non c'è un euro quando questo poteva essere fatto perché parte delle risorse ci è stato spiegato potevano essere indirizzate altrimenti anche perché ribadisco alcune opere poi mi permetto solo questa battuta cioè noi quando abbiamo detto che secondo noi era fondamentale era importante posticipare i lavori di palazzo pretorio perché non era la priorità ci è stato bocciato sempre questo emendamento perché se non si rifaceva quel palazzo chissà cosa succedeva vedo che tranquillamente invece si rinvia quindi un po' come quelle opere c'erano col centro-sinistra un po' come opere bancomat che si mettono lì poi si sa che assolutamente non è prioritario perché non è prioritario e si rinviano quando allora io farò degli emendamenti sul piano rimuove sul piano delle opere pubbliche spero che mi si dica non è assolutamente indispensabile farli in questa annualità perché questo smentisce i pareri negativi che noi abbiamo avuto nei mesi passati rispetto a questi emendamenti quindi io credo che così si stia dentro un ragionamento in cui l'elemento però politico assolutamente negativo della variazione e che non sta a dare in alcun modo risposte rispetto a bisogni sociali crescenti grazie al consigliere Auletta faccio presente che la consigliera Ruella Barbuti è arrivata in consiglio alle 15 e 14 e adesso do la parola al consigliere capogruppo patto civico Antonio Veronese pregole a facoltà grazie 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 presidente non entro nel merito del bilancio perché è stato spiegato molto bene dai relatori dell'opposizione che mi hanno preceduto e approfitto per fare un discorso più generale sempre all'interno dell'ordine del giorno di cui stiamo parlando io sono d'accordo con l'osservazione che ha fatto il capogruppo Amore riferendosi agli attacchi alla consigliera Picchi insomma io devo dire devo dire che è dall'inizio della legislatura che ho sempre mal sopportato questo questa atmosfera di accredine di supponenza sempre nei confronti delle minoranze no sono i ruoli della politica i cittadini li hanno scelto governate governate ma un po' anche di rispetto per chi non la pensa non la pensa come voi siete bravi siete talmente talmente bravi che tutte le cose vanno bene che tutto quello che è stato fatto fino a ora non va bene eccetera eccetera siete talmente bravi che avete risolto tutti i problemi del turismo del commercio della cultura delle tradizioni storiche della sicurezza dei rapporti con l'università siete stati bravi anche nel primo anno e mezzo avete cambiato due assessori avete nominato consiglieri speciali avete cambiato i capigruppo tutti bravi siete veramente bravi che tutto quello che accade che accade in città non conta leggo sul giornale per ritornare sul discorso che diceva la consigliera Picchi oggi e mi rammarica che le voci che queste cose vengono da professionisti professionisti come il capogruppo Cognetti come il capogruppo Buscemi che sono laureati che vivono a contatto con i cittadini che conoscono i problemi dei cittadini le difficoltà che i cittadini vivono e dicono che il fatto semplicemente di aver chiesto la cancellazione dell'Atari irresponsabili mi piacerebbe accetto accetto che sono un irresponsabile che non conosco il mondo dove vivo però mi piacerebbe anche che il responsabile si dicesse anche all'onorevole Sardone della Lega che ha detto questo mi piacerebbe anche che il responsabile si dicesse a Confio Mercio che c'ha l'assessore che c'ha l'assessore in comune e ha criticato duramente ha criticato duramente il voto del Consiglio Comunale mi piacerebbe si dicesse a Oreca a Confesercenti che sono i responsabili nel chiedere aiuto ora il capogruppo Nerini nelle sue litanie dice dove vivete ma dove vivete allora visto che siete tanto bravi intanto mi ricorderai anche cosa è successo a Cascita ma anche il piacere il piacere siccome io la città la vivo da sempre mi piacerebbe sono due anni e mezzo del mandato di prendere una delegazione della maggioranza e di venire con me in tutta la città nei quartieri nel centro storico di accompagnarli ovunque e magari in un principio democratico anche azzardare a fare un sondaggio un referendum su due anni e mezzo di questo governo che di tutto quello che ho cercato di portare in tutte le sedi avete accettato zero da una persona come me mi piacerebbe portarvi in centro città e sapere cosa dice la gente davvero e la variazione di bilancio ve la approverebbero i cittadini pisani ho concluso presidente è andata via la voce è andata via la voce è l'ultimo ho concluso ho concluso grazie 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 prego i prossimi se si prenotano di attenersi all'argomento e che mi sembra ma vedo che non c'è nessuna prenotazione chiedo alla regia se no vedo prego si è prenotato il consigliere del partito democratico biondi marco prego ne ha facoltà per dieci minuti grazie mi sente? insomma abbastanza ok grazie ma intanto eh anch'io rinnovo un po' la solidarietà la compagna consigliera Picchi per gli attacchi che ha ricevuto subito dopo il suo intervento mi avviso anche eh interventi piuttosto errati anche nel contenuto soprattutto per quanto riguarda la proposta numero uno si è sentito dire delle cose che non esistono nel senso cose che sono dei falsi dei falsi che dei consiglieri hanno sostenuto eh della maggioranza in questa seduta di consiglio che falsi sono i falsi sono quelli che parlano del ponte ciclopedonale ad esempio di eh Riglione Cisanello dicendo che loro che questa maggioranza ha previsto no la possibilità di eh farla attraversare da mezzi a quattro ruote diciamo di ambulanza o comunque di mezzi legati al servizio sanitario e questo è un falso perché questo come ricordato io ho qui tutto scritto quando venne l'assessore Dringoli a cui devo riconoscere ha avuto in quell'occasione eh trasparenza no la dignità di venire una persona anche perché forse lui era il progettista il progettista già con la vecchia amministrazione quindi probabilmente per questo se lo ricorda bene e non come consiglieri della maggioranza che non se lo ricordano bene disse che praticamente tutto era partito nel 2015 con una convenzione tra Pisamo e il Deste dove lui era all'università in cui si chiedevano la progettazione della passerella del ponte ciclopedianale tra Cisanello e Riglione già in quell'occasione lì l'azienda ospedaliera si era resa comunque interessata al progetto e aveva chiesto la possibilità di progettare il ponte per l'attraversamento dei mezzi di soccorso quindi già nel progetto precedente fatto alla vecchia amministrazione questa era qualcosa di già previsto non è qualcosa che avete messo voi voi semplicemente avete preso il progetto vecchio che era stato già progettato dagli altri ma si vede anche dalle stesse immagini che continuano a circolare sui giornali ma sono le stesse immagini che sono venute in prima commissione prima commissione su richiesta delle minoranze che abbiamo fatto la richiesta dell'argomento dei punti ciclopedianali tra cui quello di Riglione che l'immagine e gli elaborati erano gli stessi pressoché gli stessi del progetto precedente che aveva fatto l'assessore Dringoli quando in quel caso lì lui era il tecnico incaricato diciamo dalla passata amministrazione quindi diciamo le cose come stanno non inventiamo nulla non inventiamo perché sennò si fa passare dei messaggi fuori che sono delle cose false che non è nemmeno corretto io credo che si possa dire cose del genere semmai va detto visto che personalmente ho fatto un'interrogazione e ho ricevuto la risposta la scorsa settimana che il progetto esecutivo che doveva essere consegnato entro giugno non era stato ancora consegnato che sarebbe stato consegnato probabilmente questa settimana quindi diciamo ma di cosa si sta parlando si sta parlando fate i seri o cosa poi in commissione anche il nuovo progetto il progetto esecutivo non è ancora passato probabilmente ora non so nemmeno se c'è Dringoli oggi se no lui ce lo potrebbe dire se alla fine questo progetto esecutivo è stato realizzato o meno inoltre nella sua risposta lui mi scrive che è tutto posticipato si va più in là con i tempi quando invece era stato dichiarato da questa maggioranza che il progetto del ponte sarebbe già partita la realizzazione nei primi mesi del 2021 perché il bando era da completarsi entro il 2020 tutto questo non è realizzato un po' si arriva a collegare anche a quello che diceva su Palazzo Pretorio non perché fosse un'urgenza o meno ma anche io mi ricordo quando in questo consiglio la maggioranza parlava di Palazzo Pretorio come per dire siamo stati noi quelli a mettere come priorità Palazzo Pretorio la sua riqualificazione sui giornali a pubblicare che questa maggioranza che questa amministrazione avrebbe ristrutturato Palazzo Pretorio e i lavori sarebbero già iniziati nel 2020 siamo nel 2020 i lavori non iniziano l'ho posticipata ancora ma perché allora dovete raccontare vendere qualcosa che poi sapete benissimo che non siete in grado di mantenere non siete in grado di realizzare io mi chiedo nel senso qual è il messaggio che mandate fuori provate a mandare un messaggio tutte le volte di qualcuno che fa le cose che promette le cose che però poi le tempistiche vengono sempre disattese speriamo soltanto le tempistiche perché se poi anche le realizzazioni vengono disattese vuol dire che siete qualcuno siete diciamo una maggioranza che racconta ma poi non realizza le proprie promesse non realizza ma ritornando anche al ponte di cui si parlava prima che è inserito dove si parla lì nel DUP anche lì è una progettazione che viene da lontano come quella di binario 14 potete attaccare tutto su binario 14 però è grazie a binario 14 che si sta parlando di questi progetti mi sembra che questi progetti al di là di alcune modifiche sono progetti che in modo diciamo la base la gran parte sono tutti progetti fatti precedentemente sarà stato come quando accusavate progetti arrivati ultimi in classifica tra gli ultimi ma meno male ci sono stati questi progetti e meno male sono stati sottoposti perché se anche non erano sottoposti a questo punto non si parlava di niente non si parlava di poter realizzare questi progetti io aspetta ancora infatti io tutte le volte chiedo mille argomenti in commissione per vedere i progetti per vedere non soltanto diciamo le realizzazioni di piccole cose che tutte le volte vengono portate ma invece io chiedo diciamo una progettualità chiedo di vedere qual è la vostra progettualità ma tutte le volte non mi viene fatta vedere io aspetto ancora di capire qual è la vostra progettualità e dove volete andare nel futuro se poi nel 2023 voi siete ancora convinti di vincere le elezioni bene e allora visto che pensate di vincere ancora le elezioni voglio vedere dove portate la città nel 2028 secondo voi io per adesso non lo so dove la portate perché non vedo nessun progetto vostro e nessuna visione della città vostra ho finito grazie consigliere Biondi faccio presente che il professor Dincoli è in diretta con noi segue il consiglio che ha la possibilità volendo di parlare perché gli assessori possono intervenire per cinque minuti ho detto questo do la parola alla consigliera capogruppo oggi Scogno Emilio Maria Antonitta gruppo PD prego e a facoltà grazie grazie presidente ma intanto come capogruppo credo sia doveroso dare la solidarietà alla consigliera Picchi che tra l'altro ha aperto e quando si apre comunque una discussione di questo spessore credo che si debba dare rispetto a prescindere dalle idee e anche da cosa viene detto in quel momento in cui uno non è d'accordo perché così come il rispetto viene dato al sindaco e agli assessori che studiano lavorano approfondiscono e fanno scelte politiche chiare così ha un argomento di apertura credo che si debba comunque rispettare detto questo il mio intervento è legato tant'è che volevo proporre di dare anche i miei minuti perché era approfondito nei temi ma non mi ricordavo il vademecum cosa diceva non i miei minuti totali i miei minuti da capogruppo ma non mi ricordavo quindi chiedo scusa non ricordavo bene il vademecum che cosa dicesse in merito poi magari approfondiremo per il bilancio grazie il mio intervento è riferito comunque a una proposta che il consigliere Buscemi fa chiara e vorrei rispondere perché credo sia corretto in un'aula quando un consigliere fa una proposta e quindi dice un proprio parere e così altrettanto vorrei dire perché no perché quando lei poi mi dice consigliere e la vedo che è molto provato quindi credo nella sua diciamo presa di coscienza del momento e delle della proposta in cui nell'aula in cui ci troviamo credo così doverosamente doverlo dire doverle dire anche i motivi seriamente e anche come presa di coscienza anche da parte mia come capogruppo e anche come partito democratico a nome dei consiglieri quando lei mi dice passiamo in commissione vede consigliere Buscemi nella nostra commissione nella seconda consigliere i temi emergenziali sono alla visione di tutti e abbiamo provato a portare argomenti chiari inequivocabili portando commissioni almeno tre sulla emergenza abitativa facendo emergere problematiche quasi di livelli essenziali li chiamerei perché vedete i lea i livelli essenziali si mettono e si indicano in base alla salute ma poi si devono spostare anche quando l'emergenza è evidente a livello mondiale come in questo momento l'emergenza abitativa diventa uno di quelli e abbiamo fatto notare e saranno ancora commissioni proprio sulle morosità incolpevole su quello che in questo momento di incompevole andrà studiato e approfondito non li volete chiamare tavoli chiamateli di competenza chiamateli come volete ma sicuramente una povertà in un'emergenza come questa deve passare inevitabilmente da un'emergenza abitativa e mi creda consigliere Boucher quando noi approfondiamo e proviamo a fare questo improvvisamente arriva una commissione lecita sicuramente doverosa ai mutilati e agli invalidi civili in cui si chiede un monumento dall'assessore Gambaccini veda io non vedo l'ora di fare un monumento perché è corretto è giusto è esemplare è un modo riverenziale per quel che facciamo per i lavoratori ma il problema è che se noi proviamo sempre a fare un percorso e a trovare il coraggio di provare anche a chiedere una spesa corrente di spostare dei soldi anche dimostrando forse qual è il momento storico è chiaro che se arriva una commissione di questo portata chiedendo questa cosa diventa complesso anche poter faccio questo esempio è chiaro ma è un esempio perché l'assessore Gambaccini mi ha detto che in quel momento era un po' agitata e sì e sono agitata non è perché l'agitazione mi scompensa è perché noi stiamo provando a fare un lavoro in quella commissione con un'estrema fatica e il presidente me lo riconoscerà perché sa che sono stati portati argomenti dalle minoranze minuziosamente approfondite su temi in cui si svilupperà da qui a un anno o due dei problemi che ancora in questo momento sono sul nascere sono ancora sconosciuti non perché noi amministratori li dobbiamo conoscere alla virgola ma che stanno venendo fuori in maniera trasparente ma quando andiamo lì dove la gente vive e la commissione se ne accorta è chiaro che i problemi poi vengono all'attenzione e noi come commissione stiamo provando a fare questo ma ahimè facciamo un peace a luglio dicendo a giugno siamo i primi il primo comune che vota il piano integrato bene perfetto ok i primi ma perché i primi ma sì perché vogliamo dare il tempo e avere anche strategie e così c'è stato risposto per fare in modo e così l'assessore aveva detto che poi avrebbe riportato anche una strategia all'interno proprio in base all'emergenza quindi anche trovare risposte risorse facciamo richiesta agli altri e viene fuori un bonus gatti ma per l'amor di Dio ma non è un problema dei gatti voi lo capite anzi io ho sempre appoggiato non è questo è proprio la strategia che in quel momento può creare un problema perché se i consiglieri di maggioranza non ci vengono dietro nel in qualche modo capire che una spesa corrente non è un togliere un qualcosa è un prevenire problematiche che possono poi portare altri tipi di problemi a seguire perché è inevitabile che una problematica di tipo di emergenza abitativa che è legata al lavoro che è legata alle politiche poi educative dei bambini e tutto quello che ne consegue perché è una catena senza fine quindi il problema qui non è togliere un qualcosa ma provare anche avere più coraggio in una commissione come la nostra ma le faccio un esempio Buscemi ma chiaramente lei sa che non è riguardo alla nostra è solo un microbo il togliere gli ordini del giorno voleva anche dire in un'altra commissione sempre in quella seconda ecco mi piace anche condividere il lavoro perché a volte la fatica è anche ricompensata alla comunicazione che poi gli altri consiglieri veniamo a dare sulla connettività che è un ordine del giorno dove appunto c'era la possibilità vero per le segreterie quindi riguardava all'interno delle scuole un certo tipo di di connettività ma poi è stato detto chiaramente dai dirigenti che c'era un registro elettronico che c'erano anche situazioni anche servizi anche la provincia poi l'ha messo in risalto un problema anche poi di arrivare nelle case perché comunque non tutti poi sono in grado di poter avere la connettività così continuativa per far sì di seguire comunque anche un programma didattico niente di nelle discussioni consigliere Buscemi come lei mi sta appunto dicendo si prova a mettere in fila alcune tipi di esigenze che diventano poi priorità e che poi in qualche modo si prova a portare un lavoro quello che lei sta dicendo il problema è che ogni qual volta si può no a parte a volte ci sono dei silenzi quando andiamo a parlare di soldi di bilancio all'interno delle commissioni proprio per dimostrare che in realtà si può andare anche ora a fare tutte le commissioni che vogliamo ma dobbiamo capire poi che cosa vogliamo mettere sull'emergenza abitativa perché guardate in commissione in quarta sulla su apes è venuto fuori un grosso problema e ce l'abbiamo grossissimo non so nemmeno se riusciremo a risolverlo questo mi slancio anche perché è talmente grave talmente serio e i numeri ce lo raccontano ma in maniera talmente chiara infatti ho chiesto al presidente una commissione specifica poi su questo con gli addetti ai lavori proprio perché è chiaro che andando subito a risolvere di petto l'emorosità per cercare di salvare almeno in piccola parte un bilancio di questo tipo era una strategia che andava bene un anno fa cioè quando è venuto forse il presidente che ha detto che la prima cosa che avrebbe fatto era quello ma ahimè la pandemia è venuta dopo quindi è chiaro che anche questa strategia è diventa complessa per cui però il buco grosso c'è il problema c'è e quindi dobbiamo anche capire come risolvere comunque l'emergenza delle famiglie quindi questo era per rispondere in maniera corretta ad una proposta fatta se nelle commissioni diciamo le risposte della maggioranza e il consigliere Amore e il consigliere Auretta e il consigliere Basta potrà testimoniare potranno testimoniare che ogni qualvolta proviamo a dire allora mettiamo in campo questo proviamo a chiamare anche persone che ci possono dire che cosa può essere spostato ma perché l'emergenza lo dichiara lì ogni volta si prendono a volte strade diverse o comunque la maggioranza non risponde a questa forma no magari dicendo sì è vero forse su questa cosa possiamo anche cambiare un attimo strada ecco se dobbiamo fare la commissione solo per sapere i numeri è chiaro che i numeri come abbiamo detto anche a volte consigliere noi facciamo le richieste agli atti le portiamo anche in commissione non dobbiamo tenerle nascosti perché cioè anzi io credo che la richiesta agli atti serva proprio per beneficiare no in modo tale che da lì si parte perché poi un punto fermo ci deve essere no è vero e tocca a noi come come routine e si fa però serve poi studiarli approfonditamente mediarli con la commissione che dice guardate su questa cosa forse c'è un campanello mi sa che manca un pezzetto sarà meglio avviare un percorso per far sì che arrivare poi al bilancio o comunque anche trovare una strategia come a volte è successo fu proprio il consigliere Beleni che fece mettere 150.000 euro sulla emergenza abitativa che erano in più che non erano state previste per le manutenzioni correnti per cui si poteva spostare e fare questo spostamento cioè ci perdiamo tre o quattro commissioni con Sassetti per capire come si poteva fare ma si poteva fare questo per dire che quando c'è anche una volontà ma si capisce che l'emergenza è quella si trova anche la strategia forse nemmeno sconvolgendo poi chissà chissà che cosa quindi io su questo consiglierevo scena ho dei dubbi ho dei dubbi non per volontà o incapacità o ma proprio come un meccanismo un meccanismo che è partito e che dovrebbe cambiare un po' rotta ma lo dico anche per la maggioranza e che a volte fa fatica fa fatica perché giustamente anche il presidenza dice io non lo sapevo che mancava un monumento per le invalidi civili sono contenta di averla saputo anch'io sono contenta di averla saputa ma il problema magari c'era una via perché c'era gente stata una via quindi anche questo forse i consiglieri non sapevano ma io dico è questo il momento di parlare o comunque vogliamo anche fare squadra su alcune tematiche ecco perché su quella povertà quando venne Don Morelli io non ho il coraggio di chiamarlo un'altra volta dopo che l'abbiamo chiamato due volte ma questo non vuol dire che non non ci siano le le povertà assolute in questo momento io a San Giuliano in una consulta della povertà ci sono dei dati precisi quindi poi se volete io le posso anche condividere per dire che a volte però comunque si scappa a questi approfondimenti o comunque non si mettono anche davanti a questioni che strategicamente si possono anche trasformare in modo tale che lì davvero le quattro commissioni farebbero squadra anche per una sola cosa perché a quel punto c'è una convergenza io credo che quello che lei voleva dire lo ritengo talmente opportuno ma purtroppo non vedo nonostante un mese continuo di lavori di argomenti portati dalle minoranze in maniera in maniera anche molto approfondita e anche coinvolgendo anche davvero un lavoro anche dei commissari ma ahimè quando arriviamo poi a questi punti ci sono delle difficoltà quindi finché non miglioriamo questo salto per me è complicato ecco non mettere all'attenzione alcuni ordini del giorno che provengono solo da un lavoro poi in realtà fatto dalle commissioni non preso così e messo lì ecco da dal niente o comunque da solo sottoscritti consiglieri che hanno sì comunque un valore ma sicuramente ecco mai come aver portato anche persone e quindi aver condiviso alcune tematiche grazie e buon proseguimento ci risentiamo dopo per altri interventi nel caso ci fosse necessità grazie alla consigliera Maria Scudamiglio per onestà di presidente che devo intermediare un pochino gli interventi devo dire che c'è stato un attacco al consigliere Nerini e a Giovanni Pasqualino a parte Francesco Letta ma quando si pronuncia Nerini a volte un po' vehemente sanguigno ma offese onestamente non ne ho sentite mentre in tutti gli interventi della minoranza ultima tutti hanno iniziato a parlare di offese ecco vorrei essere un po' valitano e tenere in equilibrio la barca e gradirei un pochino di serenità così e si svolge mezzo dibattito scusate l'intervento intervengo quasi mai in questo senso cerco di moderare e questo è il mio il mio dovere vorrei ecco farlo presente ora do la parola alla consigliera Poli Veronica Gruppo Lega pregole a facoltà mi sentite? sì grazie presidente volevo solo puntualizzare alcune cose che Maria Antonietta Scogna Milio ha comunque sia ora detto in poche parole quando è stato fatto alla commissione sul monumento quello sui caduti sul lavoro non è che siamo delle persone che si pensa solo a fare i monumenti come ci vuole far passare lei no no si capisce bene che questo non è il momento dei monumenti lo sappiamo bene e noi sappiamo che ora ci sono altre priorità e noi a differenza forse di quello che hanno fatto fino a ora loro perché io non accetto comunque che veniamo additati come quelli che ci hanno portato loro nelle periferie perché se no noi non c'eravamo no 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 assolutamente io questo questo ve lo contesto ve lo contesto da subito perché forse vi siete svegliati voi ora in questo momento qui che ci sono comunque c'è la pandemia allora volete andare nelle periferie perché secondo voi questo è il momento ora quello quello più non lo so non so nemmeno come dirvi quello che è dove è più chiara comunque sia secondo voi la povertà è vero è vero la situazione sta peggiorando e nessuno lo nega e comunque sia su queste cose qui secondo me bisognerebbe essere molto ma molto uniti non venire e additarci in continuazione come state facendo però le nostre periferie ricordatevi bene che anche quando siamo arrivati non erano molto meglio di come sono ora a livello di comunque sia non è stato messo per l'emergenza e le case sempre soliti discorsi perché ci avete portato voi no siete voi che l'avete lasciato prima allo sfaceto questi palazzi di tutto e onestamente il lavoro che stiamo facendo noi tutta la maggioranza in questi due anni e mezzo è tanto ma veramente tanto perché risanare è tutto quello che avete lasciato per noi ora è veramente quasi impossibile però ce la stiamo mettendo tutta tutti i nostri assessori tutti i nostri assessori si stanno comunque prodigando per vedere di sistemare tutto quello che comunque è stato lasciato in questo momento le famiglie hanno bisogno è vero che le famiglie hanno bisogno però noi abbiamo dato degli aiuti e continuiamo sempre a dargli gli aiuti e non sono mai stati lasciati soli per quel che possiamo nemmeno uno nemmeno una di queste famiglie allora io mi dico benissimo siamo andati nelle periferie ma perché una volta mi rivolga Maria Antonietta che non riesco a vederla perché una volta come dici te tutte le volte le commissioni le commissioni le commissioni noi abbiamo proposto noi abbiamo proposto benissimo allora abbiamo proposto ma perché non si può fare qualcosa insieme lo dici sempre però quando qua si arriva in consiglio e sei sempre la prima comunque sia a darci addosso Maria Antonietta Maria Antonietta quindi io a questo giro dico io non l'accetto non l'accetto assolutamente i bonus cani e gatti ma non si è mica fatto solo bonus cani e gatti vai a vedere tutti i bonus che sono stati fatti tutte le persone che sono state aiutate nel senso se no si passa solo da quelle che fa la seconda commissione bonus cani e gatti che poi non è nemmeno lì o se no il monumento per i caduti del lavoro che in questo momento qui secondo voi non è giusto è vero non siamo degli stupidi non è il momento ora di farlo forse si farà più avanti ora forse la priorità si darà altre cose però ricordati che voi quando è venuto il signore che non mi ricordo nemmeno il cognome in commissione io mi sono risentita del modo in cui voi avete accolto questo signore perché questo signore l'avete quasi sembrava fosse sotto interrogatorio perché l'è venuto qui ma perché qui cioè in effetti poteva essere anche una commissione che forse per voi era inutile forse per voi era inutile in quel momento ma comunque bastava parlarne non c'è bisogno poi di venire qui e fare tutto tutto questo questo discorso di dire sempre è tre volte che lo sento di dire di questa di questo monumento il monumento verrà fatto al momento opportuno lasciando aiutare le famiglie benissimo aiutiamo le famiglie però in quel momento lì voi davanti a questo signore che esponeva tutti i caduti sul lavoro sul monumento e tutto voi vi siete tirati in basso di morto ma di morto indietro detto proprio alla pistana con questo ho concluso do la parola a Nerini per chiedere la parola per una nota di biasimo prego ne ha facoltà non per una parola di biasimo perché non si sente per un fatto personale mi sembra normale non si sente Nerini non si sente bisogna che attiviate il microfono di Maurizio Nerini sei te che non senti prego farli pure vabbè visto che piace il piattume leggerò queste poche righe senza dare alcuna enfasi vediamo se sono capito bene io non ho offeso nessuno e chi si sente offeso la mia passione se ne deve fare una ragione è inutile spetticarsi sulla solidarietà ma per cosa perché ho detto che non vogliono che mi chiamino disonesto io con il sindaco vedete becero è proporre la sioma che la passione politica l'esposizione accadorata è uguale a violenza su altri consiglieri si confonde la veemenza con la violenza questa sì che è violenza per me la politica è passione se non appassionano queste cose è stata a casa andata al bar quando sarà aperta andata al circolino essere mellifluo e pacato non vuol dire avere ragione ma tante volte semmai è non credere nemmeno a quello che si dice quando ti dicono che ti nascondono le cose che si nasconde la verità non devo reagire perché a dirlo è una donna ma questo è razzismo è palese eterofobia questa sì che è una discussione surreale se le stesse cose avessi detto la picchi non la picchi ma amore per esempio avrei risposto nella stessa maniera grazie presidente ricetto il fatto personale però non è stata un'offesa grave da nota di biasio quella di oliva picchi però cerchiamo io quello che dico di moderare i modi e anche i termini così evitiamo queste perdite di tempo per queste cose evitare diciamo umilare o far star male le persone per atteggiamenti o parole quindi se si ritorna si ritorna un pochino un dialogo a quanto diciamo resti cordiali ma anche se c'è un pochino di vehemenza non è cattiveria non è offensivo e d'altra parte io però dico una cosa se c'è stato non mi ricordo se Cognetti ha già preso la parola o meno perché se ha già preso la parola come amore ha già preso la parola non me la posso dare due volte io onestamente bisogna che proceda perché se no si crea quell'inghippo e altre volte no io non l'ho presa due volte me la devi dare non ha preso la parola lei quando ha parlato in difesa della picchi sì ma era un altro ma era era se l'ha presa allora anche io chiedo la parola per fatto personale io chiedo fatto personale presidente a nome del gruppo Lega devo chiedere il fatto personale va bene allora prima c'è Cognetti Paolo continuiamo no prima ci sono io non c'è Cognetti Paolo no prima ci sono io prima è personale in nome di un gruppo prego poi è personale grazie presidente della pazienza che mi ha dato ruberò solamente 20 secondi perché non c'è stato né veemenza né è fatto personale né un'alterazione né un'alterazione dei toni è stato molto molto peggio io la discussione di bilancio viene presentata e ricordata alla giusta e doverosa giornata della donna si fanno parlare i consiglieri i consiglieri possono essere più o meno vementi ma nella media di tutti gli interventi dopodiché scatta quello che io purtroppo sarò noioso ma ricordo scatta il teorema veramente brutto e veramente triste per cui io veramente sono sono sorpreso e amareggiato per quanto è stato detto perché si sottintende che i consiglieri che hanno parlato in contrapposizione da un punto di vista politico con la picchi meno male non ha non ha parlato del sottoscritto non hanno rispettato la donna collegandosi al giorno della violenza della donna guardate è molto brutto è molto molto brutto purtroppo ancora una volta lo ripeto il sindaco me lo sottolinea ogni volta è il teorema il teorema si ricorda un giorno doveroso si fa rispondere non ci sono offese se è bello è costruito il pacchetto ecco il teorema la destra non rispetta la donna io chiedo non dico le scuse solamente di rettificare di dire non intendevamo questo grazie la prendo la parola appena me la date ve lo dico io che vi chiedo le scuse ma davvero di rettificare di rettificare io chiedo di rettificare di scusarsi di chiedermi per cortesia non state a instaurare un po' già vi do la parola e mi do perché secondo me si sta perdendo del tempo comunque sì amore prego ma si prende il tempo quando vi pare a voi perché quando il presidente del consiglio ti viene nel merito sto parlando non per me non per gli altri amore parli pure utilizzo e mi dice quant'è e io vado dall'inizio alla fine con la speranza di non essere interrotto lo puoi dire quanto tempo ho quando inizio e quando finisco sì guardi c'hanno ancora due minuti e 36 secondi no cioè tre minuti perché 30 secondi parlo lei che mi parla sopra allora ho tre minuti allora io lo ritengo fortemente inconferente il fatto che durante un concilio comunale il presidente del consiglio interviene a difesa del consigliere Maurizio Nerini perché a suo a suo pensare ci sono stati degli interventi personali che l'avrebbero messo in discussione su un atteggiamento che lui ha tenuto che è un atteggiamento oggettivo e che lo tiende all'inizio della consigliatura il consigliere Maurizio Nerini si è posto e ha argomentato l'intervento della consigliere o legati in maniera in maniera con atteggiamento a mio avviso veramente poco rispettoso un poco delicato come dovrebbe essere ogni atteggiamento di un uomo nei confronti delle donne e non voglio cavalcare la questione della violenza delle donne però vedo e ci mettete il carico che non solo il presidente del consiglio va a difesa di Maurizio Nerini perché qualcuno gli ha detto che vi mettono nei confronti dell'oliva ma vedo anche che il capogruppo della Lega che poco non ci incastra nulla in questo discorso perché era di fuori avulso dalle dinamiche interviene per dire che il povero Maurizio Nerini nel giorno 26 novembre e quindi verrà istituita la giornata contro la violenza del consigliere Nerini e tutti poi si faranno un fregio di un altro colore nero blu il colore che volete voi quindi oggi diventa vittima lui perché comunque alla fine quando interviene e non è la prima volta è il suo modo di fare di porsi solo che diventa più grave nel momento in cui lo fa dopo che è intervenuta una donna io ho rilevato e ho evidenziato il fatto che ti comporti male in maniera venente in maniera grottesca che non porti rispetto a maggior ragione a una donna questo è il punto per cui non rettifico nulla e mi auspico che il Presidente del Consiglio che è un organo super parte non venga e non si inserisca nel dibattito consigliare dando dei giudizi o delle giustificazioni a chi oppure di piccoli rimprovi a qualcun altro perché questo non è il suo ruolo e non gli compete vi ringrazio e non rettifico e confermo quello che ho detto prima comportiamoci bene con le donne a maggior ragione di più ne abbiamo ancora bisogno noi siamo siamo nel terzo millennio grazie arrivederci e ho concluso lo dicevo dire che per quanto riguarda l'intervento ti conietti mi dispiace ma non era un fatto personale io ho dato la parola ma non è per quanto riguarda l'amore se il falso personale è enunciare prima il motivo del falso personale ma non dichiarare e continuare a parlare quindi per il regolamento il fatto personale è di dire la rivedenza bisnette io quello che devo dire non c'è problema per cortesia io l'ho fatto parlare il falso questo è il regolamento poi se io li accetto sul fatto personale lei continua a parlare se no li devo trovare la parola ora siccome se lo facevo qui succedeva un dibattito però se c'è un fatto personale io chiedo il fatto personale per questo e questo io dico sì lei va avanti se dico no si chiude il microfono e finisce questo sia chiaro questo è il regolamento chiede la parola Pasqualino Giovanni guardi Pasqualino Giovanni lei ha già preso la parola se fa un intervento che non è contro io bisogna che immediatamente tolga la parola perché se no si continua in questa maniera senza poter andare avanti e perdere tempo su delle proposte che direi importanti per cui io le do la parola mi enuncia perché lei vuole parlare poi se io lo credo congo le faccio parlare se no ritrovo la parola grazie mi viene data la parola prego grazie presidente al di là che questo discorso comunque lo può fare dopo la mia richiesta non prima perché lo conosco bene il regolamento e chiedo la parola per fatti personale perché il consigliere Amore nel suo primo intervento ha esplicitamente fatto il mio nome dicendo che ho offeso la consigliera Picchi va bene enunci e vada avanti per il suo fatto personale prego se però ridate la parola Pasqualino prego lo può rinunciare finita qui ho già annunciato se mi dà la parola io ti do la parola vada ok no intervengo per fatto personale perché ora non so se il consigliere Amore si è ravveduto perché ora ha solo nominato il consigliere Nerini però io ho rivisto il mio intervento addirittura l'ho pubblicato anche su Facebook per vedere anche gli altri altri amici cosa ne pensano io non mi sembra di essere stato offensivo l'unica parola che ho detto consigliera Picchi noi non prendiamo i soldi e li buttiamo dalle finestre questa è l'unica parola che ho detto quindi non mi sembra di essere stato offensivo tra l'altro ho preso tutti i pezzi dei consiglieri che hanno espresso solidarietà compreso il mio video ne sto facendo un collage e sto prendendo anche i video dei consiglieri Amore in commissione 3 quando offende la consigliera Puzzo così lo sponsorizzo su Facebook e vediamo se sono io quello che offende o il consiglieri Amore grazie ok se ora vogliamo andare avanti se ci sono altri interventi se no parliamo passiamo alla parola all'elettore per l'epica finale se non ci sono interventi prego allora il assessore la troppa per l'epica finale grazie se si può prenotare così andiamo avanti prego assessore nella facoltà grazie presidente intanto mi scuso del fatto che a fronte di 10 interventi che quindi sono centinaia di minuti purtroppo ho soltanto 5 minuti per rispondere per regolamento quindi mi dispiace se non sarò esaustivo con tutti a causa del tempo cercherò di dare un pochino in più se non ce la fanno prego cerco di andare in ordine per come ho preso gli appunti allora il primo è relativo all'intervento della consigliera Picchi la quale ha fatto un po' di confusione a mio avviso tra la spesa corrente e gli investimenti facendo delle proposte che non sono nemmeno fattibili per motivi di bilancio e questo lo spiegherà bene forse anche il sindaco in qualità di assessore al bilancio per quanto riguarda il suo richiamo alla storia di Binario 14 parlando di buona amministrazione di Filippeschi addirittura ha detto anche di prima quindi penso di Fontanelli mi sembra che abbia pesantemente confuso le acque non lo dico in modo offensivo ma lo dico in maniera oggettiva perché dice che il governo giallo-verde ha tagliato Binario 14 quello attuale lo ha rimesso no temo che non conosca purtroppo per niente la vicenda di Binario 14 la ripeto per sommi capi perché ho visto che è stata frutto anche di altri interventi tipo coloro come il consigliere Amore che ci dice dovevate lasciare questi investimenti perché dovevate investire in un altro modo vi do una notizia certificata dagli atti che vi invito a leggere se noi non facessimo questa variazione e non mettessimo a bilancio quelle opere di Binario 14 che noi io personalmente con il sindaco abbiamo salvato da una mancanza di 20 milioni di euro di opere sociali a ragione Auletta ci vogliono le opere nel sociale i 20 milioni erano in case popolari in San Giusto peccato che non esistevano c'è qualcosa di più sociale di case popolari mancano 20 milioni per colpa del PD sulle case popolari di San Giusto bene se noi non mettessimo a bilancio queste opere a fronte delle quali ci sono finanziamenti statali e opere comunali perderemmo 9 milioni 105 mila e 417 euro perché a fronte di investimenti del comune su Binario 14 di 3 milioni 539 mila il finanziamento in più ai 3 milioni e 539 sono 9 milioni e 105 mila del governo se noi non provvedessimo a questa variazione di bilancio perderemmo dei cofinanziamenti per 9 milioni vi prego di leggere gli atti di studiare ci state chiedendo di perdere cofinanziamenti per 9 milioni a fronte di investimenti per 3 milioni e mezzo e tra questi risponda ad Auletta il mio tono è concitato per la passione che ci metto ma non intendo offendere nessuno 4 milioni e 120 2 mila euro per alloggi popolari 24 in via d'Ammorrona sono o non sono sociale li abbiamo inseriti Auletta ci ha detto che in questa variazione ci sono 0 euro per sociale 4 milioni 122 mila euro per 24 alloggi in via d'Ammorrona per alloggi popolari lui come lo chiama io lo chiamo sociale quindi in questa variazione c'è tantissimo sociale perché in questa città come correttamente hanno detto in diversi c'è una grande esigenza di investimenti sul sociale perché probabilmente chi era prima di noi se ne è completamente dimenticato mentre noi ci diamo una grande importanza e ci investiamo un sacco di soldi e non ci sogniamo lontanamente di gettare al vento 9 milioni in questo momento di cofinanziamenti dello Stato noi facciamo progetti vi ricordo binario 14 se l'avete dato è vero allo stadio di progettazione preliminare che chi conosce i lavori pubblici sa di cosa si tratta si tratta di calcoli sommari della spesa e primi schizzi poi ci vuole i progetti definitivi gli esecutivi i finanziamenti e le gare e tutto questo lo abbiamo fatto noi che vi piaccia o non vi piaccia voi avete fatto i progetti preliminari che sono l'inizio sui quali non ci sono gli impegni di spesa e noi abbiamo fatto tutto il resto come stiamo facendo da due anni e mezzo i cantieri veronese rispondo a te mi inviti a venire in giro per la città è un invito bellissimo sono io che invito te perché io ci vado da due anni e mezzo nei quartieri sono andato in via Norvegia più volte sono andato in via da Morrona sono andato in San Giusto sono andato in via di Padure sono andato a Gagno sono andato al CERP sono andato a San Termet e ci continuerò ad andare che piaccia o no quindi ci vengo volentieri con te il veronese ma ci vado già perché non si può fare l'assessore senza andarci sarebbe un delitto verso i miei concittadini fare l'assessore senza girare i quartieri e poi il centro storico che diciamo è addirittura sotto casa Biondi tu parli di un progetto hai parlato insomma a maniera a mio avviso non elegante ma non elegante non è un'offesa del fatto che il professor Dringoli sarebbe stato per quanto riguarda il ponte il progettista precedente all'amministrazione non parliamo di progettazioni Biondi di chi ha progettato precedentemente all'amministrazione se no poi va a finire che ci costringe a parlare di chi progetta durante la consigliatura da consigliere comunale e noi non lo abbiamo mai fatto perché non ci interessa perché un progetto se è valido è valido e se non è valido non è valido questo è il criterio da sempre di centrodestra non facciamo mai fatti personali quindi a mio avviso nel riguardo il professor Dringoli quell'accenno che hai fatto sul fatto che lui è stato il progettista precedente di un'opera quando non aveva alcun ruolo politico io ti ripeto lo definisco inelegante non credendo di offenderti perché inelegante non credo che sia un'offesa ma semplicemente una constatazione di fatto ripeto amore io ti dico in via di principio presidente amore mi fermo amore se lei continua a interrompere come fa anche in commissione io gli do la nota di biasimo e la seconda esce dalla video c'è stato chiaro quindi ora lei non interrompa più perché si becca subito la nota di biasimo poi faccio ufficio di presidenza e la tolgo dal consiglio di oggi perché lei non si può permettere di continuare a pisciare sul microfono la faccia finita e faccia continuare vediamo un altro due minuti alla trofa che abbiamo interrotto per cui deve riprendere il filo del discorso e finire quello che dice grazie finisco allora io scusi amore io le do la nota di biasimo alla seconda esce va bene andiamo avanti non continui allora scusi fermo chiudo il consiglio e faccio l'ufficio di presidenza lo faccia così così mi dato una regolata scusi assessore ma non posso continuare a parlare si chiude il consiglio parlando di altro andiamo avanti fatelo chiude il consiglio per 5 minuti chiude e chiede ufficio di presidenza per cortesia regia chiude il consiglio chiude la diretta esprimi chiede ufficio a chiude i Grazie a tutti. 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 Presidente, volevo chiedere, ma io di quanto ho sforato? Perché non me ne ero reso conto? Ho sforato di un minuto e mezzo. Ora io però ti do un altro minuto per concludere. Sì, ma io saluto. Io ho visto, stavo alle regole. D'accordo, grazie a tutti. Allora, quando siamo in diretta, per cortesia facciamo l'appello. Ok, potete fare l'appello. Allora, do la parola al segretario generale Marco Mordà, ci prego la facoltà. Amore Gabriele, Amore Gabriele, è presente. presente, l'ho visto, grazie Bargani Alessandro ciao, ciao, ciao presente Barsotti Laura Barsotti Basta Vladimiro grazie dottore Barsotti presente sì, grazie Basta Vladimiro Biondi Marco Biondi Marco presente, presente Scemi Riccardo presente Camellini Annalisa presente Cognetti Paolo presente Colecchia Giuseppe presente Conti Michele presente Conversano Alberto presente Rigardo Benedetta presente Lini Emanuela Gambini Giulia Gambini presente Gennaio Alessandro Aspetta un'ottima Gennaio presente Aurora Manuel presente Lageri Marcello presente Mancini Virginia presente Mannocci Gino presente Nerini Maurizio presente Nicolai Francesco presente Pasqualino Giovanni presente Pasqualino Giovanni Picchio Olivia presente Poli Veronica presente Unzo Maria Unzo presente Scognamilio Maria Antonietta presente Presente Serfoglia Andrea presente Solaini Alessandro presente Trappani Matteo e Veronesi Antonio presente Allora Ventinove Presidente Ventinove Presidente Ventinove il numero è sufficiente per regolarità di consiglio e quindi andiamo avanti Per quanto riguarda l'ufficio presidenza chiediamo per gentilezza amore che mantenga un comportamento senza disturbare più che altro il consiglio e poi vedremo se facciamo l'ufficio presidenza in presenza e vediamo di chiarire e cercare di andare avanti Per quanto riguarda invece adesso purtroppo ora c'è la relazione del sindaco per cui do una parola un attimo alla Trofa se vuol concludere per quanto riguarda gli avevo promesso che l'avrei dato la parola un attimo per concludere se vuole la ringrazio del Raffaele a Trofa No grazie a lei Presidente io mi dispiace aver sforato di questo minuto ma avevo premesso che a fronte di nove interventi precedenti pensavo che interessasse a loro che io rispondessi a tutti tutto qui visto che le domande erano e quindi io ho provato a rispondere nel tempo ringrazio tutti la ringrazio la ringrazio per la sua precisione e puntualità grazie adesso io do la parola al sindaco per quanto riguarda il come relatore per la replica finale per quanto riguarda mi sono per fatto personale ascolti se si continua mi enunci il fatto personale così se le cobro io lo faccio continuare altrimenti no prego dà la parola dica qual è il motivo grazie presidente il motivo è visto l'accusa che ha fatto l'assessore la trofa nel suo intervento citando no parlando minacciando dicendo dire che nel caso si parla degli incarichi di queste cose qua giù e parlando dei dringoli volevo fare un chiarimento su questa cosa sul fatto personale ma io sento non vedo nessuna offesa per cui non gli do la parola e vado avanti ma come no la parola per la relazione per la replica finale al sindaco ma il fatto personale non è uno ma scusi ma tu ti hai dato il fatto personale la parola non si dà per l'offesa tutti tranne a biondi non va bene voleva intervenire voler detto di caldo prego gli do la parola date la parola al vice sindaco vicario al vice presidente vicario grazie si deve prenotare presidente si deve prenotare benedetta di caldo prego prego la facoltà si chiedevo di ascoltare bene la proposta di biondi perché quando si enuncia il fatto personale e si non si può garantire più minuti a qualcuno e a qualcun altro pochino meno ma sentite in maniera molto compiuta a mio avviso per capire bene se effettivamente sostista o meno il fatto personale questo è il mio consiglio grazie ma lui l'ha enunciato il fatto personale come tal regolamento l'ha enunciato e poi io decido se darglielo o non darglielo siccome non ho visto nessuna offesa da parte dell'assessore la trofa per cui non reputo che lui possa sentirsi offeso questa è la mia decisione presidente lei ha concessa a tutti ha concessa a tutti quando ritenuto opportuno no l'ha concessa a tutti a Nerini a Cognetti a Pasqualino a tutti chiudete il microfono a Biondi che voglia andare avanti per cui si fa l'ha dato a tutti a Pasqualino l'ha concessa a Nerini e l'ha concessa a Cognetti ascoltate bene non si può continuare il consiglio così gennaio è una cosa vergognosa è una cosa vergognosa gennaio lei è una cosa vergognosa quella che sta facendo è una cosa vergognosa lei l'ha concessa a tutti lei offende no è una cosa vergognosa l'ha concessa a tutti si viene Marco Biondi mi sembra che è meglio che lo faccia parlare perché lei continua a comprare l'attenza andare avanti e non ci sono fatto per sé ecco intanto faccio un chiarimento io faccio un chiarimento intanto io quando ho parlato dell'assessore l'ho fatto sto parlando sto parlando quando ho parlato dell'assessore l'ho fatto con la maggiore eleganza possibile in che senso che Dringoli non l'ho fatto come sostiene la trofa attaccandolo ma dicendo semplicemente che era nel ruolo di progettista perché è una persona valida che sa progettare al capo di un team dell'università al tempo e fu scelto dalla scorsa dalla vecchia amministrazione quale tecnico incaricato di fare il ponte quindi era in senso positivo non in senso negativo esclusivamente per mettere il punto che il progetto era un progetto fatto dalla vecchia amministrazione non da questa punto e questo è il fatto io ho massima stima dell'assessore Dringoli come progettista come progettista e questo è per metterlo in chiaro alla trofa che invece sosteneva tutt'altra cosa quindi non è quello che lui sosteneva mentre lui ha fatto una minaccia ben specifica io dico semplicemente se lui si riferisce a un progetto che io ho regalato a un amico e qualcuno diciamo nel comune ha deciso in parte di realizzare qualcosa di simile a quello può dirlo tranquillamente può dirlo qual è il problema quando Biondi non ha preso zero euro dal comune o da qualsiasi altra persona per qualcosa che riguarda il genere di che cosa c'è da parlare di nessuna cosa non c'è da parlare di nessuna cosa va bene io mi sembra che siano stati inunciati se non era questo non era questo non può intervenire così abbia pazienza Biondi io vedo che da parte sua e da parte della Fede della Trofa ci sono stati scambi di lego non mi sembra né da parte sua né da parte dell'assessore che sono stessi di entrambi non mi sembra comunque se permette andiamo avanti e do la parola al sindaco come relatore per la replica finale per quanto riguarda la seconda proposta grazie per favore Michele Conti se può prenotarsi così io gli do la parola prego le ha facoltà dunque molto brevemente perché mi sembra che stasera sia un po' animata la discussione ma io parto da una questione le critiche che venivano mosse dalla consigliera Picchi la consigliera Picchi conosce meglio di tanti di noi la contabilità pubblica perché ha espletato la funzione di amministratore in altro comune ha un'esperienza professionale anche legata a questi aspetti tecnicistici di bilancio e credo che quando parla del fatto che dice che il comune non avrebbe non è voluto diciamo il comune questa amministrazione questa giunta da me preseduta non è andata incontro le richieste dei cittadini non è così credo che sia stata fatta anche un po' di confusione fra spese correnti e investimenti magari io se lei ha sicuramente più di me più brava e più attenta riesce anche a spiegarci come potevamo spesare diversamente ben volentieri io sapete che sono aperto ai ragionamenti e soprattutto al confronto democratico con chiunque propone proposte che possono essere proprio percorribili da un punto di vista proprio numerico e che in qualche modo possono andare nell'interesse dei cittadini forse qui ci siamo un po' dimenticati del fatto sì che sono arrivati gli stori nazionali ma gli stori sono arrivati con un po' di disassamento rispetto alle richieste che c'erano rispetto alle richieste dell'ente i buoni alimentari voglio ricordare che non è propaganda l'amministrazione comunale di Pisa è stata una delle prime forse la prima a livello nazionale che si è prodigata in questo senso quando altri giustamente stavano capendo che cosa succedeva a livello nazionale poi il governo ci ha mandato per 471 mila euro e siamo riusciti a fare un ottimo lavoro non perché il merito non è sicuramente né mio né degli assessori ma è della struttura perché questa struttura ha dei dipendenti molto legi al lavoro dei dipendenti disponibili dei dipendenti che hanno lavorato anche di sabato o di domenica affinché la popolazione fosse messa in condizione di poter ricevere quegli aiuti ma abbiamo questa è la settima variazione di bilancio dimostrazione del fatto che quest'anno è stato molto complicato e complesso proprio per l'emergenza covid ed è vero sì che se sono arrivati dei ristori sono arrivati ma è vero sì che mancano una serie di introiti io voglio ricordare non è stato ricordato da nessuno ma mancano oltre 6 milioni di euro di entrate da parcheggi di pubblica via sostanzialmente quindi è una situazione complicata mancano come veniva ricordato prima fortunatamente in parte ristorati in IMU manca la parte del suolo pubblico ristorata non è che poi sia completamente come diceva la consigliera Picchi il governo ha sicuramente fatto la propria parte io questo l'ho detto anche in interviste pubbliche l'ho detto pubblicamente però per le antilocali questo che è qui da centro-destra di una città è un capologo importante come tanti altri comuni della nostra provincia o della nostra regione abbiamo sicuramente le difficoltà il 2021 sicuramente non sarà semplice ma quello che voglio capire è come potevamo spostare da gli investimenti e la spesa da investimenti a spesa corrente alcuni capitoli sapendo benissimo che nella contabilità pubblica c'è una sorta di ingessamento passatemi il termine fra i vari capitoli di spesa e non siamo in un'azienda normale tradizionale dove appunto c'è un conto economico c'è un stato patrimoniale si possono fare gli investimenti indipendentemente da questi aspetti molto schematici dell'ente locale quindi questo francamente non l'ho capito qui la porta è sempre aperta se la consigliera Picchi mi vuole aiutare in questo ben volentieri stiamo costruendo il bilancio 2021 siamo sicuramente a disposizione e disponibili a un confronto di questo tipo credo invece che ancora una volta poi viene tutte le volte ricordato la questione del tesoretto ma si tratta è vero sì il governo le giunte precedenti hanno sicuramente avuto più sfortuna della mia perché c'erano dei fatti di stabilità che imbrigliavano che in qualche modo non consentivano la spesa pubblica questo è vero però è anche vero che questa giunta nella sua visione in questi due anni e mezzo ha fatto tanti lavori per la città tanti lavori per la città il consigliere Biondi ricordava dice che non c'è visione non si sa dove si andrà nel 2023 poi nel 2028 ma io credo che bisogna ce ne sia e tanta perché esiste un progetto in una tramvia che mi risulta essere di questa amministrazione su ferro poi se se l'idea vogliamo ritornare a idee di vecchissime giunte o dell'assessore Longobardi che proponeva il tram-treno nei primi anni 90 troveremo sempre qualcuno che ha proposto qualcosa prima però la concretizzazione di questo tipo di progetto una progettazione importantissima credo che faccia capire quanto ci sia visione vogliamo parlare del piano strutturale che voglio dire in qualche modo darà la prospettiva della città nei prossimi anni una serie di convegni che il professor Gringoli ha organizzato anche per un modello di visione di città futura una serie di la biennale l'organizzazione da parte degli uffici comunali di una serie di studi di convegni io non credo che sia come volete dipenderci sempre come qualcosa e la città è lenta la città è ferma non è così non è così lo pensate voi ma non è così perché la giunta gli uffici stanno andando avanti e io ci tengo a una cosa una cosa a questo ci tengo veramente basta con questa storia è mio è tuo era della giunta Filippeschi Floriani Fontanelli Conti le opere sono dei cittadini noi siamo qui a servizio dei cittadini la politica è un servizio e siamo a servizio dei cittadini l'ho detto quel giorno e l'ho detto convintamente della regolazione della pista ciclabile fino a Marina quindi Pisa Marina sulla vecchia la vecchia ferrovia nel vecchio tramvino le opere sono dei cittadini basta con questa storia di storie per cui era mio era tuo era prima era dopo siamo qui nell'interesse della città in un momento difficile complesso e complicato con una pandemia che attanaglia anche la nostra città con problemi di carattere economici con oltre 90 morti dall'inizio della pandemia in questa città con persone contagiate con persone che hanno perso il lavoro con persone che stanno male quindi io veramente faccio l'invito al Consiglio Comunale perché questa vicenda finisca noi siamo tutti maggioranza minoranza al servizio di questa città quindi le opere che vengono programmate realizzate anche in continuità amministrativa perché poi siamo amministratori sono dei cittadini che le spesano con le proprie tasse grazie grazie a lei sindaco per la sua spedizione anche per i consigli che ci ha dato e ora passiamo agli ordini del giorno allora per regolamentarli vi dirò che prima facciamo l'ordine del giorno per quanto riguarda la prima proposta una alla volta si discuteranno si voteranno dopo che abbiamo finito l'ordine del giorno e la prima proposta si passerà alla dichiarazione di voto per quanto riguarda la proposta e alla votazione della proposta poi si passerà in un secondo momento agli ordini del giorno della seconda proposta votandoli una alla volta e poi la dichiarazione di voto sempre per la proposta in base all'ordine del giorno e alla votazione della seconda proposta quindi apro per quanto riguarda l'ordine del giorno la prima proposta opera di realizzare su via statale via d'annuncio è presentato dal consigliere Nini Gambini e Nicolae Fratelli d'Italia in data 24.11 prego do la parola al primo firmatario Lelini considero il capogruppo di Fratelli d'Italia per rinunciare il primo ordine del giorno grazie deve prenotarsi però Lelini grazie prego abbiamo facoltà fatto grazie grazie presidente eh mattedì ho ringraziato vice sindaco Bonsanghe grazie per la sensibilità dimostrata perché aveva fatto specifico riferimento all'Odg che andiamo a votare oggi oggi ringrazio le forze politiche di maggioranza che hanno firmato l'ordine del giorno del gruppo consigliare della sua interezza che ha dietro tutto un movimento di persone che tutti i giorni lavorano con noi e per noi il nostro gruppo si ingrandisce ogni giorno sempre di più e con Fratelli d'Italia che si è nel cuore ma eh questo è un corollario di un atto atteso questo ordine del giorno e l'acquisizione della strada ma soprattutto la parte che riguarda l'annunzio ci volevamo noi per concludere queste cose martedì evidenziavo la gestione della strada che stesso ha lasciato desiderare per le competenze ballerine che c'erano su tante cose oggi siamo pronti a prenderci le responsabilità oggi vogliamo avere una gestione certa della strada e molto presto un progetto di qualificazione di vista in sicurezza chi ha percorruto ogni giorno giorno e notte la strada lo deve fare in sicurezza perché pensiamo che soprattutto il luminale e il viale sia via l'annunzio con i consiglieri del nostro gruppo noi siamo due che veniamo da Maria di Pisa con Francesco Nicolai per cui è una cosa che sentiamo particolarmente nostra questa pensiamo che sia un atto necessario e vista la picricosità dimostrata proprio in alcuni tratti dai cittadini statali ricorrenti soprattutto anche nei mesi estivi e la notte più che altro del resto l'abbiamo scritto anche nei nostri programmi e le nostre idee vengono da lontano e ricordo un ordine del giorno che riuscimmo a far provare da forza d'opposizione con noi adesso Pisa insieme a Diego Petrucci ormai è lontano il 7 novembre 2016 sette anni fa ragazzi sulla riqualificazione della Golena dei rimessaggi della ricamità dell'anno quindi sono cose che noi sono nel nostro DNA quindi lavoriamo affinché si arrivi il prima possibile a un progetto di riqualificazione anche per facilitare la partecipazione a bande di concorso che siano regionali nazionali europei al fine di realizzare proprio queste opere poi c'è una cosa che ci da dire a coloro che chiedono lumi su un piano economico per questa operazione che è stata fatta diciamo che le idee devono sempre venire prima dei soldi chi non ha avuto da chi non ha avuto né coraggio né idee io credo che lezioni non ne vogliamo grazie presidente grazie a lei Nerini e quindi do apertura al dibattito se qualcuno può intervenire capo il gruppo o un suo delegato uno per gruppo per tre minuti grazie non vedo interventi per cui si passa credo che lei a questo punto la replica non la voglia fare Nerini la vuol fare le do la possibilità però non c'è nessuno da poter replicare va bene quindi vedo che non si prenota e va davanti ok allora a questo punto dichiarazione di voto un capogruppo suo delegato per tre minuti se c'è qualcuno che si vuol prenotare magari non riesce faccia un cenno però vedo che nessuno si ha la città per prendere la parola per cui a questo punto passo alla votazione scusi presidente no no scusi Sceoletta Francesco scusate me l'ho visto ora e mi arriva in ritardo l'ho detto tante volte abbiate pazienza per cui do la parola al consigliere capogruppo all'interfitto Francesco prego grazie mi scusi no no io ci tengo a intervenire perché quando poi si vengono presentati degli ordini del giorno dalle forze politiche io credo che la discussione sia importante anche per restituire dalle dignità il lavoro che fanno tutti quanti i gruppi consigliari nell'avanzare proposte e stimolare sia come maggioranza sia minoranza l'amministrazione io rispetto a questo diciamo è il complemento della discussione che non abbiamo potuto fare la scorsa volta a me questo sistema è tutto sfalzato alle 24 ore prima degli ordini del giorno è molto faticoso per cui credo che sia anche doveroso intervenire perché insomma non si è potuto fare nel merito io come ho detto la scorsa volta sa il capogruppo Nerini quanto per me le idee siano centrali però in questo caso se siamo anche amministratori le idee dovevano essere supportate dai numeri proprio perché si fa una delibera e io credo che questo sia stato come dire un vulnus io ribadisco che a mio avviso nella relazione di Pisamo era assolutamente insufficiente all'interno di questa delibera e quest'ordine del giorno mette in evidenza la necessità del fatto che si costituisca un progetto e che si capiscano anche le risorse su alcuni elementi fondamentali perché l'ordine del giorno parla esplicitamente della questione della messa in sicurezza cioè della cosa prioritaria sulla viabilità correggetemi se sbaglio quindi ovviamente io come dire ritengo che sia indispensabile alla luce del fatto che a questo punto questa strada dopo la delibera che è avvenuto passa di proprietà all'amministrazione comunale che si proceda immediatamente a definire quelli sono gli interventi prioritarie che devono essere fatti questo a mio avviso si fa prima ma non si fa dopo e questa critica politica dal mio punto di vista permane e rimane ma è ovvio che questa è una priorità assoluta per evitare ulteriori difficoltà come dire anche all'amministrazione comunale quindi alla luce del fatto che permane la critica politica il mio sarà un voto di astensione perché è indubbio che alcuni degli elementi che sono scritti nel dispositivo sono alla luce dell'approvazione della delibera che ha fatto inevitabili per un'amministrazione e che se non si facessero sarebbe ancora più grave per più credo che sia importante insomma la difficoltà lo dico così Nerini questo è un ordine del giorno riparatore bene allora credo che sia un dovere dell'amministrazione metterci in mano e quindi non ci può essere un voto favorevole perché non condivido l'iter politico che deve essere fatto però siccome penso che sia dovere degli amministratori assumersi la responsabilità sul tema della sicurezza nel momento in cui è stata acquisita la mia sarà un'astenzione rispetto a questo ordine del giorno ringrazio consigliere Noletta e ora do la parola al consigliere Mancini Virginia Forza Italia prego e a facoltà grazie mi sentite? questo mio intervento naturalmente è per avvallare l'ordine del giorno presentato dai consiglieri di Fratelli d'Italia anch'io appunto essendo residente a Marina conosco benissimo le criticità di questa strada che per troppi anni ha avuto degli incidenti mortali anch'io come consigliere nella passata legislatura nella passata consigliatura scusate avevo più volte fatte delle delle interpellanze per richiedere la sicurezza per richiedere l'illuminazione perché purtroppo questo tratto di strada è molto buio e proprio per questo a volte si sono verificati notevoli incidenti grazie presidente grazie a lei consigliera vigine mancini do la parola adesso alla no c'è Nerini c'è un altro intervento la scogna Migno Maria poi a lei Nerini abbia paziente allora la parola alla consigliera con la Ligno Maria capogruppo oggi del gruppo del PD prego si grazie presidente solo per annunciare che il nostro gruppo il Partito Democratico si astiene a questo ordine del giorno consapevoli però appunto che il lavoro deve essere fatto è un lavoro tra l'altro di riflessioni di molti anni per cui credo che sia opportuno anche proprio come logistica della posizione quindi credo che insomma sia opportuno e diciamo che l'astenzione sta anche in una in una progettualità ecco che comunque vede l'amministrazione in maniera congola insomma di questo atteggiamento quindi credo che sia importante in questo momento porre questa votazione nell'astenzione grazie 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 a lei consigliera scondiamina adesso do la parola se ci sono altri interventi vediamo un attimo se arrivano le frutazioni in ritardo no allora do la parola a Nerini Manizio per dire che è un'altra c'è qualche di un altro che si vuol prenotare eravamo no non scusi Francesco Rinta se vuol parlare aprivi un attimo il microfono perché non non capisco cosa dice dica no presidente eravamo in dichiarazione di voto ricordavo solo questo però eravamo in discussione sì dichiarazione di voto sì giusto la regione per cui do la parola a Nerini Marizio prego la facoltà grazie soltanto per ringraziare Virginia Mancini se fosse stato in un altro momento lo sapevo so che siamo a dire che la dizione di voto non è neanchevuto nessuno e non intervenivo nemmeno io siete intervenuti mi fa piacere ringraziare Virginia ringraziare Forza Italia e allora ho fatto firmare a tutti questo ordine del giorno ma questa dinamica i ragazzi ci sconquastano non è politica capisco anche le perplessità di Auletta apprezzo il gesto di di non di astenersi sull'ordine del giorno come apprezzo l'astenzione del Partito Democratico grazie presidente grazie quindi a questo punto si passa alla votazione si apre la votazione per gentilezza gli scrutatori ci sono sempre presenti tutti e tre mi immagino grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se la leccia mi fa sapere se ci sono problemi di connessione, allora vado avanti e chiuderò la votazione. Grazie a tutti. Presidente, il sindaco che sta votando, eh? Sta votando? Sì. Ma c'è problemi di tablet? Per cortesia, ditemelo. Si può sapere se sono finiti questi problemi per quanto riguarda la votazione del sindaco per gentilezza? Senza, se no vada avanti, chiude la votazione. Un attimo, presidente, un attimino solo. Perfetto. Allora, prego, gli scrutatori sono d'accordo con me. Presumo che i presenti hanno votato tutti. Per cortesia, datemi un cenno. Sì, presidente. Sì, presidente. Sì, sì, assolutamente. Va bene, d'accordo, vi ringrazio. Chiudo la votazione. Devo proclamare la votazione se mi fate vedere i risultati. Allora, favorevoli ventuno, contrari zero, astenuti nove, non espresso zero, assenti votazioni tre. E' approvato l'ordine del giorno numero uno, opere da realizzare sulla via stradale, viale d'annunzio, riferito alla prima proposta. Si passa adesso al secondo ordine del giorno, sempre sulla prima proposta, di qualificazione aria ex distributore via Aurelia, presentato dal consigliere di Cammini Nicolai e Fraterni in Italia. e do la parola a Nerini, se si prenota, per gentilezza, per esporre l'ordine del giorno. Grazie. Prego, vi ha facoltà, grazie. Dici il microfono, perfetto. Mi stavo prendendo l'ordine del giorno. Un attimo solo, che sono un attimo incaffinato qui. Faccio con calma, faccio con calma. Sono perso nel computer. E va bene, si ritrova, via. Va bene, niente, avevo preparato una cosa. Niente, questo atto viene fuori da un'esigenza del quartiere. I nostri militanti hanno fatto diverse giornate nel quartiere, in zona di Via Cattane, in zona della Via Emilia, in zona di Porta Fiorentina, rendendosi conto che ci sono diverse problematiche. Ora, una, e questa è rappresentata dal fatto che qui, in questa zona, esisteva un distributore di proprietà della casa Esso, che purtroppo è anche se ha degli sbarci, perde un po' di degrado all'area. Per cui abbiamo fatto due ricerche e ci siamo resi conto che in questa area è, a livello urbanistico, considerato come parcheggio. E poi c'è una piccola, residuale parte che è di rispetto, fascia di rispetto aeroportuale. Per cui, facendo due più due, abbiamo cercato di capire se fosse possibile, vista anche la carenza dei parcheggi, di scontrare il quartiere. La gente chiede, purtroppo, c'è molta esigenza dei parcheggi, di riuscire a disporre tutto, di valutare l'acquisizione, l'esproprio, cioè dialogare con la proprietà. Possono anche esserci altre forme, oltre all'acquisizione e l'esproprio. E poi rispondere a un progetto, perché lo sappiamo benissimo che se ci sono progetti, poi possiamo concorrere anche a bandi di concorso che siano regionali, nazionali, europei. Questo non preclude niente, nel senso, è qualche cosa che va nel sorco di stare a sentire le persone che richiedono parcheggi in zona, che non c'è, chiedono riqualificazioni, per cui l'idea è quella di un parcheggio con un po' di verde anche. Per cui, sottopongo a consiglio questa richiesta con l'auspicio che si possa, effettivamente, arrivare anche qui a un progetto per la riqualificazione dell'area, un progetto comprensivo che nulla toglie altri progetti della zona. Grazie, Presidente. Grazie a lei. E ora do la parola a cui che intende intervenire, perché si apre il dibattito. Uno per gruppo, il capogruppo, il suo delegato, per cinque minuti. Per tre minuti, scusate, è dimensato il tempo. Sì, grazie, Presidente. Io faccio una richiesta al capogruppo Nerini, visto che è assolutamente evidente la situazione di criticità che rappresenta quell'area, però trattandosi di un'area dove c'è un ex distributore, ci sarebbero tutta una serie di aspetti da approfondire nel momento in cui all'interno dell'ordine del giorno si parla addirittura di esproprio di acquisizione connessa alle responsabilità e titolarità sulle bonifiche delle aree. In particolar modo, se si pensa di fare un progetto pubblico su questo, la prima vicenda deve essere risolta. Siccome su questo già ci sono storie di contenziosi, io avanzerei questa proposta, almeno per quanto mi riguarda. Chiederei al capogruppo di Fratelli d'Italia di ritirarlo, di fare un approfondimento in commissione, capire le questioni, almeno io chiederei questi approfondimenti, io non ho nessuna pregiudiziale su questo, però voglio capire dal punto di vista tecnico alcune cose connesse alle responsabilità che ci sono e quindi all'iter sulle bonifiche, i costi e quant'altro e le responsabilità e poi ritornare eventualmente in commissione. Quindi faccio questa proposta nel caso in cui legittimamente non fosse disponibile questo approfondimento in ritiro, io non partecipo al voto perché non ho alcuni elementi, a disposizione a mio avviso indispensabili nel momento in cui si propone di valutare un'acquisizione o un esproprio e anche di fare una progettazione se tutta una serie di elementi precedenti non sono chiariti e che mi sembra assolutamente indispensabili affinché anche gli uffici non perdono tempo ma possono poi effettivamente procedere nella direzione corretta facendo tutti quanti passi. Poi se invece non c'è questa intenzione, ribadisco, non parteciperò. Grazie consigliere Oletta, do la parola al consigliere del Partito Democratico, Pion Di Marco, pregole a facoltà. Sì, grazie Presidente, mi riallaccio un po' a quanto ha detto anche il consigliere Oletta, naturalmente la previsione, come diceva però anche Nerini è quella già a livello urbanistico di parcheggio, è una previsione messa già da tanti anni, sicuramente il quartiere ha bisogno di recuperare quella parte lì che è persa in stato di degrado ed effettivamente anche quel quartiere lì e poi tutta via Cattaneo è tutto un passare di macchine, un essere di parcheggi, tante volte con macchine anche in doppia sosta, quindi sicuramente la possibilità anche di prevedere e realizzare un parcheggio pubblico, quell'area lì può essere qualcosa di positivo, visto che comunque il quartiere effettivamente necessita anche di una riqualificazione generale, basta pensare che a poca distanza da lì c'è anche l'oratorio di San Bernardino che è mezzo transennato, recentemente sembra lasciato ancora più nel degrado nonostante lo era già da tempo. Però colgo anche le osservazioni che fa Auletta, che sono osservazioni corrette, visto che lì c'era un distributore di benzina e quindi sarebbe da capire se il sottosuolo ha dei problemi di bonifica, quanto va a costare questa bonifica e quindi anche secondo me, nel senso, come visione d'insieme si può trovare d'accordo, si può trovare d'accordo come gruppo PD, visto che la presione urbanistica c'era già, però sarebbe opportuno fare in modo preliminare, prima di prendere una decisione, un passaggio in commissione in cui si possa anche capire queste esigenze sotto l'aspetto della bonifica e sotto l'aspetto ambientale. Altrimenti anche noi non parteciperemo al voto. Ecco. Ringrazio. Se non c'è nessun altro intervento, passo la parola a Nerini per la lettrica per tre minuti. Prego, Nerini, la facoltà. Sì, grazie Presidente. Io ringrazio le solicitazioni che sia Biondi che Auletta hanno tirato fuori. La previsione del parcheggio c'è già, è quello che si diceva, c'è già la previsione del parcheggio, c'è già questa fascia rapportuale di rispetto. Infatti lo spirito è proprio quello di cercare di arrivare alla progettazione che possa comprendere anche il discorso della bonifica. Non vorrei sbagliare, ma sul piano della bonifica a quello che era dato a sapere c'erano già state fatte diverse cose quando è stato smantellato il distributore. Poi una predisposizione a parcheggio non credo che sia così talmente invasiva sul discorso. Ecco, anzi, sicuramente i vantaggi di un parcheggio lì sono superiori a tutto il resto. Comunque, io vorrei che questo atto fosse votato perché rimanesse come idea che vogliamo al quartiere fare qualcosa per un quartiere intangibile, di veramente effettivo sul quartiere che possa risolvere i problemi del parcheggio in quella zona. Le altre cose sono tutte logicamente a dire semmai in un secondo momento possiamo, quando c'è un'idea un pochino più precisa, tornare logicamente in commissione. Quello me lo faccio carico io. Ma mi piacerebbe che l'atto fosse intanto come idea portata avanti. Per cui ringrazio sia Biondi che Auretta. Grazie. Grazie a lei, Nervini. Consigliere Nervini, ora dichiarazione di voto, quindi un capogruppo suo delegato per tre minuti. Grazie. Paoletta, lego. Il capogruppo, diritti in comune, ne ha facoltà. Sì, grazie, Presidente. No, io riconfermo a questo punto la non partecipazione al voto, ribadisco, non è per pattannare alle calenne greche, ero disponibile a votarlo anche, diciamo, in un prossimo consiglio rapidamente perché non ho nessuna contrarietà, però alla luce del fatto che ritengo che questi aspetti per noi siano importanti da capire e da verificare, non partecipo al voto. Grazie, Nervini. Dò la parola al consigliere capogruppo, momento 5 stenda, Amore Gabriele, prego, una facoltà. Sì, no, anch'io ringrazio il Presidente per la parola, faccio tesoro degli insegnamenti del consigliere Maurizio Nerini che mi disse che era impensabile presentare una mozione dove si richiedeva la posizione di uno specchio parabolico in via Garibaldi perché aveva necessità di un passaggio in commissione, uno o più passaggio in commissione. Ritengo che questo intervento sia ancora più invasivo e ancora più delicato e che necessita di un'istruttoria ancora più importante rispetto a quella di mettere in un specchio parabolico in una via nonostante le richieste dei residenti per cui riteniamo anche noi di non partecipare al voto. Grazie. Grazie. Dò la parola a Nerini Maurizio, prego. Sì, grazie. Se sono contento in un certo qual modo di quello che ha espresso Paoletta non capisco altri tipi di affermazione se non quella che il Movimento 5 Stelle è contro l'idea di trovare soluzioni di parcheggio che è un problema che attanaglia un quartiere invece noi siamo favorevoli a cercare soluzioni. Grazie, Presidente. Grazie a lei. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto passiamo alla votazione per cui chiedo di aprire la votazione. Grazie. Grazie. Sì, si può aprire la votazione? Grazie. 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 Manca Mancini e manca Cognetti e manca il sindaco. Il sindaco ha votato quindi manca Mancini e Cognetti. Se per cortesia godete telefonarli un attimo sentire che problemi ci sono se ci hanno problemi di connessione andiamo avanti. Connessione dovuta magari alla Orphi o al suo tablet ovviamente non del sistema. Trapati, Toulaini e Mastag e Indini sono assenti risultano assenti con niente manca Cognetti perfetto allora gli sfruttatori un pulso con i che picchi se sono d'accordo sulla votazione io la proclamerei bene Presidente sì d'accordo grazie a tutte e tre quindi proclamo la votazione appena mi appare favorevoli ventuno contrari zero astenuti zero non espresso il voto otto assenti votanti quattro per cui approvato l'ordine del giorno numero due riqualificazione area ex di Straditore via Emina annessa alla proposta numero uno a questo punto passiamo alla dichiarazione dei voti per quanto riguarda la proposta numero uno per cui un consigliere prego do la parola un consigliere per gruppo cinque e tre minuti quindi do la parola alla consigliera Pichi Olivia partito democratico prego grazie Presidente dunque a me ogni tanto sembra di assistere a due mondi paralleli da una parte c'è il sindaco che fa un giusto richiamo istituzionale ad un senso di responsabilità e a un lavoro unitario come viene fatto nel governo in soprattutto sempre questo sarebbe utile sempre soprattutto in questa fase di emergenza legata alla pandemia e dall'altra siamo a discutere una variazione a cui noi non è stato dato nemmeno tempo non di fare proposte ma di visionare gli atti che sarebbe già un passo in avanti sarebbe già tanto e mi voglio sottolineare richiamando l'appello di Buscemi che le commissioni noi ben volentieri le vorremmo utilizzare ma che ogni proposta che viene portata in commissione solitamente o cade nel vuoto o alla fine occorre raccomandarci al presidente gennaio che ringrazio perché spesso non vengono nemmeno calendarizzati gli argomenti nei tempi che noi chiediamo e che pure depositiamo nel rispetto del regolamento detto questo io non mi sbaglio e l'ho detto nel mio intervento di apertura a nome del gruppo non è una questione di accreditarsi meriti l'ho detto prima ormai passato è passato e dovremmo anche parlare di cosa facciamo per la città e ha ragione il sindaco quando dice che i lavori sono in la città ma non mi sbaglio sottolineo solo l'atteggiamento della maggioranza che su finanziamenti che sono stati attivati ed ammessi dalla vecchia amministrazione che comunque sia giustamente e ha fatto bene l'assessore Latrofo a perfezionare gli atti ad integrarli sulle richieste anche in base a tutte le modifiche che erano necessarie perché era un percorso che andava certo portato a termine e non andavano persi dei finanziamenti che in qualche modo ringraziamo tutti gli uffici quelli di prima e quelli di ora perché stanno facendo quello che è il loro dovere ma che invece al contrario ha sempre un tono di scontro acceso quindi non è questione di meriti è questione di raccontare i fatti come stanno sul resto della variazione ci tornerò nell'altra dichiarazione di voto per le cose che mi chiedeva il sindaco il voto alla proposta è contrario del gruppo ma non certo perché siamo contrari ai lavori poi alla fine che si faccia una cosa prima o l'altra sono sempre lavori per la cittadinanza ma è l'impianto generale dove in un momento di questo tipo al di là di ciò che è necessario per il finanziamento il comune sceglie di non intervenire e di spostare la spesa corrente sugli investimenti sindaco è il contrario state facendo il contrario io sono d'accordo con lei che non è corretto diciamo da un punto di vista proprio di buona contabilità non vietato ma è per la critica all'impianto generale non certo sulla prima proposta in sé grazie grazie consigliere Olivia Picchi siamo a dichiarazione di voto della prima proposta se non ci sono altri interventi passiamo alla vota no c'è il consigliere Carlo Gruppo Letta Francesco prego e a facoltà apre il microfono perfetto io ritorno su alcune cose proprio perché noi invece gli atti li studiamo ci riguardiamo e li riguardiamo sempre e vediamo sempre le stesse cose e questo è il problema assessore c'è la vicenda di Palazzo Pretorio che viene riscritta e viene posticipata però poi ci viene raccontato che è assolutamente indispensabile farla quando uno dice guardate secondo noi in questa fase non è assolutamente prioritario e ci viene spiegato che invece è prioritario non se ne può fare altrimenti e poi se nel giro di sei mesi cambiate idea addirittura sul cos'è il prioritario evidentemente non è che noi lo studiamo è che le carte le avete cambiate in tavola mi pare talmente palese questa vicenda che proprio esplicita chiaramente qual è la situazione aggiungo quindi un'altra cosa su questo se si continuano i progetti nessuno vuole perdere i finanziamenti ci mancherebbe altro ma tutta la parte sugli investimenti non riguarda solo binario 14 riguarda altre cose e poi lo ritorneremo nella situazione di bilancio è stato spiegato chiaramente che parto dell'Amanso potrebbe essere utilizzato ampiamente in spesa corrente e che non era vincolata per gli investimenti chiudo sull'ultima cosa onestamente io mi esprimo non so se si riferisse a lui perché anche questa cosa qui non mi è piaciuta per niente l'assessore al consigliere Biondi che si è sentito tirato in causa come se ci fosse qualche consigliere comunale che essendo consigliere comunale progetta se qualcuno ha qualcosa da dire il consigliere Biondi poi ha esplicitato il suo caso e però lo dica perché io non l'ho capito a chi si riferiva l'assessore e lo trovo veramente cioè se c'è qualcosa che non funziona si espliciti lo si dica si faccia nome e cognome qual è il problema io sono grande e vaccinato quando chiamo caso in qualcuno lo chiamo per nome e per cognome anche nei casi di conflitti di interesse che ho detto apertamente che ho messo per iscritto lo si faccia in consiglio comunale ma non si tiri il sasso e si lanci la mano per cui personalmente se si riferiva al consigliere Biondi e al caso che lui ha esplicitato e che è stato affrontato anche in commissione ora non mi ricordo su quale progetto di piazza in questo istante lo si dica per cui onestamente io esprimo la mia solidarietà al consigliere Biondi si è stato chiamato in causa perché questo modo di non fare i nomi di tirare i sassi il sasso e poi riterare la mano a me onestamente non piace per niente grazie consigliere l'interfrancisco della parola ora al consigliere capogruppo di Rini Maurizio di Fratelli d'Italia prego la facoltà grazie grazie presidente a me piacerebbe spesso entrare nel merito ma non si può in fin dei conti di essere chiamato violento disonesto e becero sono stato io ci tengo a dire che non mi interessa il sesso l'orientamento politico o religioso di chi non la pensa come me ma solo la sua idea politica quando discuto con lui o lei con passione l'idea però ci deve essere sempre spesso non c'è spesso non c'è e non si è nemmeno originale si sposta l'attenzione si porta sul nulla si si propone il nulla si smuove il nulla si butta la palla in calcio d'angolo la proposta di calcetto perché non si hanno idee proprie con queste cose abituate questo vabbè comunque Antonio veronese noi non siamo bravi qualcuno come me ha anche il difetto secondo altri non essere meno laureato figurati un po' ci si prova ci si prova perché ce l'hanno chiesto Pisani il referendum l'abbiamo fatto nel 2018 e lo rifaremo nel 2023 vedremo ma abbiamo ancora tanto tempo per portare a compimento le promesse che abbiamo fatto i biondi voi dei piedisti i campioni mondiali di promesse avete lasciato la città inchiodata e ripiegata su se stessa con le promesse i progetti li continuiamo avanti quando possiamo quando ci possiamo mettere soldi come in questo caso ma la scelta è nostra la responsabilità è nostra fatevi una ragione per la visione di città dovete sfogliare sfogliare un po' il PUMS il piano strutturale la sera andate a letto così almeno vedete l'idea di città che c'è consiglio anche uno studio a tutte le pratiche del binario quattro si possono trovare tante cosine interessanti che si sia tra le figurette i progetti primiari non sono definitivi non sono gli esecutivi non sono le gare avviate che costano tempo lavoro per cui grazie all'assessore la crofa e grazie al suo staff grazie anche al sindaco da te sindaco imparo soprattutto mio amico la pacatezza e l'apertura noi realizziamo le vostre promesse e alla fine non oglieremo tanto quanto voi grazie presidente grazie a lei consigliere Marizio Nerini do la parola ora al consigliere di capogruppo Amore Gabriele del Movimento 5 Stelle prego una facoltà grazie no sì ancora una volta io ricordo a Nerini che oggi abbiamo istituito la giornata contro la violenza del Nerini per cui può stare tranquillo sarà tutelato il prossimo anno lo festeggeremo detto questo gli interventi dei consiglieri sono condivisibili quelli dell'opposizione e niente non aggiungo altro solo vedo che l'appello del nostro sindaco non è stato accolto perché si continua a parlare del PD del passato di cosa hanno fatto e spesso e volentieri questi attacchi di bassa di bassa lega diciamo avvengono dal centro-destra vi ringrazio se non ci sono altri interventi a questo punto passiamo alla votazione si sta votando la votazione della prima proposta DUP 2022 modifiche di programmazione triennale dei lavori pubblici 2020-2022 seconda variazione di integrazione del programma triennale dell'acquisto di beni e servizi sarà da votare DUP l'umediato secolto se si apre la votazione grazie 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 ma non si sente presidente ragione scusi manca l'aurora e manca gambini se volete sentire telefonicamente se non sono raggiungibili si chiude si chiude e si va avanti volevo chiedere scusa ma mi sarà staccato tutto chi è? sono Poli scusate no Poli è andato tutto bene ora ok grazie gambini si è assentato per una menzina di minuti va bene allora a questo punto se siete d'accordo voi scurtatori e quindi Punzo Policchia Picchi se mi date l'assenso d'accordo si manca una voce femminile manca Punzo Punzo si presidente grazie grazie Punzo allora chiudiamo la votazione approfitto per dire Punzo se lei va via credo alle 11 ma alle 16 alle 18 ve lo dica che scelgo un altro esclusatore favorevoli 20 contrari 9 astenuti 0 non l'espresso 0 assenti 4 approvato la proposta numero 1 la Punzo se mi vuole rispondere e così poi vado avanti come scrutatrice presidente no io ora le stavo scrivendo in privato forse le conviene nominare va bene allora faccio la se posso incollugarmi grazie grazie molto gentile Brunella è presente spero sì ho visto che ha votato per cui adesso si passa agli ordini del giorno per quanto riguarda la seconda proposta di qualificazione area no scusate esatto sbagliato c'è l'immediata esecuzione quindi si vota l'immediata esecuzione apriamo la votazione per l'immediata esecuzione si apre la votazione l'immediata se siete un pochino tutti accorti bravi vedo che la votazione va più veloce vi ringrazio manca Vargania Pasqualino Fannocci Aurora Gambini Serfogli Conti Michele Manca Mannocci Gino Aurora Aurora votato Mannocci Gino Serfogli Andrea Gambini Giulia ma la Gambini Giulia si è assentata si vota Serfogli se no Mannocci Gino se volete chiamarli telefonati per sapere se ci sono dei motivi tecnici per cui non possono votare si chiude la votazione non ho sentito scusa presidente ma è andata via la voce allora bisognerebbe votare per l'immediata esecuzione scusami grazie no no scusi beh Serfogli Andrea e Gambini Giulia non c'è se Serfogli Andrea lo volete contattare un attimo se non risponde si va perfetto allora se siete d'accordo scusatori io chiamo Picchi Balbuti Colecchia io chiuderei la votazione io sono d'accordo presidente è d'accordo tutti sì benissimo allora chiudiamo la votazione così proviamo la votazione se per cortesia vi fate vedere i risultati della votazione così proviamo la votazione dell'immediata esecuzione grazie evidente abbiamo avuto dei problemi eh sì eh la dobbiamo rifare un attimo va bene riapriamo la votazione ah ok se puoi riaprire la votazione mi fa una gentilezza ora immaginiamoci quando si arriva a bilancio se ci sono da votare si perde tutto questo tempo è aperta la votazione grazie 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 se volete votare tutti per gentilezza per l'immediata esecuzione per quanto riguarda la prima proposta grazie abbiate paziente scusateci ma i problemi tecnici sono dietro l'angolo se non mi ha sentito ma no ci ripeto bisogna rivuotare Poli Veronica bisogna rivuotare Puzzo bisogna rivuotare se c'è sempre Cognetti Cognetti bisogna rivuotare Puzzo forse è andata via ma Cognetti deve votare anche anche Biondi e allora manca solo Cognetti se per cortesia telefonate per sentire se è successo qualcosa wifi o connessione grazie ha votato perfetto allora Puzzo sarà andata via come abbiamo dichiarato per cui se siete d'accordo scrutatori Balbuti Picchi Colecchia vi date una voce sì presidente sì poi Colecchia d'accordo avete dichiarato tutti che è d'accordo quindi si chiude la votazione e programma la votazione programma la votazione programma la votazione favorevole diciannove contrari nove astenuti zero non espresso zero assenti dei votanti cinque approvata immediata esecuzione si passa quindi al primo ordine del giorno delle bilanci di previsione duemilaventi duemilaventidue interventi per garantire diritto all'abitare a fronte dell'emergenza economica sociale e prorogare gli sfratti presentato dal consigliere della rete di vinti comune prego con le denuncelle e le acqua cortate sì grazie presidente io già l'avevo accennato nel mio intervento introduttivo questo fa seguito a tutta un'altra serie di ordini del giorno e di proposte che in tutti questi anni e poi in particolar modo dal marzo di quest'anno stiamo avanzando per cercare di dare indicare alcune proposte alcune linee guida al nostro avviso di intervento prioritario per cercare di garantire il diritto all'abitare in una situazione di emergenza perché è evidente che la questione abitativa proprio all'emergenza covid rischia di diventare la vera bomba sociale da qui nei prossimi mesi e allora qui noi sostanzialmente avanziamo un tema fondamentale che già avevamo riproposto negli scorsi mesi che a questo punto però deve essere in qualche modo a nostro avviso assunto in tutti quanti i comuni cioè la questione del blocco dell'esecuzione degli sfratti per morosità incolpevole e la necessità che vi sia una proroga del blocco degli sfratti al noi indichiamo settembre 2021 perché poi questa è anche diciamo la richiesta che viene dal mondo di tutte le organizzazioni sindacali degli inquilini dal mondo degli associazioni dei movimenti dei comitati dell'abitare perché è evidente che la scadenza degli sfratti attualmente prevista al governo non è assolutamente sufficiente per far fronte a una situazione che abbiamo già visto anche nel nostro territorio sulla morosità incolpevole riesca a diventare esplosiva non si può essere cacciati di casa se si è perso il lavoro o non si può in grado di essere pagare regolarmente quindi lo sfratto per morosità incolpevole a nostro avviso vista la situazione di emergenza deve trovare una prosecuzione fino al settembre 2021 e questa è una richiesta che secondo me i comuni a partire dal nostro devono rivolgere al Parlamento e al governo quindi una proroga degli sfratti per morosità incolpevole almeno fino al settembre del 2021 perché ribadisco gli effetti sociali di questa emergenza si faranno sentire sempre più quindi io credo che su questo così come è avvenuto in prima occasione la mobilitazione da parte dei comuni che poi sono quelli che devono affrontare materialmente sul territorio quando una famiglia o un nucleo familiare di singoli cittadini finiscono in mezzo a una strada sia una questione di carattere fondamentale dall'altro lato noi l'abbiamo già detto lo continuiamo a dire le abbiamo messi nelle premesse perché sono dei dati di fatto i finanziamenti che il governo e le regioni hanno dato la regione toscana sul contributo all'affitto noi riteniamo così come dicevo prima dell'intervento che ho fatto cioè si dà atto delle cose che sono state fatte ma a nostro giudizio queste non sono assolutamente sufficienti alla luce della gravità della situazione sociale che c'è quindi una richiesta al governo e alle regioni di un rifinanziamento dei fondi del contributo affitto per far fronte all'aumento delle richieste anche perché la riproposizione e rifinanziamento da parte del Parlamento e delle regioni del contributo per l'amorosità incolpevole per il contributo all'affitto può essere uno di quei modi che serve a calmierare in qualche modo il fenomeno dell'amorosità incolpevole l'altra questione che noi abbiamo detto più volte rispetto alla questione delle procedure all'accorpamento delle procedure per il sostegno all'affitto al contrasto dell'amorosità incolpevole tenendo anche conto del divario digitale tra la popolazione anche questo noi riteniamo che sia una di quelle richieste che vada fatta a livello centrale altra questione che secondo noi è assolutamente fondamentale da parte del governo e delle regioni che detengono grossa parte il patrimonio pubblico è riuscire a individuare tutte quante quelle aree di proprietà statale e regionale che possono essere compatibili con finità residenziali sulle quali si faccia dei seri investimenti di autorecupero del patrimonio perché è vero che serve un grande piano dell'investimento sull'edilizia popolare ma serve anche un grande piano di recupero del patrimonio pubblico abbandonato sul quale lo Stato e le regioni oggi dovrebbero investire tra l'altro su questo visti i fatidici fondi recovery fund noi riteniamo che dal punto di vista delle politiche nazionali sarebbe una cosa fondamentale se in tutta Italia si facesse un grande piano di recupero a fini residenziali del patrimonio pubblico abbandonato e quindi su questo avanziamo questa proposta per quanto invece nel dispositivo riguarda gli impegni rispetto all'amministrazione comunale perché i primi tre sono invece rivolti alla regione del governo noi riteniamo che una funzione di monitoraggio del rapporto fra domanda e offerta quindi in un rapporto sinergico e un tavolo di continua discussione sia con gli inquilini sia con i proprietari per capire appunto se domanda e offerta come se si incontrano alla luce della crescita e della morosità incolpevole sia un punto a nostro avviso indispensabile noi riteniamo su questo l'abbiamo detto altre volte che anche calmerare il prezzo del mercato degli affitti sia una priorità in questo momento fondamentale ma ribadisco il ruolo oggi del comune deve essere in primo luogo quello di stimolare il governo rispetto alla pressa di assunzione di un provvedimento che a nostro avviso è imprescindibile perché il fenomeno dell'amorosità incolpevole sarà sempre più crescente e questo è determinato da qualsiasi analisi sulla crescita della povertà nella nostra nel nostro paese e anche nella nostra città cioè quella cosiddetta fascia grigia non esiste più e sta scendendo verso una fascia di povertà e allora su questo bisogna individuare degli strumenti adeguati per garantire un tetto a tutti perché la casa è un diritto in primo luogo e allora è un diritto lo dobbiamo garantire e nello stesso tempo ribadisco politiche di finanziamento affinché l'amorosità incolpevole possa essere in qualche modo calmirata quindi ripotenziamento rifinanziamento dei contributi affitti a tutti i livelli da quelli comunali a quelli regionali queste sono le proposte che noi avanziamo noi abbiamo indicato anche negli spetti nel nei piani comunali rispetto a una calmirazione degli affitti e ovviamente la questione della perdita di reddito a causa dell'emergenza deve essere a nostro avviso il parametro eh fondamentale su cui intervenire queste sono delle proposte a nostro avviso veramente di buon senso ma che oggi sono prioritarie se effettivamente quel diritto alla casa di cui tanto si parla possa essere garantito e oggi questa a nostro avviso è la la priorità numero uno rispetto alla possibilità poi di poter proseguire una vita degna e quindi avere un tetto sopra la testa e per questo servono risorse arriveranno delle risorse bene si mettono sulla sull'edilizia residenziale pubblica che a nostro avviso è fondamentale con un grande piano di recupero a livello nazionale che il governo deve finanziare queste sono le proposte che noi avanziamo ribadisco proposte di buon senso proposte che vengono dai sindacati dei movimenti dell'abitare dai comitati cittadini e che penso che possa essere parte di una grande campagna che dai comuni parte per chiedere una proroga degli sfratti per morosità incolpevole almeno fino al 2021 perché qui purtroppo se l'emergenza prosegue le necessità i bisogni cresceranno ulteriormente grazie Eoletta do la parola ora per il dibattito al consigliere capogruppo Forza Italia Buscemi Riccardo prego e a far portare Sì grazie presidente mi ha colpito quello che dice effettivamente il capogruppo Aoletta scusate che sto cercando gli appunti che farò anche senza se non alla fine quello che dice che di fronte quando dice che di fronte a questa emergenza le risorse stanziate dal governo dalla regione sono sono diciamo purtroppo non risolutive lui scrive proprio nei preamboli purtroppo non risolutive noi siamo pienamente consapevoli di questa emergenza abitativa e vogliamo dire che lo Stato non si sta facendo pienamente carico del problema perché la vicenda anche di proroga degli sfratti è vuol dire scaricare sui proprietari questa diciamo questa urgenza che ovviamente emergenza che ovviamente con la pandemia si è resa ancora più difficoltosa però noi abbiamo anche un senso di dovere di tenere conto anche che se non fossero prorogati questi sfratti poi ci sarebbe diciamo una bomba sociale e poi ci sarebbe da domandarci ma sarebbero in grado i servizi sociali l'apparato di in qualche modo fronteggiare quello che è una 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 situazione che la pandemia sta soltanto diciamo peggiorando quindi si condivide in qualche modo la disamina devo dire che è messa nelle nelle nella diciamo nei preamboli e quando soprattutto quando dice che il sostegno le forme di sostegno al reddito sono necessarie perché non è stata sufficientemente colta la grave emergenza che si è aperta sul fronte abitativo io lo dico con grande sincerità non voglio ripeto polemizzare ma secondo me questo consiglio comunale questa riunione del consiglio comunale purtroppo in genere lascia uno spazio a cose diciamo non essenziali cioè si polemizza inutilmente mentre invece si polemizza inutilmente e si pecca di lesa maestà se qualcuno dice le cose che vengono scritte anche nero su bianco dal consigliere Auletta ma cercherei appunto di riprendere di riassumere responsabilmente il nostro ruolo di concentrarci veramente sulle cose essenziali e quindi senza divagare troppo vorrei dire che noi saremmo favorevoli a votare questo giorno e per quanto riguarda l'invito al Parlamento e al Governo di prorogare disfratti per morosità incolpevoli fino a settembre 2021 e per quanto riguarda la richiesta al Governo alle regioni un rifinanziamento dei fondi e poi anche questo è vero una semplificazione delle diverse procedure per il sostegno all'affitto io vi devo dire che in questo periodo sono stato contattato io personalmente più non dico da tante persone ma per me sono tante una decina di persone che mi chiedevano aiuti per per compilare la modulistica che in alcuni casi è veramente complicata io voglio ringraziare in questo caso lo faccio pubblicamente l'Unione Inquilini perché spesso e volentieri quando si verificano queste situazioni faccio una telefonata e devo dire che sono sempre accolto con grande amicizia e simpatia che ricambi ovviamente e quindi assolvono la mente a questo però devo dire che è effettivamente un mondo un mondo diciamo difficile quello con cui bisogna accidentarsi quindi l'invito alla semplificazione è importantissimo come anche è importantissimo l'individuazione di immobili pubblici inutilizzati si parla spesso anche di fondi immobiliari i fondi immobiliari pubblici ogni tanto c'è stata qualche qualche sortita c'è sempre ecco potremmo dire che fondi pubblici immobiliari sociali ecco in questo caso io penso che sarebbe diciamo una una bella cosa però insomma anche qui la necessità di individuare fondi pubblici per con le finalità residenziali penso sia importante voglio ricordare fra le altre cose che questa amministrazione quindi il sindaco Conti lo dico perché qualcuno sembra diciamo di sempre forse a volte troppo aggressivo nei confronti di questa amministrazione però ha ha destinato alcuni immobili di proprietà comunale già destinati alla vendita a finalità sociali quindi siamo disposti vorrei chiedere una cosa chiedo al consigliere Auretta di tutto bene chiederemo di cassare l'ultima parte l'ultimo dispositivo laddove impegna la giunta attivarsi per un tavolo di monitoraggio anche perché esiste già un tavolo di questo genere quindi sarebbe una cosa ridondante e comunque potrebbe anche essere onerosa sugli uffici che già in questo momento stanno già affrontando un'emergenza da pandemia grazie 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 al consigliere Buscemi do la parola al consigliere Olivia Picchi Partito Democratico prego la facoltà per tre minuti grazie presidente io ringrazio invece il consigliere Oletta di aver posto il tema perché è un tema che c'è c'è di non è la normalità ed oggi ovviamente c'è di più non ripeto le cose che sono evidenti a tutti e che conosciamo tutti io penso che insomma non ho non so poi sull'emendamento ovviamente Oletta cosa farà ma credo che invece il comune su questo debba svolgere un ruolo perché si parla e anche forte sia sul territorio perché si parla comunque di cittadini che si ritrovano oggi più che mai in difficoltà senza lavoro comunque con orari ridotti o negozi chiusi perché pensiamo anche a questo e come sono assolutamente favorevole allo stimolo alla regione dal governo per quanto di competenza a intervenire su questo tema e a farsi carico del problema io alcune cose sono già state fatte il credito d'imposta e anche il bandaffitti che questo comune ha fatto ma sono tutti interventi che ricadono anche sugli inquilini ma sono rivolte ai proprietari ora io non ne vorrei fare una lotta di classe perché non è questo veramente il tema ma dobbiamo renderci conto che l'inquilino fra i due è sicuramente la parte debole noi ecco dobbiamo sforzarci di fare questa riflessione che oltre a non pagare l'affitto perché magari in qualche modo l'aiuto al proprietario è arrivato sono persone che rischiano di perdere un tetto sopra la testa per essere o questa volta volutamente retorica e prendere e usare un detto un detto comune ma che rende benissimo l'idea quindi non mi preoccuperei di come fare un tavolo o se quello che c'è è sufficiente o meglio dipende se quello che c'è è sufficiente ma un'azione mirata anche del comune che deve essere parte di un'interlocuzione istituzionale anche alla luce di quello che il sindaco diceva prima io lo ritengo uno dei primi doveri dei consiglieri grazie la consigliera Pinti laudetta se mi dispiace faccio parlare prima amore consigliere amore Gabriele del Movimento 5 Stelle prego la facoltà chivo l'audio mi sentite? sì grazie presidente io accolgo con un plaudo l'ordine del giorno del consigliere Auletta siamo in una situazione talmente drammatica per cui appunto si ritorna al ragionamento che facevamo precedentemente ci sono delle priorità oggettive per cui tutte le risorse economiche vanno devono andare non in maniera proporzionale ma invezzamente proporzionale dedicate nei settori e nelle categorie sociali e della società che viviamo che soffrono maggiormente soffriamo tutti e a tutti i livelli soffrono anche chi vive nella giatezza e che è riuscito negli anni per merito e per fortuna a mettersi da parte delle risorse che gli permettessero di avere in un periodo così disastroso un minimo di serenità per cui ripeto la priorità è inversamente proporzionale alla capacità di autosostentarsi auspico che gli interventi del comune per quanto di loro competenza seguano questo pensiero questa direttiva per cui mi ricordo già in periodo pre-covid quando l'amministratore di Apes si presentò in commissione 2 e disse che era intenzione sua quella la volontà sua quella di rientrare in maniera decisa importante di quelle che erano le morosità colpevoli io ritengo che dopo un anno di disastro determinato da fatti oggettivi e obiettivi e condivisibili non ci sono più morosità colpevoli sono tutte incolpevoli siamo in una situazione talmente di tale disagio e preoccupazione per cui la richiesta del considerio letta del suo gruppo condivisa dalle minoranze non può che non essere condivisa e il mio auspicio è che la mente che l'attenzione vada su questo principio non si può che ripartire dai più bisognosi in questo momento perché se noi già viviamo e fortunatamente chi più chi meno vive una situazione di giusta serenità ci sono persone che stavano male molto prima molto prima della pandemia e non oso pensare come possono stare adesso non solo a livello proprio economico ma anche a livello emotivo e psicologico per cui ringrazio il consigliere Auretta del suo ordine e ho concluso grazie a lei consigliere d'amore do la parola a questo punto per quanto riguarda la replica finale al consigliere gruppo vinto in comune Auretta Francesco prego la facoltà sì presidente io non ho capito una cosa però della richiesta di emendamento del capogruppo Buscemi cioè se chiede di togliere quindi l'ultimo paragrafo del dispositivo o gli ultimi due cioè ho capito solo l'ultimo quello rispetto ad attivarsi di concerto con la prefettura volevo capire qual era la proposta di emendamento e che non mi era chiara se ero solo l'ultimo paragrafo o gli ultimi due ecco non avevo capito questo se gentilmente mi si può chiarire in modo tale così posso anche rispondere sull'emendamento richiesto e poi intervenire eh scusi avrete finito mi scusi no io ho chiesto un chiarimento a Buscemi sull'emendamento se riguardava l'ultimo paragrafo o gli ultimi due per poter rispondere sull'emendamento richiesto e fare le conclusioni perché non mi era chiaro dalla cosa che aveva detto onestamente perfetto allora do la parola a Riccardo Buscemi per questo piccolo chiarimento e poi andiamo vedo che si è prenotato apre il microfono e può parlare grazie Riccardo Buscemi scusate sì no ho chiesto ripeto allora siccome mi mi incalzava il presidente riguardo al dispositivo che impegna la giunta quindi mantenere la prima parte a monitorare l'evoluzione eccetera eccetera e accassare l'ultimo quindi attivarsi il concetto con la prefettura anche perché vi dicevo esiste già come fra te cose si parla ho letto la commissione territoriale e quindi diciamo per evitare anche di fare un doppione di gravare gli uffici che già in questo momento stanno che voglio ringraziare fra le altre cose perché stanno affrontando l'emergenza lavorando insomma in maniera egregia quindi ripeto un grazie da parte mia del mio gruppo di Forza Italia agli uffici per evitare di gravare ulteriormente di cose che poi esistono già quindi se viene accettato questo emendamento io sono voto a favore grazie prego quindi do la parola adesso al consigliere capogruppo Polite Francesco prego la favore si grazie presidente chiarisco subito che l'emendamento è accettato quindi tolgo l'ultimo paragrafo del dispositivo come proposto e richiesto dal capogruppo Buscemi intervengo diciamo sul ringrazio per le forze politiche che si sono espresse nel dibattito rispetto a quello che diceva la consigliera Picchi un po' sullo stile anche della discussione che abbiamo fatto oggi nelle premesse infatti è specificato che la regione toscana ha stanziato ad oggi 23 milioni di euro questo mi sembra che richiamava anche lei che sono poi stati distribuiti su tutto il territorio toscano io credo che oggi in una fase così difficile sia serio dire le risorse che ci sono quello che non c'è e quanto serve per affrontare l'emergenza infatti ricordavo anche il capogruppo Buscemi noi utilizziamo questa espressione nonostante questi finanziamenti non risolutivi ecco noi a nostro avviso credo che sia sotto gli occhi di tutti indipendentemente che c'è un'emergenza abitativa con una pressione sulla morosità incolpevole sempre più crescente a cui provare a dare alcune risposte nella variazione nella discussione sulla bilancio preventivo credo che poi a quel punto sarà soprattutto il momento in cui dovremo definire noi le risorse gli interventi che facciamo sull'emergenza abitativa la definizione di quelle che saranno le politiche comunali quindi a me va bene mantenere ad oggi solo il monitoraggio che mi sembra una cosa importante ribadisco nel rapporto diceva anche il capogruppo Amore fra domande offerte rispetto a una situazione che è sempre più crescente ma in cui la priorità sulla tutela del diritto degli inquilini in una fase così complessa è assolutamente determinante io mi auguro che questa mozione possa passare perché ribadisco la proroga sugli sfratti e il rifinanziamento del contributo affitti è oggi una partita di rimente che riguarda la condizione materiale di centinaia di persone nella nostra città e di milioni di cittadini in tutto il territorio nazionale perché purtroppo i dati che noi abbiamo sui livelli di disoccupazione e riduzione dei salari sono evidenti a tutto e tutto questo se non si ha neanche un tetto dove stare è evidente che poi tutto questo va a ricadere ancora di più sugli enti di prossimità e rispetto alla domanda che veniva fatta nessun comune oggi di qualsiasi colore politico è attrezzato per dare delle risposte adeguate a tutti i cittadini cosa che invece lo Stato deve necessariamente fare quindi presidente autoemendo il testo togliendo accogliendo la proposta di Buscemi toglie l'ultimo paragrafo perfetto emendamento accettato allora a questo punto c'è la dichiarazione di voto uno per gruppo per tre minuti se non c'è nessuno che si prenota passerei alla votazione no c'è Veronese Antonio consigliere capogruppo fatto civico prego la facoltà seconda dichiarazione di voto grazie presidente perché avevo perso l'occasione per per discutere la prima approfitto con la dichiarazione con la dichiarazione di voto io ho apprezzato molto l'intervento del sindaco quando ha fatto richiamo istituzionale per essere uniti in un momento così difficile superare le divisioni quindi approvare l'ordine del giorno del capogruppo Auletta che anche io ringrazio per averlo presentato va senza dubbio in questa direzione perché queste categorie non solo pagano l'emergenza sanitaria ma pagano anche l'emergenza abitativa quindi votare quest'ordine del giorno all'unanimità è un grande segnale di sostegno e di vicinanza del consiglio comunale ai soggetti più fragili grazie presidente grazie a lei consigliere Lonesi a questo punto se non ci sono altri interventi per la dichiarazione di voto passerei a prima votazione prego potete regia a prima votazione si vota quindi il primo ordine del giorno ed è presiduito da interventi per garantire il diritto dell'abitare a fronte dell'emergenza economica sociale da degli strati presentata al consigliere Olitta in base di un emendamento per la seconda proposta rilancio di previsione io comincio a essere fatto e poi voglio tutto quello che mi distoglie si mette allora faccio presente agli scrutatori che Tolaini ha dichiarato che è andato via basta lo stesso Scogliamino lo stesso e anche Manno Cicino ha dichiarato che è andato via Cadini è già assente del suo per cui Rapunzo uguale per cui manca Nicolai anche la Gambini mi sembra se non è rientrata è assente è l'aurora presidente manca l'aurora se potete telefonare all'aurora Nicolai Francesco e Gambini mi fate una gentilezza allora Nicolai Francesco e Gambini Giulia potete telefonare entrambi e mi avvertite se non rispondono vado avanti facciamo subito presidente prego siamo in linea con i consiglieri presidente adesso le diamo notizie sì manca manca Nicolai Francesco e Gambini Giulia i Gambini sì se non rispondono chiudo la votazione signore ma io a questo punto a quest'ora non ho più tempo di stare aspettare per cortesia mi date risposta se rispondono al telefono la consigliera Gambini non ha risposto al telefono poi Nicolai Nicolai ha votato perfetto allora se non ha risposto io chiedo conferma all'iscrutatore Balbuti Picchi e Colecchia siete d'accordo io sono d'accordo presidente d'accordo presidente d'accordo Colecchia per cui chiudo la votazione proviamo la votazione favorevoli 25 contrari 0 astenuti 0 non espresso 0 assenti 8 quindi all'unanimità è stato votato l'ordine del giorno numero 1 passiamo all'ordine del giorno numero 2 azioni positive per il contrasto alla violenza legata al genere all'alentamento sessuale alla diversità presentato al consigliere Picchi e basta per cui do la parola al consigliere Picchi per esporre l'ordine del giorno prego andiamo a facoltà se si prenota mi fa la gentilezza così posso dare la parola mi raccomando se anticipate chi vuol parlare il tempo di prenotazione per chiedere la parola così si non chiedo proprio humilmente senza preghese grazie andai la parola Picchi Olivia ma bisogna che Picchi un attimino e apre il microfono bravo sì grazie presidente ma non mi prendeva la prenotazione mi scusi e sono partita tardi no no ci mancherò grazie presidente abbiamo parlato tutto il giorno anzi colgo l'occasione per ringraziare i colleghi e le colleghe che hanno espresso e sottolineato l'importanza anche del linguaggio esprimendomi solidarietà ma abbiamo parlato tutto il giorno del tema della violenza sulle donne della giornata di ieri che è appena trascorsa se c'è un qualcosa che accomuna o perlomeno è a fondamento di quello che rappresenta la giornata internazionale del contrasto alla violenza sulla donna è quello di contrastare i crimini d'odio e iniziare come società a farci carico di linguaggi culture diverse non sono solo le donne ad essere oggetto di discriminazione ma lo sono gli omosessuali lo sono i disabili lo sono tutte coloro donne uomini che siano che in qualche modo per scelta per caratteristiche fisiche per provenienza geografica fuoriescono da quelli che sono da quello che è il modello che in qualche modo ci hanno inculcato nel tempo come modello di riferimento e anche un modello che troppo spesso ancora sulla televisione sulla stampa continua ad essere promosso i dati sono allarmanti nel 2019 sono dati gli stat al numero nazionale di antiviolenza e stalking sono arrivate oltre 15.000 chiamate legate a crimini d'odio i reati legati all'orientamento sessuale hanno interessato 200 persone sul territorio nazionale e cosa più allarmante si è registrato nell'ultimo anno un aumento del 30% le donne vittime di violenza e stalking che si sono rivolte al numero nazionale sono oltre 5.500 se avete avuto modo di leggere il rapporto della casa della donna di Pisa 1.300 telefonate nel 2019 fra giugno e luglio quindi subito post il primo lockdown si è avuto un picco di 30 donne di media al mese e soprattutto e soprattutto è un dato ancora che semmai aggrava ancora la situazione è che rispetto al passato si ha un aumento sensibile nella fascia d'età di 18 e di 29 anni cosa che ci dovrebbe far riflettere perché significa che anche nelle fasce giovani noi abbiamo un problema di rispetto delle donne e di rapporto fra i due i due generi il 23% dei ragazzi fra gli 11 e 17 anni sono stati vittima di bullismo oltre il 5% delle vittime sono diversamente abili da un punto di vista o fisico o psichico o entrambi e sono numeri che a seguito della situazione di lockdown non hanno fatto che peggiorare se tutti noi pensiamo anche a Pisa quello che succede che ci ha riportato la stampa cittadina anche noi come città siamo stati di teatro di violenze di di violenze sulle donne di violenze contro coppie gay e anche se vi ricordate del grande tema del reverse porn subito da delle ragazze giovanissime delle nostre scuole quindi io credo che nel momento in cui si fa programmazione o comunque sia si sta parlando di appunto cosa fare con e quali azioni intraprendere vado al dispositivo io si impegna il sindaco e la giunta a prevedere nella prossima variazione di bilancio fondi specifici e quindi anche legati ovviamente a progetti per attivare politiche attive di contrasto alla violenza e la lotta degli stereotipi contrasto alle discriminazioni di qualunque tipo coinvolgendo le associazioni che su questo possono dare una mano sia da un punto di vista di dati che di idee e progetti da poter mettere in campo e le scuole del territorio comunale non solo perché in qualche modo io non dico sono i cittadini di domani anzi sono i cittadini di oggi ma sono quelli che gestiranno la società domani ma perché i fenomeni sia di bullismo che di riverge porn che di violenza legato alla discriminazione per orientamento sessuale sta interessando fasce d'età sempre più basse e quindi l'attivare un dialogo con la scuola ci sono già progetti nelle nostre scuole ma rafforzare questo aspetto mi sembra una cosa essenziale grazie 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 Scusate, ma era il telefono con il mio vicepresidente vicario, do la parola adesso a Riccardo Buscemi, scusatemi, consigliere capogruppo, prego, della Forza Italia. Sì, allora, voglio dire, noi riconosciamo molto l'importanza di quello che la consigliera Picchi ha enunciato. Vorrei però fare una premessa. Ieri abbiamo parlato di violenza, perché oggi quello che è successo, qualcuno ha voluto drammatizzare, sono state una discussione tra consiglieri comunali uomini, tra consiglieri comunali donne, perché nessuno ha voluto usare violenza. Sennò si cerca di equivocare e di non dare una corretta, diciamo, riportare la cronaca di quello che è successo. Perché io posso essere anche vehementemente contrario a quello che dice Olivia Picchi, consigliere comunale, può essere donna, può essere uomo, ma questo non significa che io le porto manco di rispetto. Ciò ho detto, vorrei che fosse chiaro questa cosa, perché se no si cerca, si rischia di inibire me se voglio contestare qualcuno, perché il mio interlocutore è donna, un interlocutore è uomo, insomma, creiamo le cose. Quindi ci ho detto, io non entro nel merito di questo ordine del giorno, ma rinnovo l'invito che ho fatto precedentemente. Quindi di ritirare, per poter discutere, lo dico consiglieri a Picchi, lo dico a te in questo momento, poi lo dico a tutti i proponenti degli altri ordini del giorno, che ho già detto, scusate, lo ripeto perché ho letto, mi sono preso degli appunti, gli ordini del giorno 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'è la disponibilità, se si ritirano, di affrontare la discussione in commissione, di trovare, di accogliere parzialmente o totalmente una parte, cioè le richieste che sono contenute, quindi degli ordini del giorno, quindi accantonamenti di somme, perché poi, se no, si rischia di fare come l'altra volta, come sull'ordine del giorno sulla Tari, che siccome noi abbiamo voluto fare una, abbiamo chiesto di fare una preventiva d'esamina con sedi e con ragioneria di quelle che sono le potenzialità del bilancio, anche perché il sindaco nella precedente relazione ha ricordato come si sia ridotto l'avanzo di gestione per effetto della situazione, quindi noi vogliamo fare preventivamente una esamina in commissione, annunciando che se ci sono le condizioni si possono anche, diciamo, individuare il tipo di intervento e ovviamente finanziarlo, se ci sono le condizioni. Altrimenti noi siamo costretti a votare contro, non perché vogliamo votare contro questo ormai giorno sulla violenza di genere, scusate, sto leggendo, sulle azioni positive contro la violenza di genere, noi perché vogliamo votare contro i fondi per le attività culturali, per i concorsi di presentazione, le politiche in contrasto alla povertà, per i studenti con disabilità, fra parentesi, il garante di disabili è un'idea del centro-destra ed è grazie al centro-destra che esiste, risorse per la connettività nelle scuole e nelle case, anche qui bisogna parlare e capire, non può essere tutto a carico del comune, c'è un problema anche di rete, subiare le cascine e valorizzazione della tenuta di San Russore, è curioso affrontare questa cosa, mi divertirò a parlare dell'atteggiamento del parco, della direzione del parco, e sostegno alle associazioni sportive, che non siamo disponibili a fare. Se si ritirano e si affronta in commissione l'iter, si può costruire insieme quale progetti e come finanziare, altrimenti si deve votare contro, ma lo dico, non si venga a dire giorno dopo con la giornalata che il centro-destra è favorevole alla violenza di genere, perché non è vero, perché sarebbe una mistificazione, che non vogliamo dare fondi per attività culturali, tra le altre cose è uscito proprio in questi giorni il bando per le associazioni, né che vogliamo favorire, vogliamo in qualche modo partecipare ai concorsi di progettazione attingendo anche i fondi che ci sono, né che vogliamo fare la politica contrasta della povertà nel territorio del comune alla luce dell'emergenza, tra le altre cose sono cose che abbiamo ampiamente illustrato anche nelle relazioni del sindaco, né che siamo favorevoli ai studenti con disabilità, né che non vogliamo una città più connettiva, né che non vogliamo valorizzare l'area di Repia e viare delle cascine, né che non vogliamo sostenere la situazione sportiva, perché noi stiamo dicendo un'altra cosa, si può fare quello che è richiesto in questi ordini di regione con un metodo, altrimenti se non si vuole condividere un metodo, non ci si vuole mettere intorno a un tavolo, un tavolo allora il voto poi non può che essere contrario. Grazie. Ringrazio il consigliere Riccardo Guscemi, mi assento un attimo e do la guida del consiglio alla vicepresidente vicario Riccardo Benedetta. Grazie. Intanto dà la parola al consigliere capogruppo con l'Inti Paolo, gruppo Lega, prego, la facoltà, siamo in fase di dibattito per quanto riguarda la seconda ordine del giorno. Prego. Grazie consigliere. No, noi siamo contrari, prima di tutto perché è difficile emendare un'impostazione politica e mentale che ci presenta la sinistra. Cioè l'Olivia Picchi elenca una serie di dati ovviamente veri, una serie di criticità ovviamente veri. Il problema è l'impostazione. Cioè tanti di questi reati che vengono elencati sono un problema di questura. Ci può essere un problema di, certamente di stereotipi, un problema culturale, ma non è solo un problema culturale. Perché non si può essere garantisti sul mondo intero, garantisti su tutto. E poi quando ci si accorge che vi sono violenze sulle donne, bullismo, eccetera, fare marcia indietro, non sapere che pesci pigliare e buttarlo sul culturale. Certamente c'è anche da applicare dei percorsi, ma è inutile nascondersi dietro un dito. Vi sono dei problemi di ordine pubblico che vanno trattati come tale. Vi sono dei percorsi da fare ovviamente, ma certamente non basta riempirsi la bocca con i percorsi a scuola, cercare di cambiare la mentalità o quant'altro. Non basta, non è solo quello. Non solo ordine pubblico, ma non solo certamente politichese. Perché il bullo e il violento, Olivia, che sia napoletano, che sia scandinavo o che sia tunisino, che picchia la moglie anche per motivi culturali, per esempio, sono tutti esempi che faccio, a un certo punto viola un codice penale. Quindi è inutile che continuiamo a creare e a girarci intorno. Cioè abbiamo la Costituzione bellissima, abbiamo dei codici esaustivi e questi vanno rispettati. Tutto il resto non serve assolutamente a niente. Ha concluso? Bene, allora la parola al consigliere Gabriele Amore. Mi sentite? Mi sentite? Sì, sì, forte e chiaro. Scusate perché io sono ancora cervo di politica, perché ho sentito le dichiarazioni della destra e del centro-destra rispetto a questo ordine di giorno, dove il più di problema, io mi ricordo quando il capogruppo, ora capogruppo, una volta non lo era, ora capogruppo Cognetti disse qualunque cosa presenta cicciaoletta, noi nemmeno la leggiamo, noi la votiamo contro a prescindere. Sembra anche ora che questa cosa accada anche con qualunque cosa viene proposta dal PD, di perché, di fatto, in questo ordine di giorno, viene data carta bianca alla Giunta e al Sindaco. Non è che vengono vincolati, lì si chiede di investire un tot di fondi che invece magari la trofa vorrebbe spendere per fare l'aiuole, piuttosto che investire nell'assunzione di un altro vigile urbano, disse la carta bianca, si dice di prendere atto di quella che è la realtà delle cose, che il 23% dei ragazzi tra gli 11-17 anni sono vittima di bullismo, che il 5% delle vittime sono diversamente atti, che c'è un lockdown che aggrava la situazione di fatto, che c'è una violenza diffusa nei confronti delle donne, di stalking che si rivolgono al numero nazionale, sono oltre i 5.500, quindi non è che si vincola la Giunta a fare chissà cosa, lì si dà carta bianca, lì si chiede soltanto che nella prossima variazione di bilancio si prevedono dei fondi specifici per attivare le politiche attive di contrasto alla violenza, ci potete mettere anche 3 euro, 1 euro, 10 euro, però questa pesa di posizione, niente a che vedere col problema sostanziale, cioè a me mi dispiace dirvelo, ma chi esce dalla situazione reale e sostanziale della vita e rientra nelle dinamiche vieche della politica spicciola, cioè la Lega contro il PD, lo fate voi, perché rispetto a questo ordine del giorno si sensibilizza pubblicamente un tema che è attuale, condiviso, reale, non smentibile, si solleva, purtroppo ve lo siete scordati, lo potevate far voi, e invece l'ha fatto il PD, rileva un problema sostanziale e invita, invita o impegna o obbliga, cosa vi pare? In questo caso impegna, neanche obbliga, entro dieci giorni, impegna a segna con la Giunta a prevedere nella prossima variazione di bilancio fondi specifici per attivare le politiche attive di contrasto alla violenza. Questo è, se votate contro, mi dispiace fate una figura vieca. Grazie per l'attenzione. Grazie consigliere Amore, ora la parola al capogruppo del Fatto Civico, Antonio Veronese. Grazie Presidente. La consigliera Picchi ha fatto una disamina perfetta, fornendo dei dati ineludibili, ai quali io aggiungo il rapporto dell'ONU, che ad esempio da quando c'è il lockdown, la quarantena forzata ha causato un aumento smisurato di abusi sulle persone più vulnerabili, compresi minori, e scatenando tutta una miriade di richieste d'aiuto. L'ONU prevede quest'anno un aumento di 15 milioni di casi in più di violenza domestica. In Italia, dal primo gennaio al 31 maggio, c'è stato un aumento dell'11% di procedimenti scritti per maltrattamenti contro familiari e conviventi, catalogabili come violenza di genere. Non solo, ma nei primi dieci mesi di quest'anno ci sono state 91 donne vittime di femminicidio, alle quali, ahimè, tra ieri e oggi se ne sono aggiunte altre tre. Ho visto di buon grado nel governo giallorosso l'istituzione del Codice Rosso, che ha introdotto quattro nuovi reati. Uno lo ricordava la consigliera Picchi, il revenge porn, cioè la diffusione di materiale pornografico, sfregi permanenti, costrizione al matrimonio e violazione di misure di protezione delle vittime. Tutti si mobilitano per dare un sostegno al contrasto alla violenza di genere. Tra l'altro, l'intesa San Paolo ha stanziato 17 milioni di euro. Io credo che quanto richiesto dalla proponente sia... Ma non dico neanche di buonsenso, non se ne debba nemmeno parlare. Già nella passata amministrazione ci fu una riduzione di finanziamenti alla cassa della donna che provocò una carenza di servizi proprio a riguardo. Già all'inizio della legislatura il problema si è riproposto con uno scontro tra la cassa della donna e l'amministrazione. La donna sta vivendo una situazione difficile, si è introdotta, ahimè, una cultura quasi come se la donna, secondo come veste, sia colpevole, secondo come gli viene fatta violenza, sia la donna che provoca a ricevere violenza. Noi dobbiamo rompere questi stereotipi e cominciare davvero a fare un'azione che non è solo quella porlodevole del baffo come abbiamo fatto ieri l'altro, delle scarpe rosse, di tutte queste iniziative, ma bisogna davvero fare cultura vera, autentica, a favore del contrasto della violenza, perché questo ancora non c'è. Se ne parla, ma al fatto di parlarne non seguono azioni concrete. Partire dal finanziare tutti coloro che fanno contrasto e la Chiesa nell'anonimato fa molto, vi posso assicurare, nell'anonimato fa molto. Credo che un'amministrazione debba essere in prima linea, in un momento sempre più difficile, aggravato, come ricordavo, dall'emergenza sanitaria, all'hotdown, all'isolamento, al confinamento forzato, sia il momento giusto davvero per fare un grande sforzo per difendere la donna e difendere tutte le persone dalla violenza di genere, dalla diversità e dall'orientamento di genere e dall'orientamento sessuale. Grazie, Presidente. Grazie a lei, Capogruppo Veronese. Ora la parola al Capogruppo Auretta. Sì, grazie, Presidente. Parlavamo prima di una mozione sulla casa come il tetto di una casa fosse indispensabile. Qui siamo al paradosso. Vorrei partire da una casa come il luogo della cura e della protezione e l'inferno sul tema di cui stiamo parlando. Sul tema di cui stiamo parlando la casa rappresenta per la donna in tantissimi casi l'inferno in cui si sta. Ma di cosa stiamo ragionando? Io, vuol dire, riscorrevo i dati del rapporto della casa della donna che è stato pubblicato in questi giorni. Sono dati nel nostro territorio che fanno venire semplicemente la pelle d'oca rispetto all'aumento della violenza determinata dal lockdown in cui la percentuale di cui la denuncia è limitatissima in cui il profilo del violento è chiaro fascia 30-49 anni nella maggior parte, nella stragrande maggior parte dei casi dei partner ed ex partner di questo stiamo parlando e non è un problema di carattere culturale io onestamente sono sconcertato alle parole di Cognetti sono sconcertato alle parole di Cognetti come non si fa a riconoscere che il tema fondamentale per contrastare la violenza di genere è tutta una questione principalmente culturale lo spiegava Veronese ma non bisognerebbe neanche parlarne e di questo si fa e si sconfigge a partire da un lavoro nel scuole questo è il grande tema non si può accettare come qualcosa di normale ciò che non è normale si può ridurre a casi patologici ma non a questo questo è concepito come normalità altro che problema di ordine pubblico e di questura cioè qui abbiamo un modello patriarcale maschilista e violento che va scomposto e decomposto ma se non si riconosce si capisce qual è la criticità è impossibile intervenire secoli e secoli di modello patriarcale per cui una donna non è libera di girare liberamente per le strade a qualsiasi ora quando è come gli pare quando è come gli pare vestita questo è il modello di società in cui noi viviamo e questo come si scompone e il dato sull'età è un elemento rilevante come dice il consigliere Amore ora onestamente sul metodo dico quest'ultima cosa perché il tempo sta finendo io prima mi ero permesso di dire al capogruppo Nerì andiamo in commissione sulla bonifica non so non vedo non capisco lui ha giustamente detto no guarda per me è importante dare un segnale politico io la rispetto questa scelta e qui si dà un segnale politico cosa c'è da andare in commissione non è che si dice una cifra non penso che il comune vada in default per i finanziamenti per il contrasto e la violenza di genere ma per cortesia qui c'è un indirizzo politico per dire nel bilancio preventivo ci si mettono un aumento delle risorse a fronte di un aumento dell'emergenza questa è una priorità nel paese io credo che questo sia un atto di indirizzo politico rilevante io spero che l'aggiunta lo accolga e spero che sia approvata all'unanimità perché è spiegabile non approvarlo grazie capogruppo Letta ci sono altri interventi non vedo altre prenotazioni se non ci sono altri interventi allora do la parola alla consigliere Apichi per l'Eletrica grazie presidente sì anch'io non ho capito perché si può prendere un atto politico per un distributore e non sul contrasto alla violenza di genere e penso che questa battuta sintetizzi bene io non ho calcato la mano non ho voluto dire nulla proprio perché in qualche modo speravo che si iniziasse in questo consiglio comunale un percorso diverso non sarò politicamente corretta mi dispiace ma da donna sono abbastanza stufa delle epocrisie le panchine rosse arancioni tutte le dichiarazioni di intenti ma devo fare un escursus di questa legislatura dove i fondi su questi temi sono stati completamente azzerati dove tutte le emozioni presentate qui in commissione giusto per rispondere a Buscemi e ovunque ci possa essere una stanza in questo comune sono state bocciate tutte dove c'era un impegno di sordi dove non c'era dove si parlava di azioni dove non si parlava tutte questa amministrazione è uscita dalla rete Redi come primo atto non ha dato l'adesione al Toscana Pride perché quando si parla di discriminazioni bisogna parlare di tutte le discriminazioni non solo delle donne lasciando perdere poi che chiaramente all'interno delle discriminazioni ci sono anche lì fasce ancora più deboli perché un conto è di essere una donna economicamente forte e inserita nella società è un conto magari è di essere una donna immigrata oppure una donna disabile o una persona che economicamente non ha indipendenza cambia un mondo cambia un mondo nelle difese personali e sta di fatto che anche oggi dietro ai formalismi dietro a tutto di fatto state ridicendo che questo tema a voi non vi interessa che voi non lo ritenete essenziale e che di fatto non è che ci voglio fare la giornalata ma dove sta il problema di questa mozione dove c'è un impegno politico di tutti ad azioni contro i crimini d'odio e le discriminazioni dove sta il problema il problema è che della lotta alla violenza sulle donne l'avete dimostrato non ve ne interessa nulla poi però ci si fa l'articolo di giornale voi con la panchina arancione perché rossa è divisiva quindi arancione il consiglio pari opportunità è partito con duemila duemila problemi perché non lo volevate istituire si promuovono azioni di vario tipo e su tutte le fasce d'età e comunque votate contro quindi la giornalata è la strumentalizzazione delle giornate internazionali la fate voi e a noi donne come a tutti gli altri discriminati è un'ipocrisia che è un ulteriore schiaffo perché questo è un ulteriore schiaffo alle donne mi meraviglio e chiudo perché ho finito il tempo di non sentire mai su questo la voce delle colleghe di maggioranza grazie consigliera Picchi ora le dichiarazioni di voto prego la parola al capogruppo riparteggiare Riccardo Busciani grazie quindi prendo atto che questo ordine di giorno non viene ritirato mio malgrado voterò contro proprio perché è il metodo che metto in discussione vorrei precisare al consigliere velonese che è intervenuto che intesa San Paolo ha stanziato 1,7 milioni di euro contro la violenza sulle donne non 17 milioni di euro come aveva ha detto 17 milioni di euro insomma voglio dirlo e leggiamo bene c'era una vincola nel mezzo grazie ci sono altri interventi per le dichiarazioni di voto direttore della San Paolo di filiale prego la parola a Cognetti si dunque io sono rammaricato perché la consigliera Ficchi quella voce lì davvero mamma c'è qualcuno che mi trova un acceso vi invito a spenderlo grazie cari compagni se la mia voce vi dà noia mi dispiace ma ve la tenete ho sopportato tante volte io voi per decenni quindi proprio vi saluto cordialmente con con tanta nostalgia per gli anni passati ma ha detto questo con affetto ma ha detto questo con affetto io sono d'accordo con quanto diceva Buscemi con quanto diceva Buscemi perché secondo me Olivia Picchi ha perso un'occasione l'occasione è quella di potersi aprire al confronto senza rimanere in una posizione preconfezionata la posizione preconfezionata è quella di volersi di non voler poter emendare di voler presentare il pacchetto di farsela bocciare e come diceva Buscemi il giorno dopo fare la giornalata questo questo è io invito ancora una volta in estremis l'Olivia Picchi di accettare quello che è stato l'invito di Buscemi ed eventualmente per questo chiede una sospensione di cinque minuti alla presidente motivandola così il tema è così importante che non può essere in qualche modo equivocato perché tutti i reati che sono elencati dall'Olivia Picchi tutte le situazioni che ci sono sono logicamente un frutto Francesca Oletta culturale è chiaro dipende come vuoi intervenire quindi io chiedo una sospensione di cinque minuti grazie sospensione a che fine probabilmente non ho compreso io o non si è spiegato bene lei Cognetti Presidente il consigliere Cognetti dovrebbe prenotarsi di nuovo per parlare ancora fortesemente Cognetti la invita a riprenotarsi visto che ci sono delle difficoltà io faccio proseguire con le dichiarazioni di voto dopo prenderò in esame la richiesta del consigliere capogruppo allora Riccardo Buscemi ha già parlato quindi non gli posso dare la parola per cui do la parola al consigliere Gabriele Amore ha fatto una mozione ditemi posso parlare o no aspetta cosa diceva Auletta si è riprenotato Cognetti si è riprenotato Cognetti quindi do la parola mi scusi consigliere Amore do la parola Cognetti per perché appunto spieghi meglio il motivo di questa richiesta di 5 minuti la richiesta di sospensione di 5 minuti mi sembrava ovvio è perché chiaramente noi abbiamo bisogno almeno di 5 minuti per un confronto politico ripeto il sottolineo Presidente numero 2 un momento parola numero 2 non lei numero 2 io mi ha confuso scusi dichiarazione numero 2 è una motivazione politica per confrontarsi perché è estremamente importante il tema grazie grazie Presidente allora una favore o una contro Auletta la parola a lei no no Presidente io ho chiesto per intervenire mi è rimasta la prenotazione non sono prenotato per la dichiarazione di voto scusi era rimasta la prenotazione scusi va bene visto che allora non ci sono dichiarazioni a favore e contro allora metto in votazione questa mozione d'ordine Presidente la votazione è aperta votazione aperta vi invito a votare grazie a tutti avete votato chiudono la votazione e dichiaro la sospensione per 5 minuti Presidente mi scusi io non avevo ancora votato perché ho avuto un problema col tablet mi dica io però non ho chiuso la votazione mi dispiace comunque non cambia il risultato cioè quindi sospendo il consiglio per 5 minuti va bene grazie grazie a tutti 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 Cognetti Paolo. Presente. Colecchia Giuseppe. Presente. Conti Michele. Presente. Presente. Bene. Conversano Alberto. Presente. Di Gaddo Benedetta. Presente. Dini Emanuela. Dini Emanuela no. Gambini Giulia. Allora, 70. Gambini Giulia no. Gennai Alessandro. Laurora Manuel. Gennai Alessandro. Presente. È accanto a me. Laurora Manuel. Lazzeri Marcello. Presente. Mancini Virginia. Presente. Mannocci Gino. Mannocci Gino. Nerini Maurizio. Presente. Nicolai Francesco. Presente. Pasqualino Giovanni. Presente. Picchi Olivia. Presente. Poli Veronica. Presente. Punso Maria. Scognamiglio Maria Antonietta. Serfogli Andrea. Presente. Tolaini Alessandro. Rapani Matteo. Veronese Antonio. Vironese Antonio. Veronese Antonio. Antonio. Sente. 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 22 presenti. Bene, possiamo andare avanti. Il numero legale c'è. Vedo che si è prenotato il capogruppo Cognetti. Prego, la parola. Grazie. Dopo essersi confrontati col gruppo, ma anche con gli alleati, noi, il gruppo Lega, con queste considerazioni, sia chiaro, voterà a favore. Perché? Motivando questo voto a favore. Noi avremmo spiccato che, come avrei indicato da Buscemi, se la mozione veniva ritirata, poteva essere certamente molto più ricca e il lavoro poteva essere molto più esteso. Pensiamo comunque che un argomento così importante come la tutela della donna o i fenomeni di bullismo o tutti gli altri reati che sono elencati nella mozione debbono perlomeno avere una piattaforma politica unitaria. E quindi il nostro voto a favore è questo auspicio. Da lì, chiaramente, abbiamo delle visioni politiche diverse di intervento, che sono quelle che dicevo nel primo intervento. Quindi io critico l'impostazione politica data dall'Olivia Picchi, perché per noi è, sì, ovviamente, un problema culturale, ma non può essere solo culturale, perché il problema sono due facce della stessa medaglia, c'è un problema sia, come dicevo, di questura e un problema culturale. Ecco quindi che spesso noi non accettiamo quando ci vengano fatte critiche per rafforzare le nostre forze dell'ordine, la nostra presenza sul territorio e quant'altro. Detto questo, noi votiamo a favore perché pensiamo che l'argomento sia così importante che debba avere una piattaforma unitaria. Ovviamente le nostre soluzioni e i nostri percorsi da lì si dipannano in modo diverso. Però io penso che sia importante dare una base comune, unitaria e unanime di tutte le forze politiche. Grazie. Bene, ci sono altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, allora metto in votazione questo ordine di regione numero due. Regia, chiedo di mettere in votazione, grazie. 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 Qualcuno ha difficoltà a votare? Allora chiudo la votazione. Allora mi risultano diciannove favorevoli, nove contrari, zero astenuti, un voto non espresso. Sembrava proprio però presidente nove contrari, mi scusate. Infatti nove contrari mi sembrava tanto, ero titubante infatti nell'esprimerlo. Si può rivedere la schermata per favore, anche a me non mi torna nove. Io due ne ho visti. Anche a me, a me sembravano due contrari e tre che non hanno partecipato al voto. E adesso tutti favorevoli, sì, anche a me tornava così. Sì. Aspettate un attimo, ho chiamato una vostra consigliera. Ci sono stati dei problemi, proviamo a rifare la votazione, scusate. Ah ok. Così è un po' complesso. Eh, così è molto complesso. No, scusi presidente, ma non ho capito, cioè, siccome non si sa, si è capito, cioè, abbiamo i dati perché si fa la rivotazione sul coso. Allora, scusate, mi dicono che chi cercava di non partecipare al voto in realtà poi appariva rosso. Quindi evidentemente c'è un problema nella votazione del sistema. Per cui vi chiedo la cortesia di rivotare. Di ripetere, va bene. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Sì, io confermo. Perfetto, allora chiudiamo la votazione e così dichiaro il voto. Allora, ho 19 favorevoli, a me risultavano 18. Poi un contrario e 4 non espressi. Per cui l'ordine del giorno viene approvato. Passiamo all'ordine del giorno numero 3. Fondi per le attività culturali presentati dal consigliere Picchi e Basta. Quindi do la parola alla consigliera Picchi per l'illustrazione. Grazie Presidente. Questo ordine del giorno rappresenta un po' quello che stavavo dicendo prima e del mancato funzionamento nelle commissioni. Noi abbiamo iniziato in terza commissione un lungo percorso che ha visto più volte ospiti gli operatori culturali. in Forza Presidente c'è Buscemi. Sì, mi sembra di vedere Buscemi che ha chiesto parola. La posso interrompere un attimo? Consigliere Picchi, mi scusi. Prego, Buscemi, la parola. Sì, avevo chiesto la parola prima che iniziassi la consigliere. No, volevo precisare. Allora, io volevo annunciare che il gruppo di Forza Italia, quindi io e la consigliera Virginia Mancini, per le cose che sono state dette anche per l'epilogo di quest'ordine del giorno, che è precedente, che condividiamo nel merito ma non nel metodo, io e la consigliera Virginia Mancini non parteciperemo alla discussione e alla votazione di tutti gli ordini del giorno e rinterverremo successivamente per la votazione del gruppo. Ci tengo a precisarlo. Grazie. Bene, grazie per questa precisazione. Prego, consigliera Picchi, può continuare, mi scusi. No, nessun problema. Allora, riprendo il discorso. Questo ordine del giorno nasce a testimonianza di quanto alla fine nelle commissioni non riusciamo mai a chiudere gli argomenti posti. La terza commissione ha visto diverse e numerose, direi, audizioni degli operatori culturali che si sono confrontate con l'amministrazione e con la commissione, chiedendo un confronto permanente tramite un tavolo, chiamiamolo come vogliamo, per programmare l'attività nella ripresa, perché chiaramente io non l'ho messo in premessa, ma conosciamo tutti le difficoltà del settore culturale che è uno dei maggiori settori colpiti dalla crisi economica della pandemia, perché nei fatti è fermo da marzo, salvo pochi mesi, dove qualcuno è riuscito sicuramente a fare qualcosa. Nel confronto con la commissione c'era stata poi avanzata ovviamente la richiesta di un sostegno all'attività essendo stati esclusi sia dal Bando Affitti dell'amministrazione comunale sia da altre tipologie di contributi. In un primo momento l'assessore Magnani ha annunciato che il Comune aveva scelto di non finanziare il settore, quindi aveva zerato i capitoli, poi dopo una lunga discussione e anche su nostra richiesta sono stati aperti sia il Bando Affitti sia il Bando dei contributi solito che l'amministrazione comunale fa a fine anno che è uscito pochi giorni fa. Al di là delle risorse che non sono gli 8000 che si legge nel Bando perché c'è scritto nello stesso che verranno poi integrate con i residui, ma questo la dice lunga sulla priorità che si dà a uno dei settori più colpiti, cioè si aspetta di avere residui degli altri capitoli quando stiamo vedendo in questa variazione quali sono invece i numeri che ruotano intorno al bilancio di Pisa. Ma c'è un altro fatto che se noi andiamo a leggere il Bando è un Bando surreale per la situazione attuale e completamente in contrasto con quello che aveva dichiarato l'assessore che voleva aiutare le attività economiche soprattutto chi nella cultura ne fa una professione, la propria professione di vita e in modo tale perché si arrivasse in aiuto a tutti e al più possibile. Ma se leggiamo il Bando si vede quanto questo anziché allargare le maglie le limita, cioè noi assistiamo ad interventi governativi dove si adottano strumenti straordinari come l'Estra Fus che è stato riaperto. A strumenti regionali ne sono usciti alcuni nei giorni scorsi, uscirà il Bando lunedì prossimo sempre sul mondo culturale dove alla luce dell'emergenza le maglie sono allentate e si chiede alle associazioni, alle realtà, ai circoli, alle imprese culturali di presentare i progetti non come di solito si fa entro il 2020 perché è così che va il bilancio ma si deroga a marzo 2021. Quindi si ha tutta una serie di interventi che prendono atto di una situazione perché questo è un settore chiuso che tuttora è chiuso. Noi invece gli andiamo a proporre un Bando, oltre che limitato nelle cifre, un Bando dove si chiede, che chiuderà il 3 o 4 dicembre vado a memoria, dove chiediamo agli operatori di programmare le attività dal 3 dicembre al 31 dicembre e di doverle poi rendicontare se vogliono accedere al finanziamento, dove all'interno dei requisiti che ci sono all'interno del Bando viene dato un punteggio di 25 punti a chi ha partecipato al progetto Capitale della Cultura. Nobile lo hanno fatto anche gli altri enti che hanno concorso insieme a Pisa, ma sono punteggi preceduti da un coinvolgimento territoriale tale che vede nei partecipanti dalla piccola associazione fino alla grande realtà. Qui è stato un tavolo di pochissimi e questo è un requisito che di fatto esclude tutte le piccole associazioni e tutti coloro che non avevano neppure titolo a partecipare a quel tavolo. oltre al fatto che vengono penalizzati perché hanno i punteggi più bassi chi ha fatto lo streaming che era l'unico strumento con cui poter fare il lavoro e viene premiato, non c'è corrispondenza fra quantità e qualità perché hanno punteggi bassissimi. L'unico criterio che viene lasciato e che può avere un senso è quello di aver comunque dirottato le attività, quali mi domando visto che erano chiusi, nelle periferie o comunque in centro storico, nelle zone di maggior disagio. Quindi alla luce di questo, perché mi sembra veramente, in una situazione di estogenere noi facciamo un bando come se non fosse successo niente fotocopia di quello dell'anno scorso, anzi limitante nei requisiti, in tutte le cose che sarebbero necessarie. Per cui noi chiediamo al sindaco e alla giunta di prevedere una prossima variazione di bilancio con contributi a fondo perduto al mondo della cultura proporzionati alle attività dei singoli operatori. Troviamo un criterio oggettivo dove poter avere una riparametrazione. E finalmente, visto che glielo promettiamo da marzo, aprile, non me lo ricordo più, un'altra se n'è fatta a settembre appena rientrati dall'estate, di costituire finalmente questo tavolo di confronto permanente o perlomeno di adempiere alla promessa di questi operatori di essere ascoltati e hanno come richiesto dall'amministrazione costituito un comitato di essere ascoltati e di iniziare un lavoro programmatorio insieme. Grazie consigliere Apicchi per l'illustrazione e quindi dichiaro aperte i dibattiti. Vi invito a prenotare. La parola al capogruppo Letta. Grazie presidente, non so se il sindaco è collegato, però faccio un appello a lui su questa cosa del bando, onestamente. Non so, sono sicuro che lui non l'avrà visto, molto probabilmente, però le cose che diceva la consigliera Apicchi sono onestamente incredibili. Io ho trovato il sindaco aperto quando è venuto in terza commissione sulla necessità di dare ulteriori finanziamenti sul campo e la cultura e queste risorse stanno arrivando e sul fatto che le platee fossero le più ampie possibili. Mi sembrano dei dati oggettivi, quelli evidenziati alla consigliera Apicchi, che purtroppo, la metto così, sarà stata la fretta, non so cos'altro, sono stati invece introdotti dei criteri un po' fotocopia di quelli precedenti che anziché andare incontro alle richieste della possibilità di allargare diventano paradossalmente fortemente restringenti. Io capisco la volontà dell'amministrazione di riconoscere, difendere e valorizzare il progetto su Pisa Capitale della Cultura. Ma questo però non può passare attraverso un elemento premiante sulla distribuzione dei finanziamenti ex post in una situazione di emergenza con tale portata a 25 punti. Io onestamente mi sembra che a questo punto invece anziché essere un bando che apre è un bando che si chiude su se stesso e che addirittura poi restringe la platea. Io credo che questo sia uno dei temi su cui onestamente se si fanno dei provvedimenti e vogliono andare nella direzione di incontrare i bisogni bisognerebbe modificarlo. Mi sembra onestamente ovvio. L'altra questione che noi riponiamo che io condivido che posta all'interno di questo ordine del giorno è la questione fatidica del tavolo di confronto. Si è impantanata attraverso una serie di discussioni però abbiamo espresso una volontà politica. Qual è il percorso che poi materialmente si concretizza per dare gambe? Anche perché dove si è d'accordo e mi sembrava che anche questo forse è emerso non si riesce a capire a questo punto quale sia. Ora mi dispiace non ci sia la presidente Punzo a questa discussione perché anche lei aveva sostenuto l'apertura del confronto col cartello ampio che c'era stato. Poi c'è stata la questione della selezione del bando. Però poi non abbiamo visto più niente. Allora io credo che sia una questione di metodo sulla necessità dell'apertura del confronto con le parti in causa e di valorizzazione. E dall'altro io su questo lo dico per cui spero che la maggioranza intervenga su questo se no proporrei alla consigliera Puicchi un emendamento cioè di aggiungere il dispositivo a ritirare il bando per l'associazione culturale al fine di rivederlo alla luce delle criticità emerse. Cioè cerchiamo su questo di andare perché la rendicantazione su iniziative che dovrebbero essere fatte qui al 31 dicembre è evidentemente un controsenso per cui proporrei questo emendamento alla consigliera Puicchi se è d'accordo. Vedo la prenotazione grazie al capogruppo Letta della consigliera Punto Maria. Prego la parola. Sì mi sentite? Allora buonasera era solo per dire che appunto avevo comunicato la mia assenza di circa un'ora e sono rientrata. Non posso partecipare però alla discussione perché purtroppo ho perso gran parte mi sono solo sentita citare dal consigliere Auletta per quanto riguarda forse faceva riferimento alle associazioni culturali Pisa riparta dalla cultura. se non... Ah no va bene volevo solo comunicare che sono di nuovo parte del consiglio. Se riterrò opportuno ma non ho ancora elementi perché mi sono collegata subito ora chiederò la parola. Grazie. Allora colgo l'occasione anche per salutare la consigliera Scogna Miglio che è rientrata da qualche minuto e è di nuovo connessa. Bene ci sono altri interventi? Se no do la replica alla consigliera Picchi. Ah Cogna Miglio prego. Avevo letto l'ordine del giorno. Io però quello che non riesco a capire di questo bando è con chi diciamo l'assessore insomma anche la giunta l'ufficio o comunque le associazioni con cui lui si sarà comunque confrontato questo punteggio dei 25 punti legati a questa clausola. Cioè il premiare diciamo sta anche in un fattore comunque anche di un lavoro a portare che porta comunque anche frutti no? Cioè faccio un esempio ci sono state associazioni che magari hanno portato dei contributi per esempio faccio un esempio sul Volterra sull'accessibilità che è stato chiesto dall'amministrazione in maniera puntuale ma che magari non sono risultanti poi collaboranti diciamo con l'amministrazione stessa e che quindi magari in questo caso non li prenderebbero mai 25 punti ma hanno fatto relazioni hanno portato anche tematiche importanti così come magari è stato fatto anche per la per il comune di Pisa ma che magari non hanno non hanno un'etichetta precisa sì ho collaborato per la città della cultura ma sono certa che ci sono state associazioni che hanno portato anche dei contributi a prescindere ecco quindi anche in un lavoro eh di anni o anche un lavoro degli ultimi mesi anche in un momento di pandemia quindi credo che valga anche valorizzato il lavoro trasversale che viene fatto in questi in questi casi io quello che mi sfugge non l'ho compreso se eh appunto poi magari un secondo ordine del giorno se se che può capitare anche magari se qualcuno ha qualche ehm diciamo riflessione o anche ehm diciamo informazione in più è questo proprio collegamento 25 punti a chi ecco vorrei capire mh se sono state fatte in altre città se è stato condiviso o una riflessione solo dell'assessore cioè io questo non lo non proprio non lo riesco a comprendere perché non eh non può essere una logica per cui uno può prendere magari un contributo in un momento così anche di disagio e creare un processo anche di eh collegamenti con associazioni con lavoro anche a livello culturale lo abbiamo detto anche l'altra volta insomma anche in commissione eh affinché poi in realtà ecco è quello che deve essere il lavoro premiante cioè io in un lavoro in un punteggio premiante metterei più la 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 bravura a portare un contributo nel nel lavorare insieme magari più associazioni eh coinvolgere persone più fragili ehm essere sicuri che le cose dove si fanno sono luoghi accessibili sono eh accessibilità alla comunicazione eh ecco io io credo che le associazioni meritano questo tipo di premio eh più che una etichetta che oggi c'è domani non c'è mh cioè ecco questo questo non non l'ho compreso eh quindi niente è una riflessione proprio perché non ho capito grazie consigliera Asconia Miglio eh vero che non ci sono altre prenotazioni quindi do la parola per la replica alla consigliera Picchi e ne approfitto per chiederle se allora accetta la eh l'emendamento che le ha proposto il capogruppo Letta grazie presidente eh la replica direi a nessuno perché non non è intervenuto nessuno eh e quindi replico altrimenti a me stessa invece al capogruppo Letta dico che accetto l'emendamento fra l'altro è una cosa che su un altro tema la provincia ha già fatto per cui è assolutamente possibile anche in autotutela ripensare al bando c'è una procedura amministrativa possibile e corretta e quindi e in questo caso auspicabile bene grazie e allora dichiarazione di voto eh non ci sono prenotazioni metto in votazione eh eh scusate io volevo solo dire che non partecipo al voto per correttezza perché ho perso tutta la la discussione. Grazie consigliere Afonso. Bene se non ci sono dichiarazioni di voto allora andiamo in votazione. grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene, chiudo la votazione. A me risultavano sette favorevoli, tredici contrari, due astenuti. No, quattordici contrari. Ok, allora non ci posso dire. Torna? Quattordici contrari, due astenuti? Due, due, non e tre. Sì. Sì, presidente, sì, sì. Perfetto. Allora, quest'ordine del giorno viene respinto. Passiamo ora all'ordine del giorno numero quattro. Fondi per gli artisti, presentate dal consigliere Amore, Picchi e Auletta. Do la parola al consigliere Amore per l'illustrazione. No, ha delegato la consigliera Picchi per l'illustrare. Scusate, non ero stata avvisata. Quindi la parola alla consigliera Picchi. Grazie, presidente. Quest'ordine del giorno nasce legato all'altro e nel senso di cercare di un impegno agli aiuti, sempre al settore cultura, che, non lo ripeto, è uno dei settori veramente in difficoltà e più colpiti. Noi sapete tutti che uno degli strumenti messi in campo dall'assessore è stato la rassegna al Giardino Scotto, dove c'è stato l'annuncio di una scelta precisa, condivisibile, di dare moda agli artisti pisani di esibirsi, quindi di avere un'occasione di lavoro, perché questa era l'intenzione. e in qualche modo ristorare coloro che alla fine erano rimasti fuori dagli aiuti statali o regionali, che è una filosofia giusta in un momento di questo genere e quindi di aiuto a quelle fasce che non arrivano a ciò che è già previsto. La rassegna si è svolta. Noi abbiamo anche tentato di chiedere la rendicontazione, ma non ci viene risposto, quindi non sappiamo onestamente a che punto sia, ma quello che sappiamo è che gli artisti ad oggi da luglio, agosto e settembre non sono ancora stati pagati. Se avete visto tutti voi c'è stata anche una loro denuncia sul giornale, quindi sono persone ovviamente non solo in difficoltà per quello che stanno vivendo, ma anche che magari fai conto sull'aiuto che ti deve arrivare. Tutti noi quando arriva la casa integrazione in ritardo o il bonus a 600 euro in ritardo sono dirimenti nella vita delle persone. Allora noi chiediamo al sindaco e alla giunta di intervenire, di intervenire il prima possibile, di non far scontare agli artisti la parte burocratica, perché a quanto abbiamo appreso sempre dalle poche risposte che ci arrivano è una questione che va sciolta fra Teatro Verdi e amministrazione comunale. Noi pensiamo che mai il cittadino dovrebbe scontare i problemi o le lungaggini burocratiche, meno che mai oggi. Quindi la cifra è sicuramente una cifra che il comune può anticipare per pagare subito gli artisti e poi una volta sistemate le persone e dato il giusto ristoro per un lavoro svolto, perché qui alla fine è vero che è nato come un aiuto, ma è nato come un aiuto a seguito di un lavoro che una persona ha fatto, per il quale magari ha avuto spese, per il quale magari ha dovuto mancare ad altre occasioni di lavoro e quindi di intervenire subito per la liquidazione dei compensi maturati, poi se hanno problemi fra il Teatro Verdi e gli uffici comunali che non nascontino gli artisti. Bene, grazie. Dichiaro aperto quindi la discussione. Vi invito a prenotarvi. Prego la parola al capogruppo Letta. Sì, grazie Presidente. Io trovo quest'ordine del giorno anche in questo caso di buon senso, no? Si ricostruisco semplicemente i fatti in questa vicenda. Cioè c'è un tema, c'è un problema. Credo che sia oggettivo e tutte le volte che ci sono dei ritardi, indipendentemente da chi dipendono, è necessario trovare una soluzione, cosa che ad oggi non è in campo. Io pure sono mesi e mesi che chiedo la rendicontazione, gli unici dati che sappiamo sono sugli incassi derivanti dei biglietti che si sanno dal mese di settembre, perché io ho fatto un accesso agli atti il 17 settembre e mi è stato risposto esattamente quanti sono le entrate che sono derivanti dalla bigliettazione, perché il contributo del Comune non viene utilizzato per gli artisti, non si riesce a capire in questi due mesi come sia stato possibile che ancora una rendicontazione non sia stata fatta. Onestamente anche qui c'è una questione di priorità e di rispetto del lavoro altrui. Non si può dire, anche in questo caso, io eviterei dire, ma guarda il governo non dà i ristori in tempo, le casse integrazioni... Perfetto, ognuno si assuma la sua responsabilità e soprattutto troviamo una soluzione concreta. Noi avanziamo una soluzione concreta, anche perché si sta trattando di qualche decina di migliaia di euro, cioè di una cifra che è assolutamente ridicola per un'amministrazione pubblica, ma che invece ha un peso rilevante per la condizione che si trova oggi. Ora qua non stiamo a polemizzare se non è d'accordo o meno sulla rassegna, come è stata fatta, come è stato fatto il pezzo del biglietto. Ormai il progetto c'è, è stato dato, questi soldi devono essere liquidati, perché altrimenti l'essenza dell'iniziativa perde di senso. La questione tempo oggi, nell'emergenza, è dirimente. Ce lo stiamo ripetendo in tutte quante le salse. E allora, si può o non si può riuscire a rispettare una tempistica che poi va materialmente a incidere sulle condizioni materiali delle persone. Io onestamente trovo in questa ordine del giorno, che non è un atto di accuso di nessuno, ne abbiamo discorso anche la scorsa volta, anche l'assessore spiegava che non riusciva a capire com'è che non si andava alla rendicontazione, che l'aveva sollecitata anche lui. Credo che questo atto sia importante e che possa provare a sbloccare una situazione oggettivamente difficile, che è stata anche denunciata pubblicamente, su cui si fa una brutta figura. Cerchiamo a questo punto di trovare una via d'uscita la più rapida possibile e soprattutto la più funzionale possibile a chi ha lavorato e non ha avuto il compenso che ad oggi gli era dovuto. Per cui io mi auguro che anche, alla luce del fatto che la stessa amministrazione abbia sollecitato più e più volte il teatro a una soluzione positiva che ad oggi non si sia trovato e che questa ordine del giorno possa essere approvata. Se no poi lo spiegherete voi perché questi soldi non arrivano. Ecco, perché poi l'alternativa è questa, perché di fronte a questo appello c'è il silenzio totale. Penso che oggi si indica una via d'uscita per uscire da una situazione che sta diventando sempre più complessa per i lavoratori e sempre più imbarazzante per l'amministrazione pubblica. Grazie, Capo Gruppoletta. Ci sono altri interventi? Non vedo altre prenotazioni. Allora do la parola alla consigliera Picchi per le conclusioni. Sì, si deve prenotare. Date per favore. No, 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 colpa mia perché solitamente mi arriva l'alert e invece ho visto che lo dovevo fare da sola. Nulla, Presidente. Anche in questo caso non replico a nessuno, mi pare. Infatti non le chiedevo una replica, una conclusione. Comunque, proseguiamo con le dichiarazioni di voto. Però ecco, direi che più di quello che era per sottolineare. Io sono tenuta a dare parola, poi sarà lei eventualmente a rinunciare. Ha ragione, ma era per sottolineare che su un tema così allora la faccio che riguarda i cittadini, che riguarda dei lavoratori, che riguarda le persone e le difficoltà, non c'è nessun intervento e nessun dibattito. Io ne prendo atto e nessuna, nemmeno espressione politica, anche fosse di solidarietà. ne prendo atto, che devo fare? Grazie per le conclusioni. Allora, siamo a dichiarazione di voto. Non vedo prenotazioni. A meno che non abbiate problemi a prenotarvi, eventualmente fatevelo sapere, altrimenti passo al voto. Bene, metto in votazione l'ordine del giorno numero quattro. Uno ha il microfono acceso. Buongiorno. Grazie. Grazie. Sì, a me torna tutto. Ok, allora dichiaro il voto. Sei favorevoli, quattordici contrari, un astenuto e tre non espressi. Quindi l'ordine del giorno viene respinto. Passiamo allora all'ordine del giorno numero 5, concorso di progettazione, presentato dal consigliare Biondi Trapani. Illustra Biondi. C'è il consigliere Biondi? Se per favore si prenota e gli date la parola. Prego, Biondi. Biondi non la sentiamo. Regia, per favore, potete verificare se Biondi ha dei problemi. Lo vedo prenotato, ma non risponde. Sì, dal nostro punto di vista non ha problemi. Non entra il segnale audio in conferenza, però ha la parola, ha il microfono aperto. Adesso cerchiamo di sapere di più, lo aggiorno subito. Ringrazio. Signor Presidente, il consigliere Biondi si è sloggato da Zoom e credo che stia rientrando ed è l'operazione opportuna per riallineare il microfono. Mi sentite? Sì, ora ti sentiamo. No, scusate, avevo problemi con l'audio, non mi funzionava più. No, dicevo, riprendo quello che stavo dicendo, che non mi avete sentito. Quest'ordine del giorno sicuramente ha un'importanza nettamente inferiore rispetto agli ordini del giorno precedenti, che inquadravano anche la situazione attuale dell'emergenza anche legata al Covid della città. Per quanto riguarda anche e soprattutto gli aspetti culturali è un settore fortemente in difficoltà in questo periodo. Però questo ordine del giorno si lega anche ad alcune riflessioni. In che senso? Intanto parto dal presupposto che sia all'interno del programma di mandato il sindaco Conti, sia il programma con cui si candidò anche l'assessore Latrofa come sindaco, poi naturalmente è andato l'assessore, non il sindaco, però anche nel suo programma elettorale, quindi della sua forza politica, era prevista l'incentivazione di realizzare concorsi di progettazione quale buona norma nella pianificazione anche della città, soprattutto per le opere pubbliche. Questo però si va anche, secondo me, a riallacciare all'aspetto in cui viviamo, quella dell'emergenza della pandemia, che ha accentuato anche le differenze tra le persone, ma anche proprio sotto l'aspetto economico, ma non soltanto di crisi sotto l'aspetto lavorativo, ma anche, soprattutto, le differenze di ricchezza che hanno le persone anche nel mondo dove vivono, ovvero nella propria casa. Che senso? Il lockdown, ce l'ha fatto vedere, probabilmente una famiglia che abita in un piccolo appartamento di ridotte dimensioni, senza uno spazio all'aperto, dove poter uscire, ha sofferto più di una persona che invece ha una grande casa con degli spazi aperti, un giardino, una terrazza, dove poter stare fuori. Quindi c'è stato sotto questo aspetto qua giù un accentuarsi delle differenze anche proprio di vivibilità in questo momento particolare. E questo implica di ripensare anche alle nostre città, di ripensare anche agli aspetti e agli spazi di socialità e soprattutto agli spazi pubblici della città. Secondo me è impensabile pensare nel futuro, di ragionare e progettare qualcosa senza tener conto di quello che abbiamo vissuto e di quello che stiamo vivendo tuttora. Soprattutto perché, come vi dicevo, quelle persone che non avevano nella propria abitazione di uno spazio all'aperto, hanno sofferto in particolar modo di tutta la situazione e loro hanno individuato poi nel momento in cui era possibile uscire anche per solo una passeggiata o di stare soltanto un attimo all'aperto, hanno vissuto lo spazio pubblico della città o comunque i spazi pubblici della città come spazi un po' dove poter stare fuori, dove poter vivere all'aria aperta. E quindi io credo sia importante pensare di progettare in modo corretto gli spazi pubblici della nostra città e quindi incentivare anche una corretta progettazione aperta anche ad altre idee, non soltanto dei professionisti locali, ma anche aperta a professionisti che vengono da fuori, ma perché no anche dall'estero che decidono di partecipare a un concorso. Quindi delle nuove idee e nuove anche possibilità di progettare qualcosa che comunque tiene in considerazione dei mutamenti che questa pandemia ha creato, perché è innegabile. Un'altra riflessione è quella, io riguardavo, mi sembrava che il consigliere della maggioranza diceva studiate, noi stiamo un po' studiando anche sul piano strutturale. Sul piano strutturale, che è sicuramente un documento complesso che va studiato attentamente, lì non c'è nessuna traccia di quello che ha comportato il Covid, non c'è nessuna riflessione sul piano strutturale del Covid, ma secondo me invece è impensabile continuare a pensare l'architettura, l'urbanistica senza un legame di quello che abbiamo vissuto sulla nostra pelle. È impensabile anche credere che quello che abbiamo vissuto non ci faccia modificare nulla, sono modificati i rapporti tra le persone, la distanza tra le persone e quindi anche la possibilità invece di avere degli spazi sempre più aperti, soprattutto nelle città, una città come la nostra, che poi nel centro della città non ha grandi spazi comunque di socialità o spazi aperti, verdi, dove poter stare. Sì, alcuni ci sono, ci sono le piagge, c'è il giardino scotto, però un migliorare gli spazi pubblici dove poter socializzare anche con le dovute cautele, quindi a distanza, così a mio avviso è fondamentale. E quindi questo ordine del giorno è un impegno, ma è anche un rinnovare, un impegno che si era preso sia il sindaco, sia gli assessori durante la campagna elettorale. Da quando c'è questa amministrazione non è stato bandito alcun concorso, non è stato bandito. Quindi tutte le progettualità sono rimaste interne, non c'è, diciamo, forse volontà di confrontarsi col fuori, e invece, secondo me, ogni confronto, ogni possibilità di indire anche un concorso che non ha, diciamo, dei costi allucinanti, è qualcosa che può arricchire la città con nuove idee che possono essere più fresche e con idee anche che possono essere anche diverse e farci probabilmente capire qualcosa che ci sfugge da persone che vivono la città tutti i giorni. Grazie consigliere Biondi. Ci sono, ora possiamo aprire per gli interventi, per la discussione, quindi vi invito a prenotarvi. La parola al capogruppo del Partito Democratico, Matteo Trapani. Grazie, presidente. Io mi collego ad alcune cose dette dal consigliere Biondi perché sono alla base quando in una città decidiamo cosa disegnarci. Se prendiamo il piano strutturale e invito i consiglieri di ignoranza a leggerselo, vediamo che quello che manca, proprio che sta alla base di un piano, è qualsiasi studio, qualsiasi analisi che abbia portato, per esempio, a dire che ci sarà un tasso di natalità o meno, non c'è alcuno studio su quali sono ad oggi i mobili quali ad oggi sono gli immobili residenziali che devono essere remessi a posto, qual è oggi la condizione in quei quartieri, non c'è uno studio, ma uno che sia uno per capire quali sono le crescite nei vari quartieri e soprattutto non c'è uno studio, come diceva Biondi, su quello che è successo in questi mesi. Cioè, si danno dei dati che poi ne parleremo, sarà interessante parlarne, c'è un'occupazione di suolo che cresce fortemente, nuove edificazioni, nuovi alloggi, nuovi alberghi e nuovi parcheggi senza però che vi sia uno studio dietro. Cioè, si tirano dei numeri così, in qualche modo, diciamo, senza una base. Allora, quando si fa progettazione bisogna partire invece dall'analisi di quello che avviene. Noi abbiamo una serie di luoghi della nostra città che ovviamente possono essere progettati, che possono anche a seguito del concorso di idee dare quello stimolo in più che è evidente per esempio nell'atto maggiore che questo comune aveva in mano di programmazione strategica e politica del territorio dove strategica e politica non c'è nulla ma c'è solo una cozzaglia e l'unica cosa che si dice si sono eliminate alcune toe ma vabbè questa è una questione che poi affronteremo il rigenerare una città come dice questo ordine del giorno partendo da una progettazione vuol dire averci dietro anche un studio vuol dire mettere insieme quello che serve nei vari territori e non solamente a cozzaglie con diciamo vari spot ci sono tanti luoghi un luogo che purtroppo che è stato oggetto di progettazione è stato oggetto anche successivamente di una serie di eventi e per esempio tutta la zona di Santa Chiara abbiamo visto che ci sono state una serie di interventi e cose che devono sempre essere fatti anche una visione che manca per esempio in questo caso ora questo del giorno pone vogliamo far progettare una città anche mediante e soprattutto dei concorsi che permettono di mettere al centro lo studio l'analisi e anche le nuove idee secondo noi sì è per questo che abbiamo presentato questo ordine del giorno che mette insieme urbanistica ambiente territorio e anche come si può pensare con la città grazie presidente grazie a lei capogruppo ci sono altri interventi non vedo nessuno prenotato Biondi se vuole la parola per le conclusioni sì grazie evidentemente non c'è nemmeno una risposta alle promesse che ha fatto questa maggioranza anche in campagna elettorale si parlava di concorsi di progettazione anche per il recupero della cosiddetta mattonaia invece anche lì non è stato non è stato fatto niente in questi anni mai è stata messa in vendita innesimo bando no andata in venduta e invece e quindi diciamo anche in questo caso qua giù no era stato promesso o comunque era stato sì è promesso in campagna elettorale un concorso che poteva essere interessante per dare nuove no idee su una nuova funzionalità di quel di quell'edificio probabilmente anche più che volentieri no a finalità sociali di apertura no alla città invece anche quello non è stato indetto nessun concorso anche i concorsi precedenti mi ricordo è stato fatto era stato fatto con la vecchia amministrazione ma penso è stato completato diciamo il risultato con questa per uno spazio pubblico nella zona di Pratale non si sa quali intenti ha questa amministrazione se portare avanti il progetto che aveva vinto quello spazio pubblico lì in Pratale o meno è calato il silenzio è calato quindi non c'è nessuna risposta soprattutto su questi spazi qua giù su queste tipologie di progettazioni quindi mi fa anche un po' sorridere che ci sia comunque questo totale silenzio da parte di questa maggioranza quando in campagna elettorale ha promesso determinate cose più volte ha ripetuto in questo consiglio comunale che avrebbe operato e avrebbe indetto dei concorsi sulla città e sugli spazi pubblici della città di progettazione non c'è niente e non ci sono nemmeno le risposte di questa maggioranza perché io mi sarei aspettato guardi noi ne abbiamo fatti perché c'è una motivazione e invece manca anche la motivazione quindi oltre a non dare risposte a noi che siamo qui in consiglio comunale che vi facciamo queste domande non c'è nemmeno una risposta verso quei cittadini verso quelle associazioni anche di professionisti che comunque da tempo le chiedevano e comunque molti anche dei quali che probabilmente hanno votato voi hanno votato e voi avete promesso determinate cose e invece dopo anni non avete fatto niente di questa cosa grazie consigliere Biondi se non ci so allora ora andiamo nelle dichiarazioni di voto se non ci dovessero essere vado direttamente a voto non vedo prenotazioni per le dichiarazioni di voto e allora metto in votazione l'ordine del giorno numero 5 grazie a tutti 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 avete votato tutti c'è qualcuno che ha mi sembra manchi l'aurora azzara e basta regia per favore potete verificare l'aurora e azzara grazie non so se Brunel e Giuseppe hanno cosa torna che manchino l'aurora e azzara sì 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 ah ok ok non avevo capito l'avevo l'avevo detto ah e non t'avevo sentito eh va bene regia per favore mi date un riscontro sì presidente l'aurora non risulta connesso nella piattaforma zoom quindi è virtualmente assente azzara un attimo lo sto chiamando e le do un esito la ringrazio tanto grazie a tutti signor Presidente azzara è stato raggiunto sta operando l'operazione di voto la ringrazio ok ha votato ecco allora chiudo la votazione sì quindici otto e tre perfetto a me torna torna sì a me sì confermo confermo picchi sì confermo bene allora otto favorevoli quindici contrari e tre voti non espressi quindi l'ordine del giorno viene respinto passiamo ora all'ordine del giorno numero sei politiche di contrasto alla povertà nel territorio comunale alla luce dell'emergenza covid diciannove lascio la parola al capogruppo Letta per l'illustrazione sì grazie presidente noi abbiamo durante questa variazione di bilancio ma anche durante tutto quanto il periodo dell'emergenza ha portato avanti due questioni a nostro avviso assolutamente centrali da un lato la questione abitativa e dall'altro l'emergenza di carattere sociale e come dire con forza proviamo ad avanzare tutta quanto una serie di proposte concrete a nostro avviso di strumenti indispensabili che servono sia alla conoscenza sia soprattutto a capire poi quali sono qual è lo stato dell'arte per intervenire correttamente e dare risposte e queste le abbiamo riassunte all'interno di un piano di proposte che da maggio ad oggi proponiamo continuare a proporre e che speriamo che vengano assunte perché a nostro avviso queste sono assolutamente fondamentali lo ribadisco cioè per noi diciamo la dimensione di carattere sociale dell'emergenza è priorità politica assoluta noi riteniamo ancora una volta che la logica del fondo quello che ha detto anche sul fronte delle imprese il consigliere veronese l'abbiamo mutuato sulle questioni sociali cioè la costruzione di un fondo unico di contrasto alla povertà cioè noi riteniamo che continuare a spezzettare i tipi di finanziamento magari appunto arrivando ad alcuni paradossi come quello del bonus gatto sia sbagliato sia invece importante pensare a un fondo unico per dare delle risposte sulla povertà altrettanto noi riteniamo che sia indispensabile tutta la moltiplicazione del fenomeno conoscitivo sulla povertà perché volente o non volente al di là di tutti quanti gli annunci gli unici dati che noi abbiamo sulle povertà nella nostra città vengono da due fonti quelle del reddito di cittadinanza e quella della Caritas noi invece pensiamo che su questo bisogna cercare di mettere insieme tutte le istituzioni gli enti soggetti che da questo punto di vista hanno dati dall'Inps agli enti religiosi all'osservatorio della dispersione scolastica e anche su questo poi ritornerò dopo nella mozione noi citiamo anche altre questioni cioè la necessità della definizione di un profilo di comunità sembrano chiacchiere ma invece non sono chiacchiere perché nel piano integrato della salute questo mancava senza un profilo di comunità com'è possibile riuscire a rilevare i fenomeni crescenti di esclusione certo quelli che conosciamo individualmente ma non si amministra così la cosa pubblica noi abbiamo necessità di un di una monitoraggio quartiere per quartiere dei fenomeni e delle criticità e su questo non c'è assolutamente nulla e ma lo dico ma non come critica al comune di Pisa il fatto è che i comuni non sono pronti e adeguati a rispondere su questo allora una mappatura da questo punto di vista è infondamentale noi rilanciamo su una serie di punti che sono emersi con forza dall'audizione che abbiamo avuto anche coi sindacati ovvero la realizzazione di un sistema di interventi per l'inclusione socio-lavorativa e le persone svantaggiate su questo servono le politiche pubbliche a partire da tipo di protocolli specifici coi centri per l'impiego una regia pubblica la valorizzazione il potenziamento il sostegno delle cooperative sociali e questi sono come dire alcuni degli elementi che noi abbiamo posto e che continuiamo a porre lo dicevo prima cioè la questione della povertà educativa è il grandissimo fenomeno in crescita in espansione drammaticamente determinato dall'emergenza e allora noi pensiamo che su questo bisogna elaborare un piano educativo di zona straordinario di contrasto alla povertà minorile per la tutela del diritto all'educazione all'istruzione per l'infanzia e l'adolescenza che cosa deve essere questo piano dei piani sono la mappatura delle aree a maggiore rischio la creazione di un fondo straordinario questo lo ribadisco e noi porteremo fino in fondo anche in bilancio preventivo una proposta la creazione di un fondo straordinario destinato al contrasto della dispersione scolastica e al sostegno mirato in caso di attività scolastica ordinaria in caso di continuazione della didattica a distanza cioè questo sta provocando una serie di disastri su cui è necessario intervenire la rivelazione in concerto con le istituzioni scolastiche delle situazioni di difficoltà queste sono come dire delle cose di buon senso ma che ad oggi di cui ad oggi l'amministrazione è sprovvista e altrettanto riteniamo importante per evitare che il reddito di cittadinanza sia solo un mero contributo economico che si attivino tutti quello quanto è previsto nelle misure dello stesso reddito delle cittadinanze c'è la formalizzazione degli accordi la definizione dei patti per l'inclusione sociale c'è tutti strumenti indispensabili perché la presa in carico sia una presa in carico multidisciplinare complessa a tutti gli effetti ora come dire queste io credo che siano delle scelte di carattere strategico se vogliamo affrontare il tema delle povertà e non continuare interventi spot e senza questi tipi di strumenti di programmazione intervento e conoscenza dei fenomeni che noi continuiamo a dire che questo comune non ha non si riescono a fare degli interventi però non riusciamo a capire se non ci si fa a introdurre degli strumenti normali di programmazione e rilevazione perché non si vuole fare o perché poi sostanzialmente questo mette a nudo il fatto che il tipo di interventi che si stanno facendo non vanno a intercettare quel bisogno sociale noi lo diciamo in termini di carattere costruttivo perché la portata della crisi è talmente grande e il bisogno è crescente che se non lo si indaga non lo si conosce non si capisce come si interviene e lo diciamo su più livelli sul fronte lavorativo sul fronte sociale sul fronte della povertà educativa la povertà è un fenomeno complesso ed è un mix di tanti aspetti che hanno nella scuola nel sociale uno degli elementi fondamentali l'abbiamo detto anche prima sulla casa ma noi di tutto questo non vediamo tracce allora noi presentiamo un ordine del giorno complesso articolato frutto di un grandissimo lavoro di ascolto perché questo ordine del giorno è frutto di un lavoro di ascolto con associazioni operatori sociali chi quotidianamente vive nella scuola abbiamo raccolto in tutti quanti questi mesi a partire da alcune criticità e le abbiamo tradotte in una serie di proposte concrete perché poi anche io non ho scocciato non avete proposte non avete proposte noi le proposte ce le abbiamo puntuali precise frutti percorsi partecipativi e che non trovano ascolto in questo momento allora ci sono due linee strategiche io lo ribadisco lo ripeto da un lato i fondi unici di straordinari sulla povertà e sulla dispersione scolastica e dall'altro degli strumenti di programmazione conoscenza monitoraggio e attivazione di protocolli straordinari non è una parola raccia protocollo è lo strumento normale di azione di un'amministrazione pubblica per stare insieme con gli altri enti per affrontare le cose io credo che queste siano delle priorità assolute l'abbiamo detto lo continuiamo a dire e lo continueremo a ripetere e le ripresenteremo se verranno bocciate in sede di bilancio preventivo perché questi sono gli unici orizzonti al nostro avviso perché il bisogno si possa intercettare e possano essere date realmente delle risposte grazie capogruppo letta ci sono interventi vi invito a segnarvi e a prenotarsi sul concilio prima di dare però la parola alla consigliera Scogna Emilio vi chiedo una fortesia se potete per favore accendere le tre camere perché qualcuno dei consiglieri non ha ancora avuto il piacere di vederlo e di incrociarlo oggi grazie prego la parola alla consigliera Scogna Emilio se vuole intervenire lei mi levo io ma è lo stesso no 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 non so se si era messa lei non so ho solo sbagliato incomincio anche a te prego Scogna Emilio lei la parola va bene mi scusa scusate perché qui la stanchezza un po' arriva anche proprio visiva era quello dunque no intanto volevo dato che ho preso la parola ora nel senso anche per rispondere alla consigliera Poli perché lei accende la telecamera almeno la vediamo grazie mi scusi eccoci ok ci stiamo sì tanto due minuti e venti ce la faccio bene la consigliera Poli in effetti è vero oltre al bonus gatto c'era il bonus bau che mi ero dimenticata quindi in effetti ha ragione il fatto del del proporre cioè molte volte noi abbiamo proposto per questo bilancio preventivo poteva anche lei proporre qualcosa perché su queste tematiche eravamo proprio diciamo in funzione anzi se portavo una proposta noi saremmo venuti anche in consiglio con una proposta di commissione quindi questo ci tengo perché è importante ehm sul sulla piano diciamo delle povertà abbiamo anche un altro ehm problema perché anche le assistenti sociali che sono operate di lavoro e poi ho fatto anche un'interpellanza su questo e credo poi che vadano approfonditi appunto alcuni temi ehm un conto era diciamo l'attivazione dell'emergenza anche per capire le povertà più profonde all'interno della famiglia cioè paradossalmente passatemi il il termine cioè è più semplice fra virgolette no? attivare un buono pasto no? Andare portare con le associazioni il pacco della spesa questi sono comunque reazioni emergenziali in cui si attiva anche una solidarietà eh di lavoro anche fatto a più mani per cui si arriva nelle case con più facilità in questo caso no? Quindi è vero quando lei consigliera Poli dico a lei ma ripeto perché eh così c'è stato questo dibattito politico dice noi continuiamo a aiutare aiutiamo le persone andiamo andiamo in mezzo alla gente sì questo è un metodo che in prima istanza è diciamo emergenziale per arrivare a capire un po' quella prima difficoltà che si si tasta con mano poi ci sono delle difficoltà di povertà che vanno eh osservate che non è che possiamo andare noi perché vogliamo aiutare le persone cioè c'è anche un metro di politiche sociali insieme alle politiche educative che solo insieme si fondono per avere davvero un metro di misura di quella difficoltà estrema di quel momento al momento come abbiamo detto anche in commissione e poi lo ripeterò perché poi ci sarà anche un ordine del giorno ad hoc su questo capire la difficoltà di una mancanza di un lavoro su cosa ricade nelle altre politiche è una questione che non compete né a me né a lei in quel momento ecco perché in una eh nella commissione può essere fatta la proposta la proposta di andare a fondo su un un anche dei protocolli ne abbiamo parlato anche l'altra volta per far sì che le conferenze anche insieme si attivino quindi su questo si deve lavorare in questo modo perché altrimenti non c'è possibilità di arrivare puntuali al bisogno grazie grazie consigliare a scogliamiglia ci sono altri interventi non vedo prenotazione allora passiamo eh se volesse appunto eh concludere il capogruppo Aulezza date per favore la parola al capogruppo Letta scusi Presidente io parlavo ma non si si sente ora ecco sì la sentiamo no ribadisco io capisco che deve essere arrivato l'ordine di scuderia per cui bisogna bocciare tutto non intervenire eh a questo ordine di scuderia magari qualcuno reagisce in una maniera qualcuno reagisce in un'altra però l'obiettivo sostanziale insomma togliamoci davanti sta noia degli ordini del giorno perché poi c'è la delibera noi siamo qui siamo seduti partecipiamo alla discussione e partecipiamo portando delle proposte perché questi ordini del giorno ribadisco sono frutto di un lungo percorso poi uno li può anche trattare con questo con questa con questa modalità però in qualche sede in qualche maniera questi nodi dovranno pure essere affrontati è da marzo che non si riesce ad affrontare questo tema cioè di come e in che forme e con quali strumenti straordinari lo erano a marzo ma che a questo punto stanno diventando ordinari perché la povertà e la crescita della povertà è dato di lungo periodo e non caso eccezionale che si risolve solo che si potrà risolvere con i bonus spesa che bisognerà affrontarlo in questa maniera ma servirà una strategia e noi oggi non la vediamo da parte di questa amministrazione mi dispiace mi potete continuare a dire così come è stato detto siete stati i primi in Italia a mettere le risorse per il bonus spesa con i venticinque mila euro benissimo la fase è un po' cambiata mi vorrei permettere di dire e qui servo degli strumenti che consentono alle amministrazioni di affrontare l'emergenza in termini conoscitivi e fattivi se non si capisce che nessun comune oggi ha questa portata e come è dimostrato noi lo citiamo anche su una cosa di carattere paradossale per quanto riguarda quelle che sono le azioni sui soggetti che hanno avuto il reddito di cittadinanza lo diciamo a fronte delle 1258 situazioni in carico ai servizi della zona pisana pur essendo soddisfatta la dotazione di assistenti sociali prevista era stata solo disposta alla fase dell'analisi preliminare di titolare di cittadinanza più che dirlo in questa maniera chiara con le vostre parole delle vostre relazioni non so come fare e qui benissimo uno regista l'ordine di scuderia andiamo cerchiamo di finire il prima possibile bocciare tutte e non intervenire ma i nodi rispetto alle condizioni materiali delle persone rimangono che oggi voi non parliate e che li bocciate perché questa è la priorità assoluta purtroppo e di questo stiamo cercando di parlarne da mesi nelle commissioni e non solo ma avanzate un'altra proposta diversa allora qual è la proposta che viene messa in capo perché su questo non si vede nulla onestamente quindi ribadisco se li bocciate oggi siccome questo è un frutto di un lavoro importante che noi in nove mesi che conduciamo ascoltando gli sportelli ascoltando tutti i presidi esistenti e ritraducendoli in proposta ritorneranno sul bilancio preventivo anche e cercheremo a quel punto anche le risorse per finanziarli questi progetti perché per noi è fondamentale grazie capogruppo Auletta ora andiamo in ricreazione di voto quindi vi invito a prenotarvi prego consigliere grazie presidente e riprendo dall'ultima parte di Auletta che è spiacevole insomma non avere su questi temi noi qui stiamo discutendo di cultura stiamo discutendo di povertà stiamo discutendo insomma di cose importanti che riguardano la città e non riuscire mai ad avere un confronto perché alla fine siccome è tardi e dobbiamo fare presto e allora c'è l'ordine di scuderia di non di non aprire bocca io invece alcune considerazioni le voglio fare la consigliera Asconia Miglio ha già illustrato bene molti aspetti del lavoro che in seconda commissione stanno facendo io volevo sottolineare che a Pisa il lavoro che questa mozione pone all'attenzione della maggioranza sarebbe anche più semplice perché la sede dell'osservatorio scolastico sulla dispersione è qui a Pisa gestisce i dati di tutte le regioni italiane è un'eccellenza pisana dove a cui appunto collabora con il ministero e a cui afferiscono tutte le regioni italiane la regione non a caso ha ampliato i dipendenti dei centri dell'impiego perché non solo perché è sicuramente un aumento della base occupazionale ma perché è il centro per l'impiego che poi è il vero punto dove si può unire domanda ed offerta di lavoro e anche avere un monitoraggio di quello che c'è sono stati previsti fondi regionali per la formazione per la riqualificazione di persone uscite dal mercato del lavoro ma che appunto non hanno particolari specializzazioni o profili professionali tali da rendere agevole il rientro c'è tutto il mondo e non parlo di partiti politici parlo proprio di istituzioni c'è tutto un mondo di istituzioni che sta mettendo in atto poi come si dice spesso alcune cose possono certamente non essere sufficienti una serie di azioni di contrasto alla povertà e anche questa volta noi dobbiamo registrare che il comune di Pisa ne è completamente avulso ed assente nella discussione e nei fatti detto questo era per annunciare presidente il nostro voto favorevole alla mozione ringraziando Auletta di aver posto il tema bene grazie consigliere Apichi ci sono altre dichiarazioni di voto non vedo altre prenotazioni per cui passiamo al voto la votazione aperta signor precedente grazie mi invito a votare grazie Grazie. Manca Colecchia, Buscemi. No, Buscemi e Mancini hanno annunciato e non partecipavano alla discussione. Non partecipavano, è vero. Manca Colecchia e basta, secondo me. Colecchia, sì. Per favore, regia. Eccolo. Perfetto, perfetto. Bene, allora chiudo la votazione. Allora, molto favorevoli. C'è la radio aperta. Sfruttatori, vi torna? Sì, a me sì. Non è spesso, spesso, no. Sì, io a posto. Allora, otto favorevoli, quindici contrari, zero assenuti, tre con voto non espresso. Quindi l'ordine del giorno viene respinto. Passiamo allora all'ordine del giorno numero sette. Per studenti con disabilità, presentata dalla consigliera Scogna Miglio. A cui lascio la parola per l'illustrazione. Devo prendere la parola. Eccomi. Scusate. Sì, quanti minuti, mi scusi? Quanti minuti ho? Otto. Va bene, grazie. Allora, dunque, volevo iniziare illustrando un attimo questo ordine del giorno, che viene da un lavoro appunto anche fatto in commissione, anzi ringrazio il presidente Lanzari, anche se voglio, vorrei, diciamo anche chiarire questa cosa. Quando si fa un argomento firmato, si richiedono anche le audizioni, che possono essere di persone, come è stato anche condiviso, anche degli assessori. Sì o no, intanto non è obbligatorio. Ci possono essere anche delle volte che viene richiesto un'audizione, una commissione con argomento, con le firme dovute, per cui si può fare prima un'istruttoria con le audizioni che si richiedono. Questo per dire perché era stato richiesto da un'audizione dell'assessore Monno, però non in qualità di assessore della disabilità e francamente io ne ho anche titolarietà in questo senso come richiedente dell'argomento. Io vorrei precisare questo, poi chiederete l'UMI a chi volete su questo, perché era stata chiamata come presidente delle conferenze educative. E quando uno ha più, diciamo, nomine, può essere presidente di un'associazione, può essere assessore alla disabilità, assessore alle politiche educative, addirittura io potevo anche richiedere una commissione dell'assessore Monno come assessore alle politiche educative. Cioè non è che lei, lei ha cambiato, ha mandato un messaggio al presidente e gli ha detto io vengo qui in funzione di assessore alle disabilità. Questo l'ha deciso lei, siccome c'erano tanti ospiti, questo per precisare perché ci tengo, non ho voluto fare nessuna questione perché era tardi, perché era tardissimo, c'erano un sacco di persone, l'argomento era importante. Anche se riguardava gli studenti con disabilità non solo, perché era bisogno educativo e speciale DSA, quindi la DSA con la disabilità non c'entra assolutamente niente. Era proprio perché c'era un motivo che a questo punto, ho fatto l'ordine del giorno perché lo volevo proprio spiegare. Il motivo era proprio perché nella conferenza educativa, così come nei protocolli di intesa, ci sono più forze che insieme possono risolvere il problema. L'assessorato alla disabilità, ahimè, siccome le deleghe vengono mandate tutte alla società della salute, quindi il bilancio è legato alla società della salute, non mi risulta che nell'assessorato alla disabilità ci sia un bilancio perché almeno io non l'ho visto, poi se c'è, bene, allora mi sono sbagliata, perfetto, ma non mi pare siano state messe delle cose. Quindi la funzione in quel caso di presidente delle politiche educative della conferenza serve proprio ad unire le forze perché lì c'è la società della salute in forma di ASLE, è chiaro come la società della salute, c'è la provincia, ci sono una serie di persone chiamate anche come enti insieme che entrano in profondità sulla tematica che era e che è anche all'ordine del giorno di oggi, cioè quella di avere certezza che la didattica a distanza e quindi tutti i bisogni educativi speciali per le persone che hanno alcune problematiche legate proprio anche all'apprendimento, ma anche a sistemi compensativi, educativi che in quel momento hanno bisogno per seguire l'obiettivo minimo della classe, ma anche la programmazione, compiti in classe eccetera, eravamo certi se riuscivamo ad approfondire i servizi con l'aiuto della provincia e con l'aiuto appunto della presidente della conferenza che poi in seconda battuta come assessore alla disabilità avrebbe portato dati più precisi e quindi cominciare a lavorare come commissione in seconda incontro per portare quindi il contrario, esattamente il contrario io volevo fare, ma siccome lei ha deciso così io non ho voluto intraprendere. questioni? Ma la funzione è proprio quella, infatti la domanda è provare ad aggiungere delle risorse perché siamo sicuri su chi grava questa diciamo didattica a distanza nelle case? Ho portato dei dati infatti che sta gravando sulle famiglie, addirittura sui genitori perché a volte c'è sì la persona a casa, ma è una figura assistenziale, no? Cioè una persona che aiuta comunque a svolgere le funzioni essenziali. Qui siamo alla funzione al diritto allo studio che è un altro diritto comunque la Costituzione chiaramente prevede e che quindi poi nella eseguibilità e nell'attuazione ci devono essere delle cose pari uguali agli altri studenti. Quindi se uno studente alle superiori si è normodotato, si accende il computer, riesce a seguire, fa un compito di classe, clicca nella crocetta minuscola perché deve fare una domanda, deve fare un compito ultimo. Oppure deve fare un'interrogazione ma magari la persona non è verbale, quindi sfido chiunque a eseguire diciamo tutta una serie di iter, credo che ci vogliano persone competenti nelle politiche educative, quindi un personale formato che debba seguire questo. La dottoressa Celoni ha iniziato a dire che si potevano iniziare a fare delle cose specifiche così come nel provveditorato che era presente e che quindi poi ne poteva poi comunque complementare il fatto anche di avere dati più precisi, lo farà sulle persone anche con le associazioni e quindi anche capire proprio le difficoltà, perché questo è un problema che ha infatti la dottoressa Celoni esposto, ha detto non cerchiamo di ripiegare subito sull'assistente specialistica che è subito la persona quella che segue in classe oltre all'insegnante di sostegno, o non ci fossilizziamo così, ha detto anche il dirigente Caruso perché è stato invitato anche lui come coordinatore dei dirigenti di rete, non entriamo direttamente o l'insegnante di sostegno o l'assistente specialistica, è una risposta troppo approssimativa, perché? Perché l'assistente specialistica deve incominciare a girare per le case, quindi spazio, tempo, soldi, non è la risposta immediata, ecco perché è lo stesso l'insegnante di sostegno che magari ha anche già una programmazione di un certo tipo, anche perché non c'è l'insegnante di sostegno soltanto, ma ci sono gli insegnanti curriculari. Credo che qui vada approfondita la tematica, trovando soluzioni di altro tipo nel personale formativo, perché altrimenti poi i guai li vediamo fra poco, perché le famiglie, quando poi si dirà che non si sono raggiunti gli obiettivi, che nell'autonomia siamo tornati indietro, che era riuscito a fare dei progressi e poi non li ha più fatti, e poi magari improvvisamente i fratelli che devono, sorelle che devono compensare quella problematica, ecco che diciamo che lì nasceranno delle problematiche molto molto grosse. Tant'è che il ministero, e finisco presidente, mi scusi, il ministero che ha fatto ha detto come cavolo si fa a risolvere queste situazioni nell'età? Sarà meglio farli venire in presenza, le persone con disabilità e farli venire a scuola? Non è che ha risposto, ha risposto in questo modo, ha provato a dare questa risposta con tutte le altre problematiche dell'inclusione, venivano solo loro, non è nemmeno una risposta, no? Però evidentemente la problematica c'è e come se c'è. E invece l'assessore della disabilità ha dato delle risposte di un qualcosa che già c'era, ma continuo poi dopo nell'intervento o comunque finale. Grazie. Grazie consigliera Scoglia Miglio, ora apro il dibattito. Io ho chiesto la parola comunque, non so se mi avete sentito, se io ho usato il tablet. No, onestamente non mi risulta la soprenotazione. Intanto magari do la parola alla regia per favore a verificare questa cosa. Richiesta di parola. E intanto do la parola all'azzeri. Posso lasciare la parola all'assessore? Intervengo dopo. L'ambito a parlare perché poi dopo c'è anche i cognetti. Due dello stesso gruppo? Due dello stesso gruppo? E quindi ho uno o l'altro. Io parlo come presidente della seconda commissione. Perfetto, prego. Quanto tempo ho? Tre minuti. Spero di farcela perché vorrei leggere attentamente. Il mio intervento si limita alla lettura di un articolo. L'articolo 9 del Decreto-Legge 9 marzo 2020 numero 14. Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all'emergenza Covid-19. Articolo 9. Assistenza a persone e alunni con disabilità. Punto 1. Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la durata, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del personale disponibile, anche impiegato presso terzi titorali di concessioni, convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con enti locali medesimi, l'assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza previste dall'articolo 2,1 lettera M e alla realizzazione delle azioni previste dall'articolo 3,1 lettera G del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 59 dell'8 marzo 2020, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste. Punto 2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno facoltà di istituire, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, unità speciali atte a garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità che presentino condizioni di fragilità o di comoribilità tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione dei centri di urni per persone con disabilità. Punto 3. alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Questo è quello che volevo evidenziare e portare a conoscenza di tutti i consiglieri. Grazie e buongiorno. Grazie Presidente. Grazie, grazie. Vedo prenotato Cognetti, però mi risulta che possa intervenire uno per gruppo, capogruppo, suo delegato. Non è così. Intervenuto come Presidente. Mi sbaglio? Chiedo conferma. Quindi comunque do la parola a Cognetti allora. È uno per gruppo. È appunto, uno per gruppo, a cammino risultavano per gruppo, che poi intervenga e faccia un intervento. E l'altro è servito come Presidente di Commissione. Sì, ma è uno per gruppo, è uno per gruppo, capogruppo, suo delegato. Quindi scusatemi, ma non posso dare la parola a Cognetti. Allora, anche sulla richiesta della parola dell'assessore Munno, l'articolo non lo prevede in realtà la possibilità di dare parola durante la discussione dell'ordine del giorno, assessore. Quindi, se c'è qualcuno contrario, non gliela posso dare. Però, siccome l'Assemblea è sovrana, lo rimetto al Consiglio. Quindi, qualcuno è contrario a far parlare l'assessore Munno, per favore, alzi la mano o me lo dica, per favore. Grazie. Consigliere Oletta, capogruppo Oletta, lei è contrario? Sì. E allora, mi dispiace. Vergogna. Non posso dare la parola. Se si parla, perché si parla? Scusi, eh, Nicolai, sta parlando all'incuore di nostro intervento. Grazie. Eh, vergogna. Allora, si chiede, siccome non è previsto dal regolamento, va bene, Nicolai, non è previsto dal regolamento. E anche il Presidente Germania ha sempre fatto così. Se qualcuno è contrario, non parla. Grazie. Se volete intervenire, intervenite, ma non fuori per favore dagli interventi previsti. Grazie. Quindi, ci sono altri interventi al di là dell'assessore Munno? Prego, capogruppo Trapani. Io chiedevo soltanto una cosa. Mi dica. Date la parola, per favore, un attimo all'assessore Munno. Trapani ha già parlato, Scogna Miglio. La mia è un intervento non politico, ma soltanto di carattere, diciamo, per verità dei fatti. Siccome mi è stato eccepito di aver preteso di parlare... No, no, è soltanto della questione se ero in qualità di Presidente della conferenza zonale o assessore. Però sono questo che volevo chiarire. No, io sono stato un intervento. Non faccio l'intervento, mi rimarrà il dubbio. Va bene, rimarrà il dubbio. No, no, non ci rimane. Allora, andiamo in dichiarazione di voto se non ci sono altri interventi. Mi può dare un'altra? Sì, mi scusi. Sì, prego, per la conclusione. Scusate, ma mi si è bloccato il tablet. Prego, Scogna Miglio. Consigliere Scogna Miglio, le aspettano le conclusioni? Sì, ecco, mi volevo dire che io avevo aperto, quindi il consigliere Trapani non si va a passare. Sì, ve lo volevo dire perché io avevo aperto, quindi il Trapani come intervento lo poteva fare. Abbia pazienza, giusto nella correttezza. Scusate, ma mi sarei bloccato il tablet, l'avevo detto. Quindi ora mi sarei bloccato. Bene, la parola allora al capogruppo Trapani. Scusi, eh, beh, pazienza. Grazie, Presidente. Diciamo, chiunque voglia dire qualcosa, tranne chi non lo può fare per regolamento, per vademecum, che è stato adottato dal Presidente del Consiglio Comunale, alla quale noi come opposizione ci siamo opposti, andando anche dal prefetto. Quindi se voi non vi va bene questa modalità, non è che dovete di vergogna a noi, di vergogna al Presidente che ha, diciamo, adottato un vademecum che non va bene. E questo lo dico, insomma, perché vergogna a noi? No, vergogna a chi ha adottato quel vademecum che non permette agli assessori di parlare durante l'ordine del giorno, cambiando il regolamento, cambiate il regolamento, cambiate il vademecum e va bene. Comunque, andando sul punto, noi questo è uno del giorno al quale teniamo particolarmente, teniamo particolarmente proprio perché è evidente che ci sono delle persone che in questa crisi purtroppo hanno avuto ancora più difficoltà degli altri. Tutti noi siamo stati toccati alla crisi, dopodiché è evidente che alcuni pezzi della nostra società sono stati toccati fortemente. E ovviamente gli studenti con disabilità hanno subito la crisi, che non è solamente una crisi ovviamente fortissima economica, è anche una crisi, diciamo, da affettività, da rapporti che ognuno di noi può avere, visto che ovviamente non può uscire e tutto il resto, ma è anche una crisi per quello che fanno, cioè per l'educazione, la formazione, che spesso, anche e soprattutto in soggetti con disabilità, sono, come sapete, delle educazioni di un certo tipo, molto particolari, che prevedono anche una necessità di raggiungimento di obiettivi scolastici con degli strumenti che purtroppo con questa crisi, quindi con il distanziamento non è possibile. Con questo ordine del giorno chiediamo, visto che tutti noi spesso abbiamo detto anche in quest'Aula che coloro che sono affetti da disabilità devono essere al centro delle nostre scelte politiche e quindi anche economiche e finanziarie, chiediamo che vi sia un riconoscimento e che su questo si investa anche ovviamente fornendo personale formato e competente per la didattica che riesca a superare ovviamente quegli scogli purtroppo che ad oggi ci sono. Sono, diciamo, delle scelte che si fa sui nostri, diciamo, sui nostri concittadini e oggettivamente crediamo che un ordine del giorno del genere sia, diciamo, il minimo dato quello che purtroppo stiamo vivendo e quelle famiglie stanno vivendo. Quindi lo dobbiamo a loro votare no? Lo vedrai assurdo perché diciamo, diciamo sempre, facciamo post sulla disabilità e poi non andiamo in concreto quando invece chiediamo un pezzettino in più. Un pezzettino, eh? Non tanto, un pezzettino. Grazie Presidente. Grazie a lei, Capogruppo Trapani. Vedo la prenotazione di Pasquale Giovanni, però non posso dare la parola perché ha già parlato il consigliere Lazzari. Una domanda, prego, prego. La parola allora a Pasqualino. Grazie Presidente. Solo una domanda perché io non leggo da nessuna parte che nell'Odg può intervenire solo uno a gruppo o un capogruppo. Io so che nell'Odg possono intervenire tutti, mentre nella dichiarazione di voto uno a gruppo o il capogruppo. Torno anche a lei. No, guardi, ero appunto al telefono con gli uffici per accertarmi di questa mia intuizione ed è così. Non ha dato la parola a Cognetti che secondo me è sbagliato. Non ha dato la parola a Cognetti perché non gliela potevo dare, era intervenuto Lazzari che ha voluto precisare il ruolo. Ma le devo dire... No, 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 io secondo me possono intervenire tutti qui. No, mi dispiace, è l'articolo 52, quindi non è previsto. Anzi, guardi, sono contenta che mi dà questa occasione. Perché allora lei è preciso che il consigliere Lazzari prima è intervenuto precisando che lo faceva come Presidente di Commissione. Però se andiamo bene a guardare l'articolo 52 del regolamento, non prevede l'intervento del Presidente di Commissione. Lui ha voluto precisare in più questo ruolo. Però è intervenuto come rappresentante del partito della Lega. Quindi sull'Odg può intervenire solo il capogruppo o il suo delegato. Sull'Odg non possono intervenire gli altri consiglieri. Ok, questa è la... Ok. Esatto. Spero di essere stata chiara e esaltata. La parola quindi al capogruppo Letta. Presidente, chiedo scusa. Io sono italiano, mi chiamo Lazzari. Lazzari. E si chiede Lazzari. Grazie. Abbia pazienza, sa. A quest'ora forse siamo un po' tutti stanchi. Grazie. Arrivederci. Anche a me mi cambiano sempre tanto il nome, sa. Lo trovo anche scritto diversamente. L'ultima volta, probabilmente sul concilio l'avete visto anche, di Gadda mi hanno richiamato. Quindi, però serve ogni tanto un po' di latticità. Grazie, arrivederci e la parola al capogruppo Letta. Sì, grazie Presidente. Io su questo non ho capito chi dice la vergogna perché mi ero opposto all'intervento dell'assessora, ma io lo ripendico questa cosa. Ci sono delle fasi in cui intervengo, sì, ci sono delle fasi di discussione con l'Aggiunto e ci sono delle fasi che sono apertamente dell'articolazione consigliare. Se poi qualche consigliere comunale, fratelli d'Italia vuole intervenire su questa maniera, benvenga tutto il tempo la possibilità di farlo. Ci sono luoghi e momenti per intervenire e discutere nelle sedi opportune e nei momenti opportuni. Mi sembra che di fatti personali non ce n'era nessuno, per cui, onestamente, devo essere sincero, non riesco a capire la polemica su questo. No, anche perché poi, onestamente, mi sembra che sui chiarimenti, sulla vicenda, ce ne siano ben pochi da fare. Almeno questo è il mio giudizio e lo rivendico con grande forza. Io, nel merito della mozione, io faccio riferimento a quella che avevo presentato prima, che era molto, diciamo, articolata, con tutta quanto una serie di punti di carattere specifico. Diciamo, ci sono delle scelte di carattere strategico su come si può affrontare la povertà nella fase di emergenza e quant'altro. Questa mozione, presentata dalla consiglia Scognamidio, creda che invece stia dentro il solco di quelle che sono alcune delle situazioni oggettive di assoluta difficoltà e di criticità che tutta quanto una serie di soggetti vivono nella fase di emergenza in maniera ancora più amplificata e che sono oggettivi e che mi sembra che dare un segnale unitariamente da parte del Consiglio Comunale, non solo di riconoscimento, io, insomma, c'era il mio uditore in quell'occasione in commissione rispetto al percorso che è stato fatto della commissione a cui faceva riferimento la consigliera Scognamidio col presidente Lazzari sia un elemento di carattere importante visto che questo argomento è stato portato su iniziativa dalla consigliera Scognamidio con un argomento firmato da tutti dia un elemento positivo così come abbiamo votato prima degli altri ordini del giorno che in maniera puntuale individuano delle situazioni di criticità assoluta e provano a dire che su queste è prioritario che si intervenga non che si inizia a intervenire che si potenziano tutti i servizi esistenti questo è l'elemento di fondo in cui la sinergia delle competenze rispetto a quello che diceva il presidente Lazzari si moltiplicano non è che qualcuno si deve sottrarre o qualcuno vuole dire ah non è stato fatto questo mi sembra che sia una mozione ripeto e ribadisco di buon senso che mette in nucio una situazione di difficoltà ancora e sulla quale non ci sono le adeguate risposte a tutti quanti i livelli allora si può come consiglio comunale dare un segnale in questa direzione e quindi lavorare perché questi ordini del giorno varranno io mi auguro su come viene stirato il prossimo bilancio preventivo i prossimi interventi in questa direzione io credo che sia veramente una cosa di civiltà e di buon senso per cui annuncio il mio voto favorevole grazie capogruppo Letta vedo la prenotazione di Cognetti e Mannocci entrambi gruppo Lega qual è il problema? sapete che non potete intervenire vero? Cognetti ha qualche altra domanda? bene bene allora scusate ma andiamo allora se abbiamo finito con la discussione alle conclusioni abbiate pazienza quindi dov'è la scognamiglia? no Mannocci mi dica mi dica la vedo mi dica sì avrei una mozione d'ordine Presidente posso? certo bene grazie dunque io penso che a termini di regolamento l'episodio che è accaduto poco fa debba essere ridisciplinato in altra maniera e mi spiego il consigliare Lazzari ha chiesto la parola dichiarandosi in qualità di Presidente di Commissione e lei gliela ha concessa secondo me invece non gliela doveva concedere e comunque non può togliere la parola a Cognetti che è incolpevole in questa situazione perché evidentemente diciamo così se è stato fatto parlare inopinatamente indebitamente Lazzari che si ripeto si è qualificato non come rappresentante Lega ma come Presidente di Commissione non doveva essere data la parola a Lazzari e invece non può essere tolta la parola a Cognetti che incolpevolmente viene tolto dal dibattito quando invece era la Presidenza che non doveva concedere la parola a Lazzari quindi secondo me guardi se vuole le rispondo subito io parto dal presupposto che i consigliari conoscono il regolamento e quindi nel momento in cui lui si è qualificato l'ho preso semplicemente con una qualifica in più non che parlasse come quindi per me ha parlato il gruppo Lega magari per la prossima volta vi consiglio una maggior coordinazione tra il gruppo ora vedo prenotato Trapani quindi lascio la parola al capogruppo Trapani grazie ma non è questo no lei non mi può togliere la parola mi scusi Presidente perché la invito a riflettere attentamente il Presidente Lazzari si è qualificato in apertura mi permetta io diciamo lo dico sommessamente non perché voglio offenderla però se c'è stato un errore è stato da parte sua perché lei doveva rifiutare l'intervento di Lazzari e consentire il normale intervento del rappresentante Lega nella persona di connessione vede Mannoci questo è il suo punto di vista la sua interpretazione io ho dato un'altra interpretazione in questo momento io ho precisato dopo infatti che era una qualifica in più che ha voluto dire e che ha voluto esprimere il Presidente Lazzari ok perché era intervenuta la consigliere Asconi Amiglio e probabilmente nel suo intervento il consigliere Lazzari ci ha visto anche un intervento in qualche modo competente visto che la consigliere Asconi Amiglio è anche Vice Presidente e quindi della medesima commissione per cui non ci ho visto niente di male mi dispiace io l'ho interpretata così però non c'è nulla di contro ci mancherebbe altro questa parola di interpretazione sconta un difetto di fondo che lei non riconosce di aver dato erroneamente la parola a un Presidente di Commissione qualunque questo fosse non ripeto Mannoci io non ho forse non mi sono espressa bene forse non mi sono espressa bene Mannoci ma io non ho lei non richiama nessuna norma regolamentare al proposito dà una sua interpretazione così a piacere ma perché questo è oggetto di interpretazione questo è oggetto di interpretazione però mi scusi Mannoci ho bisogno di dare la parola un attimo anche al capogruppo Trapani perché vorrei dare la parola a tutti grazie prendo atto che non è soddisfacente la sua spiegazione niente per favore la parola a Mannoci e la data al capogruppo Trapani grazie io sono costretto a prendere la parola diciamo dopo visto che l'ha presa Mannoci anche per quello che dice l'avvocato Mannoci io cioè trovo imbarazzante diciamo quello che è stato detto ora non si dà la parola perché si è presidente o meno Lazzari parla perché è consigliere il fatto che si voglia dire che un presidente può modificare una fonte tra l'altro regolamentare e statutale è una cosa che non si può dire ma non si può dire qua se la presidente avessi dato la parola a Lazzari come capogruppo del PD non vuol dire che la Lega avrebbe potuto far intervenire un altro con la sua interpretazione quindi mi sembra una cosa che capisco che da avvocato è sicuramente interessante come diciamo argomentazione diciamo che si può fare in un anno di tribunale ma che penso che abbia poca sinceramente diciamo concretezza in quello che è stato fatto però la questione ulteriore che io non ho capito e su questo Lazzari vorrei portare attenzione alla presidenza io non ho capito quando perché forse mi sono perso quando il consigliere Lazzari ha detto io sono italiano e mi chiamo Lazzari io non ho capito cosa voleva dire col io sono italiano perché non ho capito quale sia l'argomento e non ho capito perché ha detto io mi chiamo Lazzari siccome ha detto io sono italiano faccio parte di un consiglio vorrei capire ovviamente da Lazzari cosa credo che sia da chiarire ecco perché io non ho capito sinceramente questo suo inizio col quale ha voluto giustificare però se viene chiarito mi fa ovviamente se vuole però scusate ho dato la parola a Trapani Scognamiglio lei interviene per le conclusioni date la parola un attimo a Scognamiglio per capire grazie no era per chiudere l'argomento l'ordine del giorno quando mi dava la parola pensavo se era il momento della chiusura abbia pazienza ma mi pare di no allora vabbè Cognetti c'è qualche problema? eh la vedo prenotata mi dica prego per dichiarazione di voto no devo finire però prima magari facciamo fare le conclusioni alla proponente dell'ordine del giorno va bene prego Scognamiglio me lo ridà da capo il tempo per favore mettete in tempo per favore la consigliera Scognamiglio per le conclusioni ok grazie presidente chiudo allora io sono napoletana e faccio Scognamiglio Scognagrano le peggio nomi che mi hanno dato sono napoletana va bene a parte le battute del presidente dicevo intanto volevo ricordare all'assessore che lei può venire quando vuole in commissione lei non è mai venuta come assessore alla disabilità una volta quindi io voglio dire quando lei ha delle proposte ha avuto degli incontri dei tavoli tavoli già esistenti da sempre anche prima che c'era l'assessorato alla disabilità perché il CTS è stato fatto dalle associazioni tengo ben chiaro a precisare così come le consulte provinciali all'interno del provveditorato sono state chieste dalle associazioni quindi quando lei ha dei tavoli delle proposte ha avuto quella bollissima proposta che credo che sia veramente condivisibile proprio dove nell'incontro del CTS della mattina quindi se io non avessi avuto la costanza di fare di chiedere l'argomento non ne avremmo mai saputo niente questo per dire che invece poi quando ha fatto il bando per le associazioni si è scordata di venire in commissione quindi prendiamo anche un po' una linea insomma io l'argomento li faccio perché mi spetta farlo lei l'assessore quando vuole venire chiede alla sua maggioranza di venire a portare delle cose e noi siamo ben lieti di ascoltarla quindi questo anzi per condividere alcune proposte in questa fattispecie e ringrazio il presidente Lazzari che è stato puntualissimo come devo dire ultimamente poi sta facendo in sequenza si parla soprattutto di assistenziale infatti provate a far fare a un ragazzo con disabilità gravissima una versione di latino o di greco a casa con un assistente che non ha mai fatto latino e greco oppure un integrale triplo a una persona disabile grave che magari a matematica forse ha fatto altri percorsi di studio io sto parlando di una didattica pari o uguali nei tempi e nei modi e bisogna fare le cose oppure di pieni educativi speciali per ragazzi appunto autistici o per ragazzi anche con altre disabilità in cui a casa bisogna avere sapere la competenza degli strumenti adatti per fare le cose che faceva esattamente in presenza ripeto tant'è che è stato chiesto di venire in presenza dopo quello che ha detto lei presidente Lazzari del 9 marzo c'è stata una modifica su questo che lei non ha citato io ce l'ho qui ma non la voglio non importa non è quello proprio perché è stato visto che a casa i ragazzi non riuscivano a studiare perché non avevano gli strumenti adatti non avevano le persone competenti uguali all'interno con diciamo quel percorso che era stato fatto che il piano educativo speciale per la persona con quelle metodiche è chiaro che si abbozza tutti nell'emergenza ma ora se si deve fare un anno così ci auguriamo tutti di no per esempio la proposta ed ecco perché le conferenze educative la proposta è gli studenti universitari così come fanno i tutor agli gli studenti disabili gravi e gravissimi all'interno dell'università sapete no come funziona possono benissimo anche con delle appunto facendo dei piccoli bandi proprio come tutor si chiamano così proprio per competenza perché è chiaro che se uno un ragazzo è il perito chimico e uno non ha mai fatto chimica non è possibile aiutarlo a fare un compito in classe ragazzi queste sono cose che sono cose importanti perché sono l'evoluzione e se da solo un ente non è che un ente può risolvere questi problemi è inequivocabile questo ma un ente insieme ai servizi insieme al provveditorato insieme alla provincia insieme all'università per esempio nel CUT lei è anche referente del CUT potrà portare anche stanze di questo tipo visto che c'è una collaborazione per gli spazi ci deve essere anche una collaborazione nell'acculturarsi su questo tipo anche di valore che si porta le strategie compensative che permettono diciamo anche mezzi informatici particolari o strumenti diversi sono quelli che devono essere poi gli stessi non è che si possono cambiare questo solo per dire che ahimè in questo bilancio preventivo qualcosa in più poteva essere programmato e chiedo ancora insomma poi in un bilancio in qualche modo di trovare anche il modo grazie presidente grazie grazie a lei scogna miglio dunque ora allora passiamo alle dichiarazioni di voto vedo già prenotato era prenotato Cognetti che forse si deve riprenotare però regia precedente cognetti se vuole gli diamo la parola subito perfetto grazie che era prenotato da prima dunque per fortuna adesso si ricomincia grazie alla scogna miglio meno male adesso si ricomincia e io chiedo veramente di ritornare sul tema al di là del della piccola parentesi di gloria ed un assaggio nostalgico della gestione di sinistra finita la parentesi io ritornerei sul tema il tema è estremamente interessante è estremamente interessante e non ho nessuna nessuna difficoltà di schieramento a confrontarmi con la Maria Scogna Miglio quello che stiamo vivendo ora la pandemia e i ragazzi in casa con disabilità di diversi gradi ma anche con non disabilità è un evento certamente che rimarrà nella loro educazione rimarrà nel loro percorso didattico rimarrà Scogna Miglio credo che anche tu sia d'accordo rimarrà anche nei rapporti così cambiati tra docente e allievo e tra allievo e allievo cioè rimarrà anche nei rapporti sociali che hanno i ragazzi tra di loro io credo che questa impronta li rimarrà nel loro percorso scolastico ecco perché l'indicazione di Maria Scogna Miglio io la vedo come un argomento che interessa a tutti il gruppo Lega voterà a favore con queste premesse rivedendo anche perché intelligentemente è stata lasciata ampio spazio nel senso non è che c'è un vincolo di bilancio è da studiare e da vedere una situazione che chiaramente si evolve quindi una situazione che deve essere seguita e le commissioni competenti compresa la quarta devono continuare a seguire in questo senso noi votiamo a favore auspicando anzi un confronto che non finisce stasera ma che continua tra le parti politiche in una situazione estremamente estremamente anomala che stiamo vivendo tutti tutti insieme con i nostri ragazzi grazie la parola ora al capogruppo dei Rini Stato di Italia grazie presidente io scusate ma non capisco quando non capisco è un problema non capisco se sia un processo all'assessore senza contraddittorio perché si inutile che tu scapeggi ora chiacchierò io per favore se interviene lei non interviene io la parola a lei Nerini per favore conclude appunto posso dire quel che voglio nei limiti del consentito presidente perché sennò mi dicono che io sono violento capito allora non capisco se sia un processo all'assessore senza contraddittorio senza contrattare quindi scorrettissimo oppure se sia un ordine del giorno perché l'assessore 23 è venuto in commissione come presidente della conferenza educativa personale non lo sapeva e poi invece era lì come assessore è un grande cassotto fatto così non si può continuare questo sistema qui poi l'ordine del giorno chiede una cosa che deve mettere in preventivo in bilancio preventivo la stessa assessore ma come vi ponete ma come vi ponete ma si scherza davvero e poi sono sono violento io ma state scherzando davvero io non lo so cioè non si fa parlare non si può dire niente va bene ci sta ci sta ci sta lavorando sappiamo tutti che ci sta lavorando su questa cosa qui volete metterci il cappello perché bigarba sempre mettere il cappello eh no sì volete mettere il cappello su questa cosa eh ci sta lavorando lei ci sta lavorando la cute ma lo volete dire o non lo volete dire che ci volete mettere il cappello punto e basta no non è vero invece è vero invece è così ci sta lavorando lei ci sta lavorando la cute eh è inutile che tu sbraiti ora sto parlando io capito e fate sempre in questa maniera volete volete cercate tutte le volte di zittire le persone oggi non ci è fatto capire niente di questa cosa qui se io se io non sentivo la mundo non capivo nulla perché il tuo ordine del giorno dice una cosa e te ne hai detta completamente andando completamente fuori tema era un ordine del giorno che se se l'assessore non ci avessi lavorato lei era cute si poteva anche votare così è un macello non è fattibile non si può avere questi rapporti qui lo dovete imparare che quando ci si va a provare le cose bisogna confrontarsi a modo e voi non ce la fate non è nel vostro dna farcela grazie presidente grazie a lei do la parola allora al capogruppo lenta io cioè poi si può buttare in cacciara no però io onestamente non c'è nessuna almeno né il processo all'assessore né in censura di nessun tipo c'è un ordine del giorno onestamente come ne sono stati approvati altri io non ho avuto problemi rispetto ad alcuni presentati dal capogruppo Nerini a dire che le condividevo e non penso che su questa cosa qui ci fosse un'intenzione c'è un'idea poi ognuno lo dice con niente io lo condivido capiamo poi come si sviluppa verso il bilancio preventivo questa roba qui come si può approfondire come si può potenziare su mi sembra che questa volta nella discussione di oggi su alcune cose mirate che sono dati oggettivi non c'è un disconoscimento di quanto si fa ma si chiede un potenziamento ulteriore io onestamente non credo che ci sia nessuno di questi tra l'altro poi diciamo se su questo si arrivasse a un elemento largo così come abbiamo fatto altre volte meno che mai c'è il cappello di una forza politica ma c'è una condivisione un'assunzione generale rispetto al quale diamo un messaggio positivo rispetto alla città tra le situazioni di difficoltà raccogliendo anche un invito che veniva da parte del sindaco in un pezzo della sua discussione onestamente non trovo nessuna lesamestà nessuna operazione di carattere particolare mi pare un ordine del giorno limitato di buon senso che nelle premesse è assolutamente descrittivo di una situazione che mi pare difficile di sconoscere che molti di noi conosco e alcuni conosco anche personalmente io non sono tra questi ma mi sembra che quello che viene detto sia assolutamente condivisibile io lo trovo onestamente un'operazione di buon senso non c'è nessun processo a nessuno né tantomeno un ordine del giorno pensa di delegittimare qualcuno o qualche cosa perché se no se diventa così mi sembra un po' impossibile pensare che si vuoti qualsiasi argomento cioè non è che proprio tra l'altro c'è un elemento di carattere generale non vincolante rispetto al quantum e sarà approfondito si dà un segnale politico importante sull'emergenza specifica ecco io lo leggo così e vorrei che fosse letto così e almeno io augurandomi che quest'ordine del giorno possa essere approvato all'unanimità a larghissima maggioranza lo racconterò in questa maniera lo racconterò in questa maniera in termini positivi grazie capogruppo Letta ora la parola alla consigliera Asconia Miglia si faccio la dichiarazione di voto scusate se sbraitavo ma sbraitavo in silenzio diciamo nelle case forse forse in consiglio non avrei potuto fare ma nelle case magari succede bretavo in silenzio perché volevo far notare quale persona attenta che è il consigliere Nerini che è stato fatto da una firma quindi non è stato fatto da no a tutti perché doveva essere una questione no di minoranze che andavano a battagliare no è stata fatta da una firma proprio volutamente perché aveva approfondito alcune tematiche e che ahimè è per il tempo questo è inevitabile l'ho detto subito all'inizio tant'è che il tempo è stato un macello in quel giorno lì visto che comunque l'assessore Mono che ha detto proprio in commissione ritornerò anche in quella funzione quindi lei ha voluto comunque avere quella veste ma io le avevo consigliato quell'altra proprio perché aveva più margine anche di lavoro che sta facendo nessuno mette in piedi se lei risente la cosa addirittura sono stata talmente concisa nella presentazione ho lasciato io la parola all'assessore Mono che ha parlato forse più di tutti perché era giusto così per sapere che cosa si stava facendo ma ahimè l'assessorato alla disabilità da solo non può fare questa cosa qui se non è comunque legato a una maggioranza e a una giunta che approfondisce anche quale può essere la modalità e quali possono essere le proposte perché purtroppo signori miei la scuola corre comunque anche se poi ci saranno delle inevitabili comunque funzioni finali che poi uno dovranno anche valutare le griglie perché le griglie sono tremende le griglie valutative su quelle non si scappa purtroppo pensate ai ragazzi anche che devono passare dalla terza media alla prima superiore devono fare l'orientamento in questi mesi che cosa può essere che cosa può essere pensate anche a una maturità ma anche semplicemente a un passaggio dalla scuola all'università cioè ci sono proprio delle valutazioni che sono che devono essere fatte ora non si può aspettare due o tre mesi perché abbiamo finito l'anno scolastico già che mettiamo in movimento i tutor capire come funziona entrare anche nelle case sì o no cioè ci sono tante valutazioni che magari non può essere fatto per tutti io non è che voglio mettere in discussione anche le famiglie poi si esprimeranno nel finale per dire non me la sento cioè i pay servono per questo non è che servono i glick ex glick su questo gruppo di lavoro quindi io dico solo che l'assessore però da sola anche il cts che è stato voluto forse qualcuno magari non ha conoscenze è stato voluto proprio per fare dei corsi di formazione e quando più necessario in questo però lei deve essere anche onesta nel dire lo dirà quando potrà in commissione e lo dico anche al consigliere Nerini che se non era per un argomento portato queste cose non se ne sarebbe mai parlato mi dispiace consigliere Nerini che tu mi dica che ci lavori io non ho dubbi ma non ci deve lavorare con una dimensione più totale che non è solo quella di tavoli o tavolini ma anche cose pragmatiche veloci e può darsi che l'università possa essere una di queste ma può darsi anche di no consigliere per favore vada alle conclusioni ho finito giusto per dire Nerini che non c'era nessuna volontà da parte di nessuno ma chiarimento e chiarezza questo sì questo sì grazie ci sono altre dichiarazioni di voto non vedo altre notazioni allora andiamo in votazione grazie grazie Grazie. Avete votato tutti? Ci sono dei problemi per votare? A me sembra abbiano votato tutti. È rientrato il consigliere Amore? Sì, sono rientrato, però ho partecipato alla discussione e mi sembra opportuno non esprimermi. No, no, va benissimo. Allora, chiudo le votazioni. Mi risulta? Votatori? Mi torna? Sì, sì, va bene. Allora, 23 favorevoli, 4 voti non espressi e quindi viene approvato quest'ordine del giorno. Ora lascio la parola al Presidente Gennaio. Va bene, ringrazio il Vice Presidente Vicario Veneta per avermi sostituito. Siamo all'ottavo ordine del giorno sulla proposta numero due bilancio di previsione risolse per la collettività delle scuole e nelle case presentato dal Consigliere Scollamiglio e prego, nella facoltà, se si prenota per cortesia così le do la parola. Cerchiamo di essere un pochino più accorti in modo tale che tardi, tutti siamo stanchi e andiamo via prima. Prego, prego, Scollamiglio può parlare. Sì, grazie Presidente, è che avevo appena finito l'altra. Allora, dunque, mi dispiace che tarda ora per questi argomenti, perché sono convinta che anche in altri orari, diciamo, quindi comunque ringrazio i presenti, perché comunque va ringraziato sempre che è presente, anche per portare a fondo una discussione, a prescindere poi dalle posizioni. Sì, dunque, qui, su questo, anche questo è un inizio, diciamo, di approfondimento, perché è chiaro che su questo dovremo davvero studiare, è vero che è un termine che usa spesso l'assessore alla profa, ma credo che anche su questo ci dobbiamo un po' inventare forse qualcosa in più come ente. Dunque, è nata da un'email, appunto, che era stata mandata anche dal, così, anche in commissione da molto fuori, dal dirigente della scuola, da un dirigente, ma in realtà era il coordinatore, facendo presente che anche sulle, diciamo, normative, e l'ente locale si deve occupare di connettività per le segreterie. In realtà è stato fatto presente che, diciamo, poi in realtà gli insegnanti tutti hanno i registri elettronici, quindi anche in questa, fatti specie, in questa, diciamo, difficoltà, la connettività forse deve essere più ad ampio spettro. Da qui poi è nata una discussione, e questo anche la provincia, con il dottor Gestri, che ha fatto presente che c'era questa problematica nella connettività, ma non per colpa, ecco, non iniziamo già, non ci sono colpe, c'è un'emergenza che mai, nessuno mai avrebbe potuto pensare che, anche oggi qui nelle case siamo collegati in cinque, in sei, in sette persone, e poi sapete, io non sono un'esperta in informatica, ma, diciamo, ci sono qui gli esperti, insomma, che Nerini potrà intervenire, perché su questo lui è stato forse in un dettivo, e poi amministrazione, a sollevare parecchie questioni sul tema, che anche nelle case, con questa problematica, ci vuole anche la possibilità di avere una rete, no? E anche una connessione importante, o comunque che permetta, insomma, di poter lavorare, poter fare studiare ragazzi, due o tre figli, a volte università, a volte no, quindi è una questione non banale. Tutti noi abbiamo fatto dei contratti, abbiamo anche modificato i vari modem, no? Nel tempo, anche proprio di connessione, qualcuno ha una fibra che gli permette di fare questo, qualcuno no, anche i contratti variano nei costi, per cui è chiaro che quando poi parliamo di diritto allo studio, quindi dobbiamo permettere anche in un ente, si deve porre questo problema per capire anche se l'ente stesso si può in questi mesi premonire di una, diciamo, di una rete a cui magari si possono poi collegare in più, chiaramente, ma lo dico come proposta, ma nel senso che poi è aperta, diciamo, la strada, ma sicuramente in un bilancio preventivo mi viene in mente, dato che i mesi sono lunghi, di pensare a una possibilità, si parla del Comune di Pisa, chiaramente in questo caso, per far sì che ci sia un più ampia possibilità anche dalle case per cui magari una famiglia in questo momento deve decidere anche se appunto mangiare, perché magari non lavora, perché ci sono altre situazioni drammatiche, anche un contratto di questa, diciamo, di questo tipo, visto che devo dire già anche questo nei dati, insomma, che abbiamo approfondito, tanti hanno già lasciato anche, no, il telefono fisso, ma si premoniscono soltanto, appunto, di cellularini che a volte, ora, ci sono anche di costi bassi, no, non tutti hanno l'iPhone X nelle case, si prova a dare ai ragazzi, ai figli, anche la possibilità di dare anche un cellulare per essere comunque, no, dentro, avete visto anche i casi di suicidio, eccetera, quindi quando non si danno e non si possono avere queste possibilità di essere poi davvero connessi. E questo è stato detto anche nel reportage, scusate, report, come si dice meglio, di Domorelli, che proprio fra le povertà c'era proprio questa, non solo sul computer a casa, che come ha detto la sessione in commissione, in realtà su questo c'è un lavoro anche a più mano di servizi, eccetera, ma anche poi nelle connessioni in cui, in effetti, la difficoltà c'è. Quindi, ci possono essere più modi, sicuramente un piccolo bagaglio, diciamo, di preventivo serve, perché si può dire anche, no, proviamo a capire quanti sono, appunto, le persone, i dirigenti, questo l'hanno fatto presente, e quindi poi i servizi dovranno magari pensare anche a queste formule, a questi mini contratti, a queste pennine, per fare in modo che comunque i ragazzi, come priorità, non certo le famiglie che ci devono, no, fare i cavoli loro, ma sicuramente a uno studente ci può essere anche questo aspetto, che nella quotidianità delle nostre vite, vuoi per cultura, vuoi per lauree, vuoi per indirizzi, vuoi per, diciamo, è quasi diventata una routine, veramente, no, l'essere connessi sicuramente anche in maniera ponderata e anche evolutiva, ma devo dire che non è così, però in tutte le case, e questo anche la Sacchini sta facendo un lavoro anche con l'associazione, che poi porterà nelle dovute commissioni, però ecco, purtroppo questo chiaramente, io l'ho richiesta venti giorni fa, mi è stata data, il povero Lazzeri, ha anche lui tante cose, perché la nostra commissione riguarda veramente aspetti sociali importanti, quindi devo dire, in questo caso il povero Lazzeri ha inserito una serie di programmazioni continue, perché anche sul Covid, insomma, stiamo facendo delle riflessioni importanti, per cui è stata messa venti giorni dopo, e io la volevo fare subito, proprio per arrivare magari con un lavoro anche oggi, purtroppo io, non è che si può sempre, no, insistere prepotentemente, perché giustamente, prepotenza nel senso non di persona, ma del tema, perché ovviamente in quella commissione, come altre, voglio dire, ora nella fattispecie in questi mesi, infatti per... Forse si è distratta, il tempo è finito, si vuole concludere. No, no, finisco dicendo che lunedì c'è il consiglio, ma la mattina molto probabilmente faremo un'altra commissione ancora, ho visto le urgenze, ecco, per togliere proprio qualsiasi responsabilità al Presidente. Grazie, grazie, molto gentile. Quindi a questo punto si apre il dibattito, uno per gruppo, o il suo delegato. se non interviene nessuno, se non interviene nessuno, passiamo, penso la replica a questo punto, non valga la pena, e quindi, visto che non c'è stato nessuno che è intervenuto, dichiarazione di voto. dichiarazione di voto, ne vieni di malizio, prego. Consigliere Capito, per Fratelli d'Italia, mi ha fatto portare. non ci si capisce, non ci si capisce, io non volevo intervenire per richiarazione di voto, ma volevo intervenire perché volevo dir darsi due cose, ma tanto qui oggi è tutto un macello. Ma lei è un macello, scusi, l'ho aspettato fino ad ora. Ma se pigi, se non va, non è a colpa mia. Mi fa un attimo, io ho pochi, chiamo la legia, io guardi, torno anche indietro, la faccio parlare, non c'è mica problemi. Pazzate le mani quando, cioè, forza, Nelini, forza, prego, puoi parlare, dai, dica giustamente quello che vuoi. Ah bene, qui io dico come lo voglio, e poi dopo, abbiamo appreso all'assessore all'istruzione di San Ramullo che in attesa di aiuti dal governo e il comune ha messo a disposizione 40 mila euro destinati alla connessione per elezioni a distanza. Quindi vengono confinanziati i servizi informatici delle scuole con fondi che verseremo appena approvata la relazione di bilancio. Quindi, senza aspettare il bilancio predittivo, la mozione è tardiva, è da ritirare, ci sarebbe a sostituire il dispositivo con chiedere al governo l'intervento di cabellari e dare un ristore al comune. Comunque, dovrebbe essere scritto telefoniamo ai compagni Roma finché si sveglino perché la connettività delle scuole nelle case dei studenti deve essere assicurata al ministero. Grazie, Presidente. Grazie a lei, è stato chiaro e conciso. Quindi, a questo punto, do la parola alla consigliera consigliera del Partito Democratico, con la minomalia, per quanto riguarda Maria Antonietta, per quanto riguarda la replica. Prego. Prego, consigliera. Bisogna anche avrare il microfono. Sì, le facevo notare che io potevo anche scegliere di replicare, l'ha deciso lei, ma io le conclusioni le potevo fare lo stesso. Lei mi aveva, cioè lei ha detto non è il caso, ma non è così. Io sono tenuta a concludere e lo scelgo io. Diami, mi scusi, Presidente, era giusto. Comunque, dato che c'è la consigliera Nerini, ha maggior ragione. Allora, caro Nerini, vede, nelle email, se lei la legge, se la fa lei, magari se la fa dare, perché è stata appunto oggetto, le enti locali hanno delle, delle cose da fare, tant'è che proprio lì la sessore Munno ha detto, sì, guardi, l'ha detto in commissione, visto proprio le cose che sono venute fuori, ci saranno dei soldi a disposizione. Quindi, cioè, non è che è così, il percorso è stato fatto perché quando si parla a più voci si riesce anche a trovare delle cose che non vanno oppure vanno. Quindi, questo tenevo a dirlo. Ma qui la questione, è che non è tardiva, ma è legata proprio alle case, alle famiglie, degli studenti che non si riescono a connettere, perché non hanno possibilità di connettersi per vari motivi, non è tardiva, ma anzi, i numeri cresceranno a vista d'occhio. Perché dico questo? Perché nell'emergenza la dottoressa Lupia e la dottoressa Raglianti hanno proprio detto che, e la provincia hanno proprio detto le problematiche maggiori nei mesi, che però abbiamo chiuso tutti gli occhi, non si poteva parlare di didattica, no, nei termini chiaramente, no, come poteva essere un anno normale di una presenza normale, ma le maggiori probabilità sono state proprio nelle connessioni e nelle case. Allora, questa cosa, Nerini, è perdiva, ora la vuoi dire così, te la stai prendendo come se dovessi difendere l'assessore, no, era che l'assessore quando viene e parla in commissione dice le cose corrette, non è che le dice sbagliate, qui è una questione di completezza perché oggi siamo al bilancio preventivo e a me è permesso di fare gli ordini del giorno, come ti è permesso a te, ok, uguale, quindi non è una difesa perché se no sembra che io sono venuta qui a chissà cosa fare, sono venuta qui a completare un argomento detto in commissione in tempi troppo però stretti come ho già detto prima per cui qui le connessioni nelle case per gli studenti uno, due, tre figli a partire dall'elementare arrivare fino all'università è un problema, per qualcuno è un problema, vogliamo parlarne? Se ne vogliamo parlare se ne parla, se no io userò i metodi che ho e andiamo avanti su queste cose. Come vedete l'estrema correttezza la dovreste vedere là, io non ho fatto e l'assessore Mono questo lo riconoscerà, non ho fatto nessuna uscita sui giornali di nessun tipo e di nessun genere mai su questi argomenti, mai l'ho fatti. Quindi non è una questione di di faccia la commissione e esco sul giornale, assolutamente, è una commissione dove si è iniziato in quel modo perché non c'erano inevitabilmente altri modi, anche se ripeto l'ho fatto 20 giorni fa e l'assessore ha anche detto proprio ho aspettato 20 giorni perché era mio dovere ascoltare anche altre case. Quindi nessuno niente toglie niente, però ad oggi in un bilancio preventivo io ho il dovere come consigliera di far presente anche questo aspetto, quello delle case. Punto. Cioè, poi apprendiamo anche la cifra dal Nerini. Consigliere, scusi, non si è accorta che è passato quasi un minuto. Non dì, ho finito, ho finito. Grazie. A questo punto passiamo alla dichiarazione di voto. Tre minuti, capogruppo delegato. Abbiamo il consigliere di capogruppo Trump di Matteo. Prego, la facoltà. Prego, è aperto il microfono. Grazie, grazie presidente. Io penso che i mirini parli senza però sapere veramente quali sono stati gli stanziamenti del governo e della regione. Forse perché è stato distanziato con le elezioni che, diciamo, era così appassionato delle campagne elettorali, ma successivamente non si è accorto che alla regione il primo atto che ha fatto di concerto tra due assessorati, tra l'altro, e questo ci fa capire anche la strategicità dell'intervento, cioè quello della scuola, formazione dell'assessore Nardini e quello della digitalizzazione dell'assessore Ciuffo, la prima cosa che hanno fatto è mettere due milioni e mezzo proprio per risolvere queste questioni. In più, c'è un progetto, come sa benissimo, che sta portando avanti la regione sulla Bull e quindi su tutto quello che è connesso e c'è un grande investimento su questo, basta andarsi a vedere l'agenda digitale toscana. In più, a livello nazionale i fondi che sono proprio per la digitalizzazione, come sappiamo, non sono, diciamo, pochi, sono sempre pochi quando si parla di digitalizzazione, ma sappiamo che, insomma, in questo momento si è posto il tema di come digitalizziamo il paese e come facciamo arrivare a tutti diciamo, internet e non a caso si è stanziati prime 400 milioni e poi c'è tutto il tema del recovery fund che, diciamo, spesso anche in questi mesi abbiamo visto invece forze nazionali invece di imporsi per provare a trovare maggiori fondi andare contro. Quindi, bene che si dica che si vuole trovare più fondi, non capisco per quale motivo non si dice che anche il comune può fare la sua parte dato che lo sta facendo la regione e dato che lo sta facendo a livello nazionale. Credo che, sinceramente, vieni a dire è tardivo che è un errore. Primo, perché, come già detto, i soldi che sono stati messi sono molti anche se ovviamente insufficienti in quanto, diciamo, se deve metterci dopo anni in cui purtroppo questo non era un tema centrale è diventato un tema centrale e su questo vanno messi. Dopodiché, e non è tardivo perché ci sono tante persone sul nostro territorio che vivono del digital divide sia infrastrutturale sia sociale. Ecco, se questo è un tema tardivo e lo andrei a dire a tutte le persone che non riescono in alcun modo a provare nella stessa casa a lavorare e a studiare. Alcuni non riescono nella stessa casa a studiare e basta perché non c'è nemmeno la rete. Quindi, insomma, che sia tardivo non credo che ci si possa fare un impegno penso che sia il minimo. Il nostro voto è favore. Grazie, grazie mille, quindi ora adesso passiamo alla consigliera Gambini Giulia, prego, di fraternità nella facoltà. Grazie, presidente. Io mi collego a quello che ha detto il consigliere Nerini. Mi dispiace che la consigliera Scogna Miglio abbia detto che ha preso solo dal consigliere Nerini dei 40 milioni messi dal comune, dei 40 mila euro messi dal comune. Perché ieri ne abbiamo parlato proprio in terza commissione quando è intervenuta l'assessore Munno c'è stato proprio uno scambio su questo argomento. Abbiamo parlato è vero dei fondi della regione, abbiamo parlato è vero anche dei fondi del governo ma l'assessore ha fatto subito presente come il comune in questa fase di emergenza pur non aspettando al comune intervenire nell'ambito della didattica ha deciso subito di stanziare in questo momento i 40 mila euro per andare in soccorso in attesa che questi soldi arrivassero da parte del governo e della regione. Ha detto bene il consigliere Trapani che la prima cosa che ha fatto l'assessore Cioffo può essere questa però il fatto sta che siamo al 26 di novembre e i soldi della regione ancora non ci sono ed è per questo che il comune li ha stanziati d'urgenza ripeto pur non essendo un compito che li aspettava come quando nella prima fase del lockdown il comune si è premurato di fornire direttamente alle famiglie i device perché potesse essere assicurata la didattica a distanza in un momento in cui c'era solo la didattica a distanza per tutti i tipi di scuole quindi ovviamente il nostro voto non potrà che essere conto perché prendiamo atto che il comune il suo contributo lo ha dato in attesa che ovviamente arrivino questi fondi da parte del governo e dalla regione che sono tardivi questi si sono tardivi quelli del comune sono stati d'urgenza e tempestivi quelli della regione e del governo che devono arrivare sostanziosi siamo al 26 di novembre la scuola è iniziata il 14 di settembre forse quelli sono più tardivi grazie consigliere Gambini adesso do la parola al consigliere del capogruppo Movimento 5 Stelle Amore Gabriele prego ne ha facoltà sì mi sentite grazie sì bene scusate io rilevo come al solito ci sono i soliti tre quattro gatti io adoro i gatti ma i soliti quattro gatti della maggioranza poi il resto è oscurato alcuni sono oscurati da mesi comunque non si vedono più non si sentono più ringrazio Nerini Nicolai Gambini quelli della maggioranza che si vedono si vedono gli altri non si vedono mai non si vedono più auspico che stiano bene per cui chiederei la verifica del numero legale non ci sono allora do la parola al dirigente Alessandro prego si deve fare la prego Alessandro Banducci prego Amore Gabriele è lui presente Auletta Francesco presente Azzara Antonino presente Barbuti Brunella Barbuti Brunella no Bargagni Alessandro ci sono ci sono sono qui sì Barciotti Laura no no io proprio l'ho venduto sbagliando Barciotti Laura sì vero presente 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 basta bladimiro bladimiro ah era sentita no biondi Marco no uscemi di scardo è presente biondi biondi e a cena è lì è lì è lì saluta non si sente non parla vabbè uscemi di caldo avevo già detto di sì presente sì scusate devo guardare c'è il microfono spento scusate ci sono cammellini analisa grazie biondi cammellini analisa no cognetto paolo colecchia giuseppe presente presente anche conti michele presente conversano al vento di gardo benedetta presente dini emanuela gambini giulia presente gennai alessandro presente laurora manue lazzeri marcello presente pancini virginia presente mannocci gino presente merini maurizio ciao niccolai francesco presente masqualino giovanni presente picchi olivia presente poli veronica presente punzo maria presente foglia miglio maria antonezza presente presidente pronto serfoglia andrea presente olaini alessandro rapani matteo presente veronese antonio presente 26 ventisei la sicurezza è valida grazie andiamo avanti siamo di carazione di voto per quanto riguarda l'ordine del giorno numero otto della proposta numero due bilancio di previsione se ci sono altri interventi se non ci sono interventi passiamo alla votazione grazie apre la votazione grazie il camminino era presente no i tolaini e basta e basta no allora allora no giusto allora se ci sono ancora gli scrutatori sì picchi balbuti e colecchia io credo che le persone che non sono presenti sì ci sono sono rilevato da per quanto riguarda la chiamata di prima per cui io finirei la votazione siete d'accordo io sono da presidente e colecchia sì sì io dottorissi presidente perfetto allora dichiaro la votazione favorevoli nove contrari diciassette astenuti zero non espresso uno e assenti votanti numero sei per cui è stato respinto l'ordine di regione numero nove si passa all'ordine di regione numero nove viale delle cascine e valorizzazione della tenuta di San Rossone presentato dal consigliere Piondi partito democratico prego se si prenota per gentilezza così le do la parola ingegner Biondi se si prenota le do la parola vai grazie presidente prego 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 in commissione abbiamo visto il progetto già lavori iniziati della rotatoria tra il viale delle cascine e l'Aurelia quindi abbiamo già fatto quel passaggio anche se diciamo il cantiere era già in essere quando è arrivato in commissione ora la parte tutelata diciamo anche dalla sovrintendenza è il viale delle cascine quindi il progetto della rotatoria al tempo nasceva assieme a un una promessa di riqualificazione di tutto il viale delle cascine quindi era un progetto complessivo di tutela anche dello stesso viale delle cascine in quanto anche poi la progettazione della rotatoria ha avuto un iter piuttosto piuttosto lungo al contempo durante il primo lockdown quello legato naturalmente al covid abbiamo assistito anche a una chiusura da parte del parco poi degli accessi alla tenuta di San Rossore soprattutto nel momento in cui era possibile riuscire dalle proprie abitazioni e raggiungere comunque in bicicletta o a piedi gli spazi aperti tra cui la tenuta di San Rossore che rappresenta il polmone più grande sotto l'aspetto di estensione ma anche forse come bellezza della città di Pisa che abbiamo con la chiusura della parte del parco alle auto dell'accesso del ponte alle trombe per entrare nella tenuta di San Rossore molte persone hanno parcheggiato la propria auto direttamente sul viale delle cascine andando a occludere l'unico percorso ciclabile l'accesso alla tenuta di San Rossore questo percorso questo percorso ci sono dei pali che indicano che lì c'è una ciclabile anche se poi questa amministrazione è uscita su giornali ma anche pubblicamente dicendo che quella non è una pista ciclabile nonostante ci siano dei cartelli ok ammesso che quella non è una pista ciclabile quindi venivano parcheggiate le macchine lì in modo corretto infatti questa amministrazione non ha fatto nemmeno le multe alle auto che occludevano questo passaggio per la mobilità sostenibile l'accesso alla tenuta noi andiamo a chiedere vista anche che altri consiglieri della maggioranza hanno più volte citato come un grande lavoro di questa maggioranza il PUMS che venga realizzata una pista ciclabile in sicurezza d'accesso alla tenuta di San Rossore visto che attualmente è sprovvista di qualsiasi pista ciclabile per l'accesso alla tenuta quindi proprio nell'ottica di una mobilità sostenibile di una possibilità di accesso alle due ruote ma anche per le persone che vanno a piedi o a correre verso la tenuta chiediamo che vengano trovate delle risorse per poter progettare e realizzare una pista ciclabile in sicurezza d'accesso dalla città fino alla tenuta di San Rossore naturalmente questo non può essere da solo ci deve essere un progetto complessivo di riqualificazione di tutto il viale delle cascine anche perché lì più volte siamo scambiati anche delle idee con un consigliere della maggioranza con l'Azeri lì c'è una realtà ipica importante soprattutto in questo momento di grandi crisi a livello nazionale del mondo dell'ipica però a Pisa abbiamo sempre una realtà importante forse una delle più belle realtà che abbiamo in Italia e lì proprio sul viale delle cascine ci sono i due braccetti di accesso e di ritorno dall'ippodromo comunque anche dalle piste di allenamento che sono nella tenuta di San Rossore quindi questa progettualità che noi andiamo a chiedere dovrà tener conto naturalmente delle esigenze che già esistono di tutte le attività che lavorano attorno al mondo ippico lì nel quartiere di Barbaricina e lungo il viale delle cascine però a nostro avviso è impensabile continuare a non avere verso il parco più grande cittadino che abbiamo di non avere una possibilità di un accesso di un accesso in bicicletta e in modo sicuro oppure anche a corsa a piedi soprattutto se dimostrato durante questa pandemia come sia importante la valorizzazione di una mobilità sostenibile e quindi non più l'utilizzo dell'auto privata io credo che questa sia una risposta corretta a queste necessità ma credo sia anche la risposta corretta a una pianificazione verso un polmone verde della città e aiutare quindi tante famiglie di pisani che decidono di raggiungere il parco di San Rossore la tenuta di San Rossore in modo sostenibile grazie allora si apre di pato se qualcuno vuole intervenire uno per gruppo capogruppo delegato grazie non vedo che sia prenota nessuno vediamo se qualsuno alza la mano perché non ce la fa torniamo indietro quindi Nerini Maurizio prego ne ha facoltà consigliere capogruppo Fratelli d'Italia può parlare Presidente Gliotti un'altra promessa forse non siete mai stati in grado di far promesse non siete più in grado di far promesse sei disperato eh sì sono disperato no parlavo parlavo col mio funzionario no io sono disperato per davvero perché oggi oggi e sono le 10 e 10 si sta a parlare di una promessa che Gioldi ha fatto col PD più di anni fa e ci vuole un minimo di decenza su questi oggi questo è sembra eh se no se Dio che è poi dopo sembra un ODG ripicca va bene perché funziona il buon progetto della rotatoria che loro non erano stati in grado di fare e che la sofa sta facendo e allora si fa ODG ripicca poi unico percorso ciclabile per arrivare dentro il parco il comportamento della gente era scorretto qualche gioco che voleva ma la via è larga non so di oscimetric come si fa in sicurezza si va bene ok ma faremo anche la pista ciclabile la voglia d'accesso però quando sarà possibile la faremo sì ma se siamo sicuri che la pista ciclabile sarà più apprezzata nel video di sgambamento per le scuderie che dice qui nell'ordine del giorno dice che limiti i disagi con i percorsi utilizzati da cavalli è una scelta questa qui si limitano i cavalli o si limitano le biciclette o si scelga di fare un qualche cosa di ganso per cui tutte e due possono convivere questo mi sembra te l'ho detto mi sembra un un ODIG mi picca va bene guarda ho già chiacchierato anche troppo grazie grazie consigliere capogruppo Lelini ora do la parola al consigliere capogruppo Movimento 5 Stelle Amore Gabriele prego nella facoltà sì grazie mi sentite io vedo vedo ridacchiate ridete perché l'ODIG no no ma non è l'atteggiamento è sbagliato Raffaele Latrofa ride con la biblioteca virtuale dietro e vabbè ridacchia poi c'è anche il consigliere Nerini che ridacchia su un ordine del giorno che ha un suo senso non so perché cioè Biondi non era perché voi continuate a attaccarvi al vecchio PD ma Biondi non è il vecchio PD mi dispiace per voi Biondi è una persona è un laureato è un architetto è una persona preparata è una persona che si dedica alla politica in maniera seria te la trova ridacchi continua a ridacchiare ma Biondi merita rispetto e se fa un ordine del giorno che merita rispetto bisogna portargli rispetto perché è un'idea sana convinta studiata voi continuate ad attaccarvi a quello che non ha fatto il PD ma non riguarda Biondi per cui voi quando ridacchiate e fate ridere voi fate ridere voi e ve lo dico perché voi siccome avete un po' paura del fatto che alcune molte cose molte quasi tutte non le state facendo e allora dite è Biondi ma la polpettica vorrei dire una cosa guarda io ho anche simpatico però ma no ma lei non mi deve interrompere così mi dice io interrompo per dirmi che non difendo ai suoi no le dico di ottenersi all'argomento sono a questo modo ridacchiano ridacchiano ma l'idea del Biondi è meritevole di rispetto ridono ma ridono e basta ma cosa ridono perché Biondi non è responsabile del passato e fa le sue proposte sviluppatele nel caso ma non le prendete a bavaglio come per dire ma perché il PD prima non ha fatto meglio perché ora ci siete voi e ci siete da due anni e mezzo grazie Presidente ho finito grazie per correttezza di espressione amore quando il il consigliere non si attiene all'argomento il Presidente in qualsiasi momento può intervenire e riguardirlo e dirgli di attenersi all'argomento quindi non è che lo voglio interrompere per interrompere la sua conversazione per dirgli per fare attenzione a cosa sta dicendo va bene comunque ora do la parola al consigliere di Marcello prego grazie grazie Presidente c'è un detto una reclama televisiva che diceva ti piace vincere facile io rivolto a amore gli chiederei ti piace perdere facile tutte le volte che chiedi un numero legale sei perennemente sconfessato detto questo comunque passiamo a cose più serie invece che sta a fare i questori del Consiglio Comunale è ignobile una cosa del genere fate le proposte invece di stare attento a vedere se la gente si oscura se ride o cosa detto questo mi sono confrontato alcune volte con il consigliere biondi nel merito di un'eventuale pista ciclabile e ritengo che sia abbastanza problematico farla visto la concomitanza dei camminatoi o corridoi dove trottano e camminano i cavalli che vanno al centro di allenamento senza lo sole non so poi la pista la strada lì è anche abbastanza larga e quindi se ordinato l'accesso in bicicletta potrebbe essere sufficiente la sede stradale che già c'è altrimenti potrebbero essere anche altre soluzioni per altri passando da altri accessi potrebbero essere altrettanto interessanti poi ne parliamo insieme magari biondi di questo una cosa però che volevo dire e che è emersa durante soprattutto il primo lockdown è stato tragico l'assoluta incapacità di rispondere alle esigenze della città dell'ente parco hanno chiuso il cancello del ponte delle trombe alle macchine quando la maggior parte delle persone che volevano andare a trovare una boccata di ristoro chiamiamola così di aria pura in San Rossore erano anziani che non hanno oppure anche famiglie con disabili che non hanno la possibilità di accedere per ovvi motivi per limitazioni fisiche con la bicicletta in San Rossore a queste persone almeno in una prima fase è stato chiuso l'accesso a San Rossore questa è stata una cosa gravissima è stato un atteggiamento sbagliato dell'ente parco e io penso che qualsiasi miglioria che il comune voglia fare su quella strada dovrebbe essere subordinato criticatemi quanto mi pare ma anche a una revisione dell'affidamento della regione alla regione toscana del parco naturale di San Rossore Migliarino e Massaciucco perché voglio essere provocatorio non viene dato alla comunità del parco grazie presidente buonasera grazie a lei grazie a lei molto gentile consigliere la parola adesso al consigliere capogruppo Trapani Matteo partito democratico prego la facoltà grazie presidente allora io oggi registro una cosa che Merini che cita la trofa non so perché diciamo oggi fa il portavoce dell'assessore Amunno prima e dell'assessore della trofa dopo poi è un portavoce oggi degli assessori vabbè ci viene a dire la pista ciclabile non gli piace non la vuole non gli piace alti progetti vedrai meno male la presidente di commissione l'unico progetto che si è riuscito a presentare è fare un parcheggio la cittadella però vabbè diciamo è meglio che non se ne presenti più meno male che l'assessore Dringoli quindi apparentemente alla trofa in più occasioni quando abbiamo parlato anche le commissioni proprio sulla pista ciclabile ha sempre detto ha sempre sostenuto che lui non aveva alcun dubbio alcuna criticità per il fatto che voi ragionate in questo modo raffazzonato e ripeto e si vede da due atti si vede dal Pums dove l'unica cosa che siete riusciti a metterci senza alcuno studio poi parleremo anche di quello è citare una tramvia senza capire bene o male dove devono andare come devono andare con quali soldi sostenibili come si vuole fare un collegamento sostenibile di abilità e non c'è piano strutturale in quella parte non c'è alcun intervento se non parcheggi è evidente che non c'è che da parte i nerini non c'è l'interesse ma lo capisco e lo capisco guarda Gabriele sbagli lo capisco che rida e lo capisco perché probabilmente avrà da ridere sul fatto che l'unica proposta sono i parcheggi e magari ci mettiamo anche due fierellini visto che abbiamo appreso che ora c'è la fioritura funnale invernale e questo ringraziamo per chi ce l'ha spiegato perché in questa fase di emergenza era molto importante questa informazione comunque non è un problema lì non vuoi la pista ciclabile e non vuoi alcuna soluzione che provi a risolvere una questione poi continua a dire che non l'ha fatto il PD continua fra due anni e mezzo e ci toccherà dire a noi che non l'avete fatto voi il problema è che voi avete detto che per anni che c'erano delle cose che voi facevate subito non ce n'è una i fiori lì questo avete ragione su questo vi do ragione questo l'avete fatto comunque è evidente che la pista ciclabile è lì da tempo nasce il rotatore e nasce tutto quello in virtù di una mobilità però capisco che Nerini rida e gli interessa così insomma oggi l'ha presa così grazie Matteo grazie Matteo Trappani consigliere adesso do la parola al consigliere capoglupo diritti in comune a Ulita Francesco prego mi ha facoltà grazie sì grazie presidente io c'è un grande sottointeso sotto quest'ordine del giorno che riguarda una grande questione politica cioè i rapporti fra il comune di Pisa e il parco di San Rossore perché poi tutto si può come dire questa è il grande tema su cui Lazzari l'ha anche detta alcune cose in maniera chiara ma io l'ho sentito più volte da esponenti della Lega che il parco è concepito come un limite allo sviluppo di questa città cioè è stato ripetuto più e più volte in diverse situazioni non è che è stato anche nascosto più di tanto questo questo elemento beh su questo secondo a mio avviso c'è una differenza irriducibile fra noi e la destra irriducibile su come si concepisce il rapporto col parco addirittura l'ordinanza dell'amministrazione comunale è stata fatta come ripicca questa sì Nerini come quella è stata fatta come ripicca il parco perché non si è in grado di costruire un rapporto nella relazione con questa istituzione provocando il disastro perché poi mi dispiace rispetto a quello che dice il consigliere dalle informazioni e delle notizie che io basta non è che era chiuso l'accesso a tutti per cui la gente non poteva entrare non funzionava in questi termini e non era così su chi aveva una serie di difficoltà rispetto alla mobilità non raccontiamo le cose esattamente come non sono dopodiché e il problema è quale tipo di mobilità noi abbiamo una mozione su questo che già c'era diversi mesi qual è il rapporto fra la città e San Rossore e come si arriva al parco di San Rossore e l'unica cosa si è saputo fare è quello di trasformare una pista ciclabile in un parcheggio mi sembra veramente poco anzi onestamente mi sembra il peggio del peggio rispetto al messaggio che si manda alla cittadinanza il peggio del peggio e oltretutto si rivendica anche questa cosa per poi fare marcia indietro ma questo l'abbiamo visto con altre istituzioni in questi rapporti bene il punto è quale rapporto col parco oggi sentiamo che siamo anche contrari alla pista ciclabile per arrivare al parco di San Rossore quando invece dovrebbe essere la cosa più normale che si riesce a fare onestamente e questo è il tema politico non è un tema di secondaria importanza è un tema di primaria importanza e poi lo vedremo nella discussione del rapporto col parco sul piano strutturale avremo modo di approfondirlo perché li è messo nero su bianco quanto sto dicendo in maniera chiara ed evidente quindi io credo che questa amministrazione rispetto a questo nel periodo del lockdown abbia dato il peggio in termini di rapporti istituzionali e di risposta nei rapporti col parco ripetuti sono gli attacchi al parco su questo per noi anzi non solo l'istituzione parco va a difesa e non difendiamo la gestione della regione su questo ma l'istituzione parco perché quel parco può essere gestito molto meglio di come è gestito oggi ma certo non bisogna pensare di ritorno alla portata dell'importanza e l'impatto positivo per la città e grazie consigliere Oletta do la parola adesso al consigliere che è un fatto civico per un isa Antonio prego a lei la facoltà grazie grazie presidente il parco di San Rossore da sempre ha rappresentato una grande risorsa per la città il problema che io ho sempre dibattuto da tanto tempo è la destinazione d'uso di quell'area straordinaria e la destinazione d'uso prima o poi e va decisa se deve essere un parco naturale o un parco cittadino i punti sono questi se è un parco naturale l'impatto antropico a mio avviso è elevato se è un parco cittadino va valorizzato in maniera diversa io penso che nonostante tutte le limitazioni che ci sono state per una condizione per una conduzione rigida della gestione del parco a difesa dell'ambiente abbia in qualche modo ostacolato lo sviluppo turistico del litorale su questo non c'è dubbio è difficile fare interventi negli stabilimenti valneari è difficile fare interventi nelle civili abitazioni però questa conduzione rigida ha permesso a tutta quell'area di non trasformarsi come tirrenia tutta una serie di rillette ora io credo appunto che si debba insieme alla regione definire seriamente una volta per tutti quale deve essere la destinazione io sono dell'opinione che va salvaguardato già con l'ippodromo eccetera quindi va valorizzato nella direzione della tutela ambientale della sostenibilità ambientale perché la pandemia ci ha insegnato quanto vale l'ambiente naturale e quindi va difeso ci sono delle coltivazioni importanti ci sono delle specie da proteggere quindi credo che tutti gli interventi che si debbano fare in funzione della difesa ambientale non sono certo quelli di trasformare la pista ciclabile in un parcheggio grazie presidente grazie se non ci sono più interventi vediamo se qualcuno alzano le mani se c'è qualche altro intervento riesce a connettersi se no passiamo alla replica prego di un di marco nella facoltà può parlare consigliere più sì grazie mi sembra che si è esplicitata qual è la visione quindi di gran parte della destra nessuna pista ciclabile ma perché vai a correre vai in bicicletta vai in mezzo alla strada questo è l'idea di Nerini penso di gran parte della maggioranza dove c'è bisogno di piste ciclabili la strada è larga vai a correre in mezzo alle macchine dov'è il problema tanto c'è abbastanza spazio questa è la visione della maggioranza della mobilità sostenibile di chi va in bicicletta chi va a correre questa è la sua risposta però i parcheggi quello assolutamente dalla cittadella che c'era un bel parcheggio piazza Viviani un bel parcheggio questa è la sua visione fare i parcheggi quello ti riesce abbastanza bene come visione come idea dove c'è possibilità si fa un parcheggio questo è il suo messaggio poi evidentemente quando la sovrintendenza chiede di fare un progetto complessivo di riqualificazione del viale delle cascine anche sotto questo aspetto come per il parco naturalmente non ci sono parole buone da parte di questa maggioranza evidentemente anche con la sovrintendenza non c'è un buon rapporto perché la sovrintendenza è quella che probabilmente accetta la moschea apporta a Luca e quindi che dà il parere positivo quando la sovrintendenza dice di riqualificare il viale delle cascine perché è un bene tutelato quindi qualcosa che andrebbe valorizzato perché fa parte della storia di Pisa naturalmente tutto quello si omette si omette ci si limita soltanto all'idea della rotatoria perché più di quello più dell'utilizzo della macchina non c'è bisogno questa è la visione di questa maggioranza però il problema è che questa maggioranza risulta anche spaccata perché probabilmente da una parte c'è l'assessore Latrofa dall'altra c'è l'assessore Dringoli dove l'assessore Dringoli più volte correttamente ha detto anche sui giornali ride l'assessore Latrofa oppure così non può parlare ride tanto è riso come c'è una famosa locuzione latina che tutti conosciamo e allora ridiamo ridiamo evidentemente le fa piacere ridere l'assessore Dringoli più volte ha detto che c'è la stampa ma l'ha detto anche tranquillamente in consiglio comunale e in commissione che realizzare una pista ciclabile lungo il viale delle cascine è qualcosa di fattibile è qualcosa che può essere realizzato in poco tempo ed è sicuramente importante evidentemente c'è una parte la maggioranza che pensa in un modo c'è un'altra che non pensa in quel modo lì anzi in modo opposto e Nerini fa semplicemente la portavoce di qualche assessore perché non ha nemmeno espresso un parere compiuto da lui punto ringrazio consigliere biondi e quindi passiamo alla dichiarazione del voto un capogruppo o delegato tempo per tre minuti do la parola al consigliere capogruppo Nerini di malizio prego grazie grazie presidente tra la parte si scandalizza che difendo gli assessori e sono domi partito non ho capito ma non avete idea di cosa sono stati fatti l'anno dietro ha ragione non c'è da ridere c'è da piangere perché fanno piangere queste storie questo non è un DG sul parco a proposito dei rapporti del parco vediamo bene come si sta comportando il parco con i comuni con le scuole parliamo anche di questa cosa qui perché il parco ha preso decisioni schizofreniche come quella della chiusura citata e poi ci mette in difficoltà noi quelle macchine e io te l'ho detto ma chi l'ha detto quando si fa la pista ciclabile da dove è scritto che non si fa la pista ciclabile si fa quando si può e non quando lo decide il biondi quando lo decide il pd in suo tempo il pd l'ha avuto per decidere perché non l'ha fatta nei 40 anni che ha governato 30 anni che ha governato e vi va storto il pums ora perché come giochino non vi garba perché è troppo fatto bene e poi alleate con amore amore a cena torna e noi scemi ci chiede il numero regale e poi difende il biondi come se avesse bisogno il biondi di essere difeso che è il nuovo pd che è il nuovo pd certo che non è responsabile delle cose passate ma lui non sarà responsabile di livelli e future il problema è tutto lì visto che nemmeno una proposta ha fatto io non ho fatto una proposta noi stiamo facendo tutte le settimane le proposte anche oggi due ordini del giorno su due proposte fattibili concrete ma cosa si deve fare di più di questo io non riesco proprio a capire da lui nemmeno una proposta salvo quella di prendere giro il sottoscritto con la giornata di Nerini ma questo non è shaming come lo volete chiamare voi no eh non è shaming non è mettere ridicolo le persone non è fare bullismo no guardare noi che si ride ma per forza si ride ripetite per non piangere non si può certo lui chiede la segretà perché voglio dire siamo a pesci livelli va bene grazie presidente ho parlato anche troppo anche questa volta grazie no grazie a lei consigliere di capogruppo adesso do la parola al consigliere del capogruppo del Movimento 5 Stelle Amore Gabriele prego eh lo so eh lo so che il detto è risus abundat inore sul torum che vuol dire che il riso abboda sulla bocca degli stolti e chi ride ridacchia e infatti vedi la trofa ride ride anche Nerini dice noi si ride per non piangere ma in realtà non piangete ridete e ridacchiate perché siete nell'imbarazzo di chi le cose non le fate non le fate c'è stato un provvedimento per cui si poteva parcheggiare ovunque e si poteva occupare quel piccolo pezzo di strada che poteva avvicinare le persone al parco di San Rosso le cose non le fate ridete perché siete nell'imbarazzo io ribadisco che se verrà ufficializzata che il 26 11 2020 è la giornata della non violenza nei confronti del consigliere Nerini e qui possiamo ridere tutti di fatto perché poi alla fine Nerini è due anni che fai il guappettino in consiglio comunale e se ti si dice che alla fine ti senti vestato e ti senti preoccupato il presidente del consiglio ti tutela perché noi diciamo che ti comporti male nel modo di dire e di fare nei confronti della consigliera Picchi la prendi e la porti a casa perché ti comporti male e sei sgarbato nel modo di rispondere nei confronti della donna e questo avviene esattamente il giorno dopo al giorno stabilito per dire mai più violenza in confronti alle donne è un modo di fare vostro il tuo Nerini sei sgarbato e lo sei purtroppo viene fuori quindi nel senso io colgo con plauso l'intervento e l'ordine del giorno di Biondi lo riconfermo voteremo a favore e mi dispiace per voi te continui a parlare Nerini ma non ti ascoltiamo la giornata te l'abbiamo dedicata la troppa continua a ridere però poi alla fine è successo che voi fate parcheggiare le macchine all'entrata del parco di San Rossone e questo è quello che sapete fare finisce lì questa è la vostra lungimiranza nell'organizzare il PD non c'entra nulla ci siete voi vi ringrazio per l'attenzione grazie consigliere Amore do la parola adesso al consigliere al partito democratico Picchiolive a Piegola a Facoltà grazie grazie presidente ha stato il PD ormai sono due anni e mezzo che qualunque cosa accada sempre anche se è una cosa assolutamente che non c'entra nulla con la vecchia amministrazione è sempre ha stato il PD e questo testimonia abbastanza una mancanza di argomentazioni perché alla fine la mozione di Biondi diciamo che può essere paragonata a Nerini come sostanza alla stessa ipotesi del parcheggio al posto del distributore penso di sì siamo sempre sulle dichiarazioni di intenti si può dire che è una cosa che serve ai cittadini come il parcheggio al distributore penso di sì è la stessa cosa io però mi colpisce questo noi abbiamo spesso confronti politici anche molto aspri e duri ma quando si tratta degli assessori se la cosa riguardano gli assessori di Fratelli d'Italia sarà perché è una fortissima partito cooperativo si chiude la vena è una lesa maestà sempre e quindi si inizia in maniera scomposta soprattutto Nerini ma anche gli altri c'è una sorta di barricati come se fosse chissà cosa una lesa maestà di un lavoro di un incensamento continuo mi sembra più per dire a voi stessi che non alla città che in realtà siate così bravissimi e se siate così bravissimi ma perché siete tanto agitati per cosa vi agitate per le cose diciamo noi siete bravi dite tutto bene noi diciamo tutto sbagliato potete stare sereni come direbbe una poi facendo una famosa citazione anche perché poi mi confondete perché da una parte quando noi si dice che ci sono progetti che importanti che vengano dal passato e sopra la città ci dite stiamo realizzando i vostri sogni e voi non ne siete stati capaci quindi da una parte ci dite che state attuando il programma del PD però contemporaneamente è sempre colpa del PD quindi quando ci si portano le nuove idee dovreste continuare sul filone prendile perché magari si evita la figuretta che abbiamo fatto anche lì a livello regionale sulla storia del parcheggio mentre il tempo è poco mi sembra più interessante quello che diceva Lazzeri che non ha lo stesso mio punto di vista ma c'è un tema di discussione sul rapporto con il parco io credo che non debba essere snaturato ma avere un rapporto istituzionale con la città questo c'è al di là di delle cose anche io non ho notizie che era completamente chiuso ma questo è un tema su come collaborare con il parco per i cittadini lockdown o non lockdown ed è un altro punto critico di questa amministrazione che fra università parco altri comuni ha rotto ogni rapporto istituzionale che invece sarebbe bene riprendere però io vi invito possiamo ragionare come abbiamo fatto l'articolo del giorno per pensare che non basta una strada di 10 metri perché sia in sicurezza ma magari ci va bene a tutti pensare a poter fare in futuro una pista ciclabile grazie presidente grazie a lei consigliera Pitti adesso do la parola al consigliere Capogruppo Lega con niente Paolo prego grazie solo per dichiarazione di voto grazie presidente per dire che noi voteremo contro con una grande sorpresa perché la Giunta Conti chiaramente ha realizzato quello che viene invidiato probabilmente dalla sinistra che è la grande ciclabile che collega Pisa al mare che con l'assessore la trofa sarà ancora più estesa è stato un grande successo un percorso all'interno del parco e una vera e propria ciclabile che non era mai stata realizzata oltre alla grande rotatoria oltre a tantissime altre opere che voi vedete Tirreni e quant'altro come ci si oppone ci si raduna e si dice cari compagni bisogna fare qualcosa perché questi stanno realizzando invitiamoci la ciclabile ce la facciamo bocciare e poi si tira fuori la minestra riscaldata che la destra vuole il parcheggio vuole gli automobili vuole i motori vuole l'inquinamento mentre noi siamo buoni tranquilli sulle biciclette gioiosi nell'ambiente non regge più contano i fatti i fatti sono quelli la giunta Conti sta lavorando e fatevene una ragione perché la ciclabile noi le facciamo e le faremo e verranno realizzate non è detto che verranno esclusi anche laddove vengono proposte il teorema ripeto della destra inquinatrice che ama i parcheggi e gli automobili non è così non è vero non è nei fatti lo dico come uomo di destra e come ambientalista grazie grazie a lei nel consigliere Cognetti non ci sono più prenotazioni per cui a questo punto vediamo se qualcuno si sbraccia perché vuole fare l'acchierazione di voto no tutto a posto per cui passiamo la votazione si apre la votazione grazie votiamo per il nono ordine del giorno vi ha le ricascine valorizzazione della tenuta del sergossone un ordine raggiunto parto sulla seconda proposta bilancio di previsione prego simone quindi la forza non c'è se il pollice è sempre se vuole votare c'è anche muscemi va bene non si sente niente di nuovo per cui chiedo agli scrutatori alla valuti alla picchia e colecchia se siete d'accordo di chiudere a questo punto la votazione sì presidente d'accordo sì presidente grazie anche anche colecchia sì sì d'accordo presidente grazie quindi si chiude la votazione programma la votazione favorevoli nove contrari diciassette stenuti in zero voto non espresso due assenti votanti cinque quindi viene respinto l'ordine del giorno numero nove passiamo all'ordine del giorno ultimo l'ordine del giorno numero dieci sostegno all'associazione sportiva presentato consigliere biondi e trafoni sempre al bilancio di previsione seconda proposta prego non la parola a biondi consigliere pd prego la facoltà sì grazie presidente ma un altro odg che va un po' in risposta anche a quanto diceva qualche consigliere della maggioranza accusando che non avevo fatto che noi non avevamo fatto nessuno dg concreto che potesse essere realizzato io credo che sia quello di prima sia quello precedente su la progettazione degli spazi pubblici e questo siano qualcosa di concreto qualcosa di facilmente realizzabile e anche qualcosa di facilmente condivisibile però evidentemente mi sbagliavo comunque quest'ultimo ordine del giorno che si trova l'ultimo che affronteremo oggi ma non è l'ultimo naturalmente per importanza soprattutto perché riguarda il sostegno alle associazioni sportive che operano sul territorio pisano questa grande crisi naturalmente è andata a colpire in modo forte le associazioni sportive della nostra città e il peso che grava su di loro è quasi ormai insostenibile queste associazioni sportive fanno sia naturalmente un'attività legata allo sport ma secondo me fanno più che altro un'attività legata al quasi al sociale come crescita collettiva di formazione dei nostri ragazzi e tanti bambini tanti ragazzi passano gran parte delle giornate passavano gran parte delle giornate all'interno di queste associazioni sportive quindi erano quasi sono quasi una seconda famiglia e quindi fanno una crescita sia dei nostri ragazzi sia della società stessa in questi mesi le entrate di queste associazioni sono state penso che zero però i costi invece sono sempre rimasti in essere sono sempre numerosi dalle bollette agli stessi canoni e agli affitti io credo che la nostra città ma soprattutto la parte politica debba capire la situazione in cui versano queste associazioni che sono naturalmente importanti per il nostro tessuto e bisogna dargli una mano bisogna capire come poterli dare una mano ma queste associazioni hanno già detto come possibile dare una mano e quindi noi con questo ordine del giorno andiamo a chiedere delle cose specifiche ovvero a prevedere nei bandi clausole che riconoscono le società che hanno un contatto con il territorio che portano un valore storico che sono attori di politiche sociali e non prevedere come criterio preeminente quello economico e adottando così un regolamento come da legge regionale a prevedere la cancellazione dei canoni alle società che usufruiscono di impianti comunali a predisporre di un fondo che possa dare ristora alle molteplici società che devono pagare un affitto le utenze e le spese di manutenzione e per ultimo istituire un tavolo operativo che lavori per dare risposte immediate per superare la crisi per poter per poter prevedere da subito azioni che permettono alle nostre realtà sportive di superare questo momento di crisi quindi è un messaggio diciamo è un ordine del giorno che va a dare una mano a tendere una mano a queste associazioni che lavorano sul nostro territorio che sono una realtà importantissima per il nostro territorio soprattutto per la loro attività proprio di formazione dei nostri ragazzi e proprio di socialità che hanno e quindi io credo che sia importante dargli una mano proprio per farle sopravvivere e farle resistere a questo momento di difficoltà perché se non riescono poi più a sopportare questo momento e poi non abbiamo più queste associazioni che hanno dato tanto per questo territorio credo che sia un grande problema per tutti loro hanno dato tanto a questa città credo sia opportuno che anche a parte politica il consiglio comunale tenda una mano a queste associazioni grazie 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 consigliere se si apre il dibattito se ci sono interventi un capogruppo delegato uno per gruppo se non ci sono interventi ecco do la parola al consigliere del capogruppo Fratelli d'Italia Nellini Marizzi prego Presidente io sono come dice più si va avanti più che cariburo più che mi diverto dice io non devo difendere i miei assessori ma o o biondi ma prevedere mando i clausole che riconoscano le società hanno un contratto un contatto con il territorio il porto un modo storico ma l'amera ti bandi perché è bene fatto così anche gli ultimi problemi che ci sono stati sono stati risolti proprio perché abbiamo utilizzato questi tipi di bando ti ricordo cosa ha fatto ti vuoi che ti ricordi cosa ha fatto l'assessore da trofa ha trovato tutte le concessioni scadute per gli impianti sportivi e sono state fatte delle vere gare che prima non venivano fatte e c'era occupazione come si chiama non il contratto l'indennità di occupazione tutte tutte erano così capito e poi mi dice che non devo che non devo che non devo ridere quando ti resti la servire ma l'hai letti i bandi perché perché mi sa di no per vedere la cancellazione dei carri si potrà anche vedere ma non ho più voglia grazie presidente grazie consigliere Lini se non ci sono altri interventi vedo che non ci sono prenotazioni prego do la parola alla consigliera del Partito Democratico Picchi Olivia prego è la facoltà provi a aprire il microfono ecco è arrivato allora io credo che in questo comune si faccia sempre una confusione fra impiantistica sportiva e politiche dello sport che sono due cose ben diverse e in questa questa mozione è legata agli aiuti che si danno alle società e alle associazioni sportive nel tempo di pandemia cosa che non c'entra nulla con quello che ora citava Nerini e che la trova relazionata in commissione e di cui poi abbiamo anche un puntuale report che l'assessore ci ha mandato noi è da marzo che non solo per le società sportive ma per quelle culturali per quelle ricreative chiediamo le cose che sono sintetizzate in questa mozione sempre per tornare per necessità di tempo non le ripeto alle criticità che portano le commissioni e poi anche questa delibera da un punto di vista politico e da tempo noi cerchiamo e abbiamo chiesto interlocuzioni per cercare di capire se c'è una disponibilità politica ora io devo dire questo che un risultato c'è stato perché l'assessore Latrofa ha indetto un bando di contribuzione che di fatto nel suo scopo serviva a andare incontro alle esigenze e alle spese sostenute dalle società ma è rimasto un grande tema aperto perché abbiamo avuto una commissione anche con il sindaco e la vice sindaco per tutte quelle associazioni di qualunque natura che invece insistono negli impianti comunali e per le quali addirittura per alcune dagli uffici gli è stata negata la riduzione del 30% dell'affitto previsto dagli atti del comune per la tipologia di attività commerciali e sul quale c'è stato un impegno preciso del sindaco sia sulla riduzione sia sulla mancata messa in mora che abbiamo chiesto noi ma ad oggi non è ancora arrivato nessun atto quindi risiamo al fatto che noi le riproponiamo perché secondo noi a questo punto ha valore che ci sia il consiglio a dare un indirizzo politico preciso alla giunta su impegni che fra l'altro dichiara da mesi ma su cui non si arriva mai a una conclusione nonostante le dichiarazioni di intenti la legge a cui faceva riferimento Biondi è una legge regionale che permetta agli enti locali affidamenti diretti a fronte di un progetto sociale vi cito l'ultimo caso della provincia di Pisa dove è stato ritirato un bando e è stato dato un affidamento diretto ai vecchi gestori sul presupposto di un progetto sportivo sociale proprio perché era importante tutelare chi gestiva l'impianto da 30 anni quindi è questo che dice fra l'altro è un tema su cui la trofa in campagna elettorale sull'attenzione al territorio ci ha dato molta attenzione gli strumenti ci sono quindi oggi io credo che da questo consiglio non si parla se è stato bravo o meno a dare le concessioni si chiede che ci sia un impegno vero e di tutti affinché il problema degli aiuti e dei ristori e anche un confronto diretto voi non convocate il comitato dello sport non l'avete mai convocato quindi anche in difetto di regolamento che ci si inizia a fare politiche per lo sport e aiuti allo sport e penso sarebbe un bel segnale da parte di tutti grazie la consigliera Picchi do la parola al consigliere Pasqualino Giovanni gruppo Lega prego e a facoltà grazie prego Pasqualino può parlare presidente regia abbiamo un problema con il Pasqualino con la parola poi c'è parla vi aprite il microfono stiamo cercando di fare questo abbiamo un problema di contatto un attimo per gentilezza grazie grazie siete apriti il microfono grazie ma veramente sta aspettando ci vanno i Pasqualino a parlare il microfono è spento li ridate tre minuti e quando parte si apre il microfono grazie prego Pasqualino già arrivato dai forse perché faccio perché faccio forse tutto col cellulare ci sta qui sta passando un messaggio sbagliato che questa amministrazione è contro le società sportive è contro lo sport intanto non si può eliminare il discorso delle concessioni perché è un discorso molto importante che il consigliere Nerini ha giustamente sottolineato perché c'è stato fatto un grande lavoro ancora non è stato completato l'assessore Latrofa ha fatto fino ad oggi un grande lavoro l'ha relazionato in commissione come ha giustamente detto la consigliera Picchi e lo sta portando avanti ancora ce ne sono diversi da fare la consigliera Picchi ha anche menzionato un contributo che c'è stato un bando che c'è appena stato ancora diciamo i soldi stanno arrivando proprio ora nelle tasche delle società sportive un piccolo contributo un piccolo aiuto per quello che si poteva fare il sindaco ha già detto che il prossimo anno sarà ancora più corposo il problema è che sta passando un messaggio che secondo me è sbagliato perché il sindaco in questi giorni sta diciamo girando tutte le società sportive del territorio pisano tutte non ne sta saltando una la prima cosa che siccome ci sto andando anch'io col sindaco una delle prime cose che ci dicano grazie sindaco per la sua presenza noi qui non abbiamo visto mai nessuno mai nessuno ecco questa era la politica che portava avanti il partito democratico voi non ci siete mai andati in quelle società sportive qualcuno forse qualche giro ogni tanto lo faceva forse durante le elezioni non lo so ma non ci siete mai andati ad ascoltare le esigenze i problemi è vero le società sportive adesso hanno bisogno di aiuto hanno bisogno di aiuti concreti e noi per quello che abbiamo potuto fare lo abbiamo fatto quel bando quel piccolo bando che si parla di più di 100.000 euro quel piccolo bando l'abbiamo fatto i soldi stanno arrivando alle società sportive e ne faremo un altro come ha promesso il sindaco anche il prossimo anno stiamo cercando di andare incontro alle esigenze delle società sportive non può passare un messaggio che questa amministrazione è contro lo sport e contro le società sportive ecco no perché ci stiamo lavorando dal primo giorno partendo appunto da quello che è la base delle società sportive appunto l'impiantistica sportiva e lì voglio ringraziare davvero l'assessore della trofa per il grande lavoro che ha fatto fino ad oggi e per quello che sta continuando a fare e ringrazio anche il sindaco perché seppur incasinato e impegnatissimo con tutte le cose che c'ha da fare tutte le settimane due volte a settimana va nelle società sportive pisane a parlare a prendere appunti e a portare avanti magari qualcosa dove si può fare ovviamente per venire incontro alle esigenze e alle richieste delle società sportive grazie grazie a lei consigliere Pasqualino do la parola ora al consigliere Capogruppo Amore Gabriele prego mi sentite grazie presidente ma io è un paio d'anni che glielo dico al PD ma le buone idee i buoni suggerimenti che avete non non vi taggate con il marchio PD perché sennò poi arrivano i soliti noti che parlano del passato perché magari diciamo un trascorso breve della consigliatura pisana per cui ora ce l'hanno datemeli a me non li taggate più PD perché si li taggate i PD anche se sono i migliori ordini del giorno anche se sono i migliori consigli possibili vengono stralciati con ragionamenti mi sentite sempre di parte c'è da fare sempre la replica ma presidente lei non deve entrare nel merito del mio ragionamento siamo chiari ma cosa dice ma sto parlando con il mio funzionario ma lei fa di fori vai avanti non si preoccupi faccia allora si faccia si faccia puntare l'audio perché mi sta montando sopra nel ragionamento l'ho chiuso l'ho chiuso mi scusi stavo parlando con il mio funzionario la ringrazio lei il problema è che anche Pasqualino fa un interventino dove dice che il sindaco due volte alla settimana va nei campetti di calcio a sentire le istanze delle persone e che il PD nel passato a me questa cosa che voi continuate a parlare del PD veramente mi sta infastidendo fortemente perché voi dovete parlare di quello che state facendo di quello che potete fare e se l'intervento degli altri o il consiglio degli altri hanno un senso sostanziale oppure no è inutile che voi continuate a dire eh ma perché il PD prima non funziona così qui ci sono le cose da fare c'è qualcuno che fa un ordine del giorno e vi dice come si potrebbe operare come si potrebbe impegnare il sindaco alla giunta se gli impegni consigliati e gli impegni auspicati nell'ordine del giorno sono spendibili accoglieteli perché se no fate le figure barbine almeno a mio avviso ma anche a chi vi ascolta e che non fa la politica di professione o chi non fa non vive il momento della politica come se fosse uno spot elettorale qui si parla nel consiglio si impegna il consiglio come no a prevedere le bandi claudine che riconoscono le società che hanno un contatto con il territorio a prevedere la cancellazione dei cani delle società che soffriscono gli impianti comunali voi invece tutte le volte di quello che c'è scritto non ve ne frega assolutamente nulla ci avete da dire che se le cose che non siete in grado di fare è colpa del PD ma il tempo sta finendo e la colpa se non le fate le cose è solo vostra e verrà fuori a galla a breve alle prossime elezioni saluti e grazie grazie presidente del tempo grazie a te ci mancherebbe altro allora se non c'è nessun altro intervento dalla parola per la leplica al consigliere proponente prego Fiondi prego grazie presidente ma al solito siamo all'ultimo tanti discorsi intervengono i consiglieri in maggioranza noi abbiamo già fatto tutto noi andiamo a parlare con le associazioni è tutto a posto è tutto sotto controllo peccato che poi le associazioni comunque contattano anche a noi e ci dicono che non è tutto a posto e allora regoliamoci evidentemente quando andate non ascoltate bene evidentemente non guardate bene oppure non recepite cosa vi stanno dicendo perché se no c'è un problema di comprensione noi qui chiediamo in questo ordine del giorno un sostegno alle associazioni sportive siete d'accordo o no non è che si può dire ma noi stiamo andando noi si va si incontra viene anche il sindaco siete d'accordo a un sostegno alle associazioni sì o no è facile non è che c'è il grigio il un miso tra il bianco e il nero o sì o no è bianco o nero decidetevi volete rispondere di no e rispondete di no non assumete la responsabilità dove si chiede qua giù siete d'accordo alla cancellazione dei canoni e della società che soffriiscono di impianti comunali sì o no dovete rispondere non è che vi potete sempre no mettere dietro un muro e dire ma noi ci stiamo andando stiamo ascoltando stiamo facendo su questo impegno siete d'accordo c'è una visione comune sì o no questo dovete rispondere se no si parla dell'aria fritta inutile dovete rispondere a quello che noi si chiede siete d'accordo al sostegno alle associazioni sportive sì o no io voglio una risposta su questo voglio una risposta non tanti discorsi grazie consigliere Biondi e ora diamo la parola per la dichiarazione del voto uno per gruppo o del suo delegato capogruppo delegato per tre minuti se c'è qualcuno che vuole intervenire non vedo nessuno ecco consigliere il capogruppo del partito unocratico tra pari Matteo prego a lei la parola per tre minuti grazie può parlare grazie presidente allora questa ordine del giorno dobbiamo renderci conto che è evidente che è un anno ordine del giorno che tra l'altro prende le mosse solamente da una discussione in consiglio ma da un grido che c'è forte nella nostra città da parte di tutte o della maggior parte delle nostre società sportive di qualsiasi sport girarsi dall'altra parte penso sia sbagliato penso sia sbagliato ma non qui dentro non qui dentro fuori perché vi invito vi invito a andare a sentire se forse le società sportive come hanno fatto altri comuni vi fosse detto a quelle che hanno un sta diciamo svolgono le loro attività in un impianto sportivo comunale che in qualche modo gli si può andare incontro fattivamente facendo evitando l'escursione quest'anno del canone che purtroppo diciamo non è riuscito non sono riusciti a coprire con gli ingressi le entrate che già erano poche se gli si va a dire alle società che magari soprattutto quelle che magari non hanno impianti comunali ma pagano anche affitti anche quelle che comunque che pagano impianti comunali guardate metteremo un fondo un altro fondo che ci permette vi permette di uscire tutti i migliori dopo questa crisi ma figuratevi se ora fuori noi veramente stiamo votando una cosa dove una parte io mi auguro che non voti no dove in un ordine del giorno si chiede non cose non si mettono cifre si chiede cose banalissime da dire domani alle società sportive che andate a trovare cioè ci siamo impegnati a levarvi il canone quest'anno ci siamo impegnati magari mettiamo due ciclamini in uno ci siamo impegnati a abbassarvi un minimo le bollette magari perché vi diamo una mano o la manutenzione mettendoci qualcosina in più ci impegniamo a riconoscere non so benissimo come avvengono ovviamente le gare che a parte ma come sa Nerini sa benissimo anche lì dipende come si decide di fare il bando se si dà maggiore peso e un peso particolare a quella che è l'utilità sociale tra l'altro prevedendo anche procedure diverse come quella che giustamente richiamava la consigliera Picchi un affidamento diretto per fini sociali perché c'è un carattere sociale perché vi ricordo ci sono tante tantissime società sportive che fanno oltre che agonismo che magari la parte diciamo che forse è quasi secondaria fanno attività sociale sul quartiere fanno recupero fanno attività di sostegno alle persone che non ce la fanno e fanno anche una grande attività di formazione di gioco che Pasqualino ecco ora a me va bene tutto consigliere delegato Pasqualino allo sport all'Olimpiadi e a tutto il resto e all'incontro abbiamo capito oggi con le società sportive dopo averle incontrate diamone la risposta credo che questa risposta minima minima il dire di no penso sia estremamente sbagliato soprattutto in questa fase risparmiamo da altre parti ripeto risparmiamo da altre parti ma non risparmiamo nel nostro tessuto sociale perché quando è morto non lo richiede più nessuno grazie grazie Zafari la parola al consigliere Pasqualino Giovanni gruppo Lega prego la facoltà grazie presidente non ho la delega Alconi nel senso quelle deleghe importanti le date regione voi a 10.000 euro al mese inventandovi sottosegretari alla presidenza non è di certo questa amministrazione io ho una delega all'associazione di calcio e lo faccio in modo gratuito come ben sai e lo faccio perché ho la passione del calcio non dello sport in generale anche se mi piace tutto lo sport ma la delega è riferita a quel calcio e quando andiamo a trovare quelle associazioni calcio perché io vado solo nelle associazioni calcio non vado in altre associazioni perché non ho la delega quando andiamo a trovare quelle associazioni calcio insieme al sindaco noi diciamo proprio quello che hai detto te diciamo che fanno un grande lavoro che lavorano su sociale e poi rispondiamo a quei fatti rispondiamo ad esempio con una determinazione la numero 728 del 27 luglio 2020 dove dice al fine di sostenere delle associazioni che svolgono attività motore e sportiva e contribuire alla promozione dello sport per l'assegnazione di contributi finalizzati al sostegno dell'associazione società sportive con sede legale nel comune di Pisa per i fabbisogni gestionali necessari a fronteggiare la situazione economica connessa all'emergenza covid-19 il comune di Pisa intende mettere a bando euro 115 mila per le associazioni del territorio comunale ecco così rispondiamo abbiamo risposto esattamente come ci stai chiedendo te e qui non si parla di tre anni fa ma di un mese fa di un mese fa stiamo parlando di un mese fa quindi non mi puoi venire a dire che noi non agiamo in modo concreto perché mi sembra che questo sia un bando fatto un mese fa 15 settembre se non sbaglio è scaduto e questa è la concretezza pragmaticità non c'è stato bisogno di un vostro ODG per farlo lo abbiamo fatto noi quindi consigliere Amore quando dice che noi facciamo parliamo e diciamo noi abbiamo fatto anche questo bando mi dispiace che non è informato su questo ma l'abbiamo fatto sono 115 mila euro che abbiamo dato alle società sportive noi come gruppo Lega voteremo in modo contrario a questa questo ODG grazie Pasqualino consigliere Lega se non ci sono altri interventi no c'è un intervento di Amore che avviene prego la facoltà dichiarazione di voto sì la dichiarazione di voto è che l'ODG è un ODG sano a me mi dispiace che Pasqualino Pasqualino cioè le cose che fa Pasqualino se le fa le fa insieme al al sindaco che vanno insieme però vanno solo per il calcio poi il ganso c'è la delega solo per il calcio è ganso questa cosa che a un certo punto si delega solo invece il nuoto no perché la delega al nuoto se la tiene il sindaco anche quella del tennis oppure potremmo anche prevedere delle deleghe specifiche tipo Gambini pallavolo Nicolai no pallacanestro comunque ognuno la gestione è sua però Pasqualino c'è proprio quella del calcio tipo ho liberato non so se vi ricordate il famoso cartone animato detto questo se avete dedicato avete dedicato 115 mila euro non ho capito se specificatamente al calcio è una cosa non nota non la sapevo va bene però ciò non toglie che se nell'ordine del giorno c'è un intento di dedicare risorse impegno affinché la giunta possa favorire no delle dinamiche questa va sposata non è che non si sposa perché Pasqualino ha dato 115 mila euro insieme al sindaco Conti alla società sportiva e calcio perché poi il discorso era un po' confuso non si è capito dove sono stati dati questi soldi io non lo so chiedo venia perché non sono entrato nel merito però è il modus ragionandi che è sbagliato sono ragionamenti sbagliati se un ordine del giorno è sano e il ragionamento è a favore di aiutare la cittadinanza e i cittadini più sani votiate a favore se il problema è invece che voi non avete voglia di mettere un po' di nero sul bianco e farle voi per cui non l'avete fatta voi allora se non viene non c'è la scritta con logo Lega daremo mandato a Francesca Oletta di rubare il logo della Lega e fare gli atti con il logo della Lega così perlomeno creeremo dei contenuti no ecco questo voglio dire via ritorniamo sulla terra per cortesia il mio contributo è finito grazie grazie a lei il consigliere amore se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione apri la votazione grazie grazie Grazie. Direi, scrutatori, sbarmuti, picchi, colecchia, mi sembra che sia completato, ecco, mancava proprio Serfogli. Ah, è tornato Serfogli, sì. Sì, è finito. A questo punto possiamo... Allora, la picche è risposto di sì, Barbuti, colecchia. Sì, presidente. Perfetto. Allora, chiudiamo la votazione e proclamiamo. Grazie. Favorevoli 9, contrari 16, astenuti 0, non espresso, voto 3, assenti 85, respinto l'ultimo ordine del giorno numero 10, sostegno alle associazioni sportive per quanto riguarda il bilancio di previsione 2020. Seconda proposta, si passa ora alla dichiarazione di voto per quanto riguarda il bilancio di previsione 2020-2022, variazione. prego, se qualcuno si prenota e poi si passa alla votazione. Un consigliere per gruppo per tre minuti. Vedo che si è prenotata la consigliera del Partito Democratico, Ficchio Olivia. Prego, la facoltà. Grazie, grazie presidente. Io per annunciare, come ho già fatto, insomma, ho iniziato questo consiglio facendo alcune considerazioni generali sulla delibera, annunciando il voto contrario anche sulla proposta 1 proprio per l'impianto politico. Devo dire che la discussione che abbiamo avuto sugli ordini del giorno hanno confermato tutto quello che noi abbiamo sottolineato dall'inizio. Noi siamo di fronte ad una delibera e su questo rinformo il sindaco perché a me fa specie che il sindaco mi dica non potevamo mettere la spesa degli investimenti su quella corrente, state facendo il contrario. Quindi io mi domando veramente se si accontezza quando si portano gli atti in consiglio. State facendo il contrario, che è molto più grave. State mettendo la spesa corrente per gli investimenti. Tutto il dibattito sugli investimenti che voi avete cercato di spostare è proprio per la difficoltà della sostenibilità di tutto l'impianto perché mentre sugli investimenti la discussione può essere sicuramente limitata, su quello che avete scelto di fare non ci può essere che una ferma condanna. Lo diceva la trofa, mi sembra, ma forse anche Nerini, spostiamo il palazzo per quello, ormai sono stanca, perché non è una priorità. Ecco, bene, non è possibile ed accettabile che da una delibera di variazione di bilancio che arriva a fine novembre non ci sia previsto nulla, nulla per gli interventi emergenziali legati al secondo lockdown. E il voto contrario su cultura, sport ed altre questioni scuola che noi abbiamo messo, alla fine non fa altro che confermare quello che noi diciamo da tempo. È da marzo che proponiamo attivazioni di dialoghi con le categorie, che proponiamo interventi straordinari, ci siamo parati dietro al governo inefficiente, ora che sulla carta, perché poi alla fine si fa tanti discorsi ma carta canta, sulla carta si scopre che il governo ha non solo ripianato tutte le richieste, ma addirittura in eccesso rispetto a quelle previste, di tutta la variazione che fate, non c'è un euro, uno sui settori in crisi. Uno. Non dico centomila, non dico un milione. Uno. E quello che mi dispiace è che a quegli stessi settori, commercio, cultura e turismo, in modo particolare, è da marzo che glieli promettete. E quando si gioca con queste cose sulla pelle delle persone, non... ecco, io credo che non potrei trovare un termine che non mi... che mi possa permettere di essere educatamente corretta. Voi oggi fate una scelta politica, intascate i soldi dello Stato, ci finanziate gli investimenti e non c'è niente per l'emergenza sociale ed economica. Il voto, ovviamente, presidente, è contrario. Grazie, consigliera Picchi. Se non ci sono altri consiglieri... no, c'è il consigliere Capolù, Pauletta Francesco. Prego a lei la facoltà di parlare. Grazie. Sì, grazie, presidente. Lo accennavo in alcuni casi a consigliera Picchi, l'ho detto all'inizio. Io ritengo che i trasferimenti dati dal governo non siano agli enti locali, non siano sufficienti. L'ho detto, l'ho ridetto. Dopodiché, però, alcune cose ci sono state e su questo noi non possiamo che prenderne atto perché altrimenti la variazione di bilancio non si sarebbe neanche fatta. E questo qui è un dato politico da cui bisogna partire per chiedere maggiori risorse per i comuni alla luce dell'emergenza che c'è, ma non è tollerabile che all'interno di una manovra in cui tutta una serie di cifre che il Comune non ha introtato sono state ristorate, non venga speso un euro in termini di politiche sociali ed economiche per rispondere alla crisi. di contrasto alle nuove e vecchie povertà, di andare incontro su una situazione del lavoro sempre più drammatica e di non prevedere una serie di agevolazioni e ristori a chi oggi non arriva neanche alla seconda settimana. Questo è il dato politico. Ma si può, in pieno secondo lockdown, a non prevedere niente di quei 3 milioni e mezzo di euro? Di quei 3 milioni e mezzo di euro non c'è una lira su questo. È tutto calibrato sugli investimenti. Una parte legittimamente andrà sugli investimenti, ma non tutto. E questo avrà delle ripercussioni sulla città, pesanti sui cittadini e sulle cittadine. E questa è la scelta politica che noi contestiamo radicalmente di questa amministrazione. A questo andrebbero fatte una serie anche di azioni e di iniziative sulle questioni fiscali che non esistono completamente. E invece non c'è traccia di nulla. E come che rispetto a quello che dice il sindaco è esattamente l'opposto. Perché è stato chiarito in commissione che quelle risorse potevano essere utilizzate per la spesa corrente. E mi è stato risposto in commissione alla mia domanda. Abbiamo scelto di metterle tutte sugli investimenti perché gli investimenti erano stati penalizzati a luglio in cui abbiamo utilizzato 11 milioni di euro sulla spesa corrente. Ma non è una giustificazione. Quindi le cose si potevano fare. Non si sono volute fare più una scelta politica. A mio avviso è completamente sbagliato che la città pagherà. E pagherà caramente. Perché poi su questo non c'è neanche una tempestività degli interventi che sono stati fatti in alcuni casi. Ho risorse che su alcuni settori particolarmente fragili sono ridottissime. E il comune di Pisa per fortuna ha un bilancio. Io non ho problemi a dire che sanno. E ha alcune capacità di spesa che non vengono utilizzate. Quindi questo il giudizio è profondamente negativo su una variazione che omette e cancella completamente la situazione di emergenza in cui si trovano i nostri concittadini. E a cui dovevano essere date obbligatoriamente le risposte. Proprio perché quelle risorse c'erano ed erano a disposizione e non si sono volute usare. Il voto è contrario. Grazie, considera Olenta. Vediamo se c'è qualcun altro che vuol parlare. La dichiarazione di voto per la proposta numero due, bilancio di previsione. Non mi sembra di vedere desideri di parola. Le mani non sono alzate. Per cui chiudiamo il dibattito, pubblichiamo la dichiarazione di voto e chiediamo la votazione. Apri la votazione. Grazie. Stiamo votando la proposta numero due, bilancio di previsione 2020-2022, variazione. Poi c'è l'immediata esecuzione. La votata. Presidente Gambini, non so se ce la faceva venire a votare. Va bene. Allora vediamo un attimino. Devo spostare le immagini. Mancherebbe Lazzari. Ha votato. Ah sì, scusami. Allora, se il fogli... Ah, ecco. Mentre lo dicevo. E vabbè, Gambini se non ce la fa... Se il fogli, prima ha votato, mi sembra, no? Prima ha votato. Io pensavo fosse uscito, invece ha votato. C'è sempre. Magari vuol votare. Se volete telefonare o se va... Cosa dite? Scusatori, si va avanti? Si chiude la votazione? O sentiamo se il serfogli vuol votare. Per me va bene anche chiuderla. Balbuti? Io l'ho detto, che mi va bene chiuderla. Ah, e... Colecchia? Non mi va, presidente. Ah, non mi dicevo. Scrivo a serfogli. Scrivo a serfogli. Ma serfogli vuol votare o non li va? Allora, dichiari cosa vuol votare. Sì. Eh? Un attimo, eh, perché qui l'ora è tarda. Contrario. Perfetto, d'accordo, d'accordo. Grazie, serfogli, mi scusi, eh. Ok. Ma sentivo, forse parlavo, ma non lo sentivo. Ecco, l'ha preso ora. L'ha preso ora. Sì, hai votato. Ha vinto. Va bene, via. Va bene, dai. Allora, adesso, scrutatori, siete convinti di chiudere, vero, Picchi Balbuschi? Sì, sì, presidente. Perfetto. Allora chiudiamo la votazione. Per cortesia, programo la votazione, favorevole 19 contro le 9, astenuti 0, non espresso 0, assenti votanti 5. Dunque, approvata la proposta numero 2. Adesso andiamo a votare l'immediata esecuzione per cortesia. se si apre votazione, per gentilezza si vota l'immediata esecuzione della proposta di bilancio, di previsione 2020-2022. È aperta, signor Presidente. Grazie. Sfruttiamo. C'è il folli, ce la fa? Azzerà, ce la fai? Gambini non c'è, eh? Gambini non c'è, manca Azzerà. Azzerà. La presa, la presa. Io direi, scrutatori, va bene, picchi? Sì, va bene, va bene. Sì, presidente, va bene. Grazie. Allora si chiude la votazione, per favore. E proclamo la votazione, favorevole 19 contro le 9, astenuti 0, non espresso 0, assenti votanti 5, approvata l'immediata esecuzione. A questo punto il tempo è passato, non c'è altro da discutere, per cui chiude la serata di questo consiglio.